Nella vita l'importante è sempre ricordare che l'inversione dei ruoli è una possibilità e che solo chi ammette di poter apprendere ancora non smetterà mai di farlo. 5, 4, 3, 2, 1... Ma buonasera a tutti! Amici, videospettatori e in particolar modo, non conoscendo ancora esattamente cosa gli si porrà davanti, buonasera ragazzo! Ora che ci penso se è un ragazzo o una ragazza? Oh mio Dio! Bellissimo! La domanda! La grande domanda! Mamma mia! Che sta succedendo stasera? Ci siamo, ci siamo ragazzi, ci siamo, è incredibile questo momento e guarda, ti direi, per goderci questa introduzione, anche a livello proprio musicale, prima ancora, io intanto vedo il tuo schermo, posso metterlo anche ai ragazzi? Certo! Eccolo qua ragazzi, avrete lo schermino di Mike dal mio punto di vista in alto a sinistra, ma anche il mio schermo immagino sarà già adesso nella live di Mike. Io ti chiederei di premere il tasto A, selezionare la lingua e mandare avanti i primi due dialoghi che leggerai tu, dopodiché, come i dati di salvataggio sono danneggiati, cosa è successo? Ma come? Ma, ma, ma ragazzo, cosa hai combinato? Ma ho solo fatto... Hai cercato di cittare? Al mio gioco? Non sono aggiornato! Aspetta, allora, allora, ok, va bene, cancella i dati di salvataggio della console, non blind, esatto, in realtà l'ho finita, esatto, come la prima live di Dark Souls, l'ho già finito un po'. Non è blind, e i miei sospetti a questo punto sono più che fondati. Vediamo. Comunque si può andare direttamente nelle impostazioni a cancellarlo, o lo puoi avviare con un nuovo utente se hai più utenti nella... No, non sono così smart, io ho il mio, ci tengo. Allora, vediamo un po', impostazioni di sistema. Sì, vai su utenti, diciamo troubleshooting, ma guardate il maestro che fa il furbetto, eh. Sì, sì, vai su, esatto, sull'utente direttamente, se no, gestione dei dati salvati dovresti avere. Ah, forse no, li fai direttamente da impostazioni, allora, tanto ti vedo. Ok, perfetto, perfetto, andiamo. Vai su impostazioni, esatto. Gestione dei dati. Gestione dei dati, bravissimo. Cancella, no, non cloud, gestione dei dati di salvataggio, ecco qua. Pokémon, ok, questi otto mega corrotti. Mamma mia, lui ti fa anche, guarda, il drammatico, vuoi cancellare i dati di salvataggio. Sei sicuro? Ok. Bene. Perfetto. Dicevamo. Che bello, il troubleshooting live. Ragazzo, esatto. Ragazzo. Come ben abbiamo detto, durante questi giorni, mentre tu non c'eri ed eri a Los Angeles, giocheremo il gioco in una modalità particolare che i veterani Pokémon, utilizzano per rendere più difficile la run, ok? Va bene. Adoro il concetto, sono abbastanza familiare col concetto. Mi hanno spiegato della tua Scorched durante questi giorni. Cosa? Ti hanno raccontato? Cosa ti hanno parlato della Scorched? Mi hanno fatto vedere anche l'artwork di tu che ti incazzi con Hot Pocket, mi pare che si chiamava. Sì, Hot Pocket, sì. Guarda, fidati, c'è stato, mentre tu non c'eri, un interscambio di community più grande di quello che ti ha detto. Ma infatti, in realtà, si parla talmente tanto di sborra nella mia chat che è palesemente parte del tuo pubblico che arriva. Giusto, sono loro, sono loro, sono loro, sono loro, esatto, perfetto. Sono gli amici della sborra. Allora, io di qua invece avrò gente più serena, più tranquilla, non ho i diavoli soliti, quindi perfetto. Allora, ok, ciao, felici di conoscerti. Qual è la schermata giusta? Fino a che non parte la musica. Ti do il benvenuto nel mondo dei Pokémon, ok. Oh, ok, ma... Perfetto, non mi muovo. Hai il professore davanti, ma sono anch'io. Esatto, tu sei il professore. Il professore. Santo cielo. Quindi, lascia che ti illustri la run che abbiamo preparato per te, con... Che emozione. E per tutti, in realtà, i blind su Pokémon che vivranno questa esperienza insieme. Ovviamente faccio un po' la hostess dell'aereo. Se siete in blind, la visione è consigliata dalla chat e live di Sabako. Esattamente, come in Dark Souls quando si inverte, esatto. Esattamente. Se non siete in blind e volete spoiler, venite qui. La chat di questo canale, del mio canale, sarà sempre spoiler free, quindi potete fare quello che volete. Free spoiler. Sì, però, esatto. Se siete... Cioè, sarà free spoiler, perdonami. Se invece siete non blind, ma volete vedere il punto di vista del nuovo giocatore, Sabako è ancora l'opzione, rimane l'opzione, insomma, preferibile. Quindi, questi sono i consigli per l'acquisto. Detto questo, cominciamo con le regole, perché ti devo spiegare le regole di questa Nuzlocke. Sì, considera che Nuzlocke l'ho sentito spesso nominare come concetto, ma non ho mai fatto una partita in questa modalità, men che mai figurati quella che hai costruito tu. Quindi, ecco, sono totalmente vergine al riguardo. Molto bene. Carico come una molla. Quindi, in Nuzlocke, come ben magari avrai già sentito, quando un Pokémon è morto, è morto per sempre. Ah, questo non lo sapevo. Io pensavo... Allora, quello che sapevo della Nuzlocke, e magari a questo punto non è Nuzlocke, ti dico, quello che io sentivo della modalità era, puoi giocare solo con i Pokémon... Cioè, i Pokémon che catturi rimangono obbligatori o qualcosa del genere? Cioè, quello che incontri catturi devi tenerlo, non mi ricordo. Cioè, solo... Ho capito, ho capito che regola hai. Ok, ok. Ma è solo una delle. La regola principale è... Se un Pokémon muore, è morto per sempre. Creerai un box, chiamato come vuoi tu. Sarà la tua nomenclatura, lo deciderai con la tua community. Ok. E potrà essere il paradiso, potrà essere le ceneri. Esatto. Le tombe dimenticate. Puoi essere quello che vuoi. Quando i Pokémon sono morti, vanno nel cestino. Che spettacolo! Sì. Detto questo, siccome è la tua blind, ovviamente, mentre in un Nuzlocke normale, quando perdi tutti e sei i tuoi Pokémon nella squadra, nella stessa lotta, c'è un total party kill, e quindi in teoria dovresti ricominciare il gioco da capo, in questo caso, non sarà così. Ok. Continueremo la run in Nuzlocke, chiaramente avrai perso. Vuol dire che hai già collezionato una sconfitta. Una sconfitta. Sarà disonorevole. Un segnalino sconfitta. Sarà estremamente disonorevole. Non posso accettare, ma vabbè, d'accordo, va bene, va bene. Io so che tocco il tasto giusto qui. Sì, esatto, non si accetta, però va bene, vediamo. La regola che tu conoscevi è che puoi catturare, o meglio, puoi tenerti in squadra solamente il primo Pokémon che trovi in ogni percorso. Ah. Ok. Questo cosa significa? Voglio davvero raccontarti la Nuzlocke da videogiocatore a videogiocatore. Questo è un momento preziosissimo di questa run, anche se siamo solo ai primi minuti. Significa che dovrai fare management di dove andare. Ti faccio un esempio. Sei in un percorso e c'è una pozza d'acqua e una zolletta d'erba. Ho capito. Ha perfettamente senso. Il problema è che, come ti avranno spiegato, la scorcia non si fa blind. Lo so. Quindi, beh, allora, lo so che negli specchi d'acqua, se hai culo, ti esce un tentacool. Quindi sono d'accordo che non è la scelta giusta, spesso e volentieri. A meno che non ti serva il tipo, però. Cioè, che figata. Ok, ok. Esatto. Hai bisogno di un tipo acqua? Non andare sull'erba. Certo, certo, certo. Detto questo, anche le città valgono. Ti faccio un esempio stupido. Ok. Se tu dovessi trovare una pozza d'acqua in una città, potresti annotartela e deciderai tu, quando tornare in quella pozza d'acqua, a fare una bella pescatina, gratis, sostanzialmente. Certo, essendo una città, è l'unico luogo in cui poter fare un incontro e conta retrattivamente, certo. Giusto. Esattamente. Esattamente. Tu non sei blind, ma conoscendoti so che è la cosa giusta da fare in questo gioco, perché questo gioco ha una meccanica dell'amicizia, che scopriremo tra un po', che rende molto più semplice del 2006 l'esperienza. Ah, ecco, questo remake. Ma quindi tu parli della meccanica dell'amicizia in cui i Pokémon diventano demigod, critic only, immortali. Ok. L'hai vissuta in Let's Go, giusto? Sì, 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 l'ho vissuta in Let's Go. Quella. Ok, ok. Con la Nuzlocke la cosa diventerà interessante, se ci pensi. Da morire. Perché se tu perdi un Pokémon con il quale eri amico, perdi anche quel... È come XCOM, muori dentro, cioè non puoi farlo. E perdi quel ninja. Allo stesso tempo magari creerà delle suspense importanti quando il tuo Pokémon miracolosamente sopravvive alla morte per sempre, la permadeath con un PS. Ma è bellissimo. Sì. E io penso Gata. Ok, 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 ok. Ci sarà un momento, credimi, ma tu oggi scoprirai solo un 10% di quello che ho in serbo per te. Ci sarà un momento in cui potrai anche rinunciare a questa amicizia con un certo artificio. Ma sarà tua la scelta. Ok, 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 ok. Hardcore upon hardcore, va bene. Io parlerò adesso, ma sappi che poi la run sarà tua. Io ti seguirò, sarò la tua ombra, come tu per me in Dark Souls. Sì, sì. Quindi adesso io ti riverso tutto il sapere e poi questo sapere te lo metti nel tuo zaino, negli strumenti chiave. Perfetto, perfetto, geniale. Ok. Allora. Dicevamo, primo percorso, cioè il Pokémon che puoi avere in squadra è solamente il primo che trovi in ogni percorso, in ogni città. Ok. Solitamente per riconoscere i Pokémon che ti accompagnano viene reso obbligatorio reniccarli. Certo, 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 certo. I ragazzi in chat stavano già facendo delle teorie su quali sarebbero stati i tuoi nick. Se il primo si fosse o meno chiamato Phalanx, si sarebbero o meno chiamate Phalanx. Stavo pensando esatto, sì, sì, mi conoscono i ragazzi. Ecco, quindi non so, vedrete. E dicevo quindi, in questa esperienza però, rispetto alle Nuzlocke tradizionali, ci metto dei plus per rendere tutto più interessante. Siccome negli ultimi giochi Pokémon dalla sesta generazione, dal 2013 di X e Y, è possibile acquisire esperienza anche catturando Pokémon. Sì, mi ricordo. Le descrizioni sono particolarmente importanti. Alcune addirittura saranno utili quanto i nostri anelli su Dark Souls, altre no. Le descrizioni dei Pokémon catturati nei Pokédex, intende? Sì, alcune sono devastantemente importanti. Ok. E sono sempre state tutte canoniche? Sì, 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 sì. Perché alcune sono... Io me ne ricordo un paio pazze, 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 ok. Ah, c'è Cepardini in chat? Ciao Francesco. E quindi ci sono tanti tipi di descrizioni, insomma, che secondo me saranno utili per la tua speculazio sul mondo Pokémon. Quindi io ti faccio davvero catturare tutti i Pokémon che vuoi, ma... Il primo è quello che rimane in parte, ok. Detto questo, andando avanti, il gioco si apre. Perché se tu dovessi catturare, ti faccio un esempio, un Pokémon, diciamo un Ponita, nel percorso 1, come primo Pokémon, e poi ritrovi quel Pokémon come primo Pokémon in un altro percorso, Rerolli. È un bonus. Ah, figo! Ok. Non perdi il primo Pokémon. Il primo Pokémon è il primo Pokémon inedito. Inedito, ok. Esatto. Bello, bello. Questo significa anche che siccome io ti lascerò catturare tutti i Pokémon che vorrai dopo il primo di un determinato percorso, Se tu dovessi catturare un Pokémon X per il secondo, ok, c'è per secondo, il Pokémon catturi prima un Ponita e poi un Rapidash per secondo, quando troverai quel Rapidash come primo Pokémon di un altro percorso, potrai scegliere se catturarlo o no, ma non varrà come Rerolli, cioè sarà come fosse il tuo primo e unico Pokémon di quel percorso lì, per non farti barare, diciamo. Tu puoi catturare quanti Pokémon vuoi, ma il primo inedito sarà sempre l'unico inseribile o meno in squadra. Ti ricordo anche che se dovessi fallire quell'unica cattura o ammazzarlo per sbaglio, ti sei bruciato quel percorso. Quindi in pratica, cioè in realtà, fammi capire, il primo Pokémon che incontri devi catturarlo, non è una scelta. È certo. Ok, esatto, perfetto. Quindi tu mi offri invece una scelta se trovo un duplicato di quelli che ho già catturato in un percorso successivo? Non ho capito nemmeno io. Stavo leggendo anche la mia chat che c'era una domanda alla quale dopo voglio rispondere. Ok, l'ultimo step, l'opzione che mi dai, qual è questa novità? Cioè tu, allora, Pokémon iniziale, primo Pokémon trovato in un percorso, Pokémon X lo catturo, regola, diventa quello permanente del party. Gli altri li posso catturare per Codex, per esplorazione, per fare punti esperienza. Quindi per esempio catturo Ponita, è obbligatorio. Trovo un Rapidash, lo catturo per il Codex, non fa parte del party. Poi mi dici, sei in un altro percorso, trovo... Quel Pokémon catturato solo per le descrizioni, lo trovi, ok? Ho l'opzione di non catturarlo, dicevi? No, puoi catturarlo, ma se lo skippi, non vale come Pokémon già ottenuto e quindi skippabile per ottenere un rerolli in quel percorso. Se vuoi te lo rispiego. Ah, ho capito. Ok. In modo tale che tu puoi catturare quanto vuoi, ma ricordati che il primo Pokémon non soprannominato, mettila così, perché tu puoi soprannominare solo quelli che ti entrano in squadra, il primo Pokémon non soprannominato è comunque quello che potrai scegliere se catturare o no come unico del percorso, per ogni singolo percorso, ok? Tanto poi diventerà più semplice vedendolo. Certo, 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 certo. Ovviamente rispondo alla mia chat, ho l'esempio di Ponita e Rapidash era casuale, ovviamente per le evoluzioni non conta, ma ci arriveremo in corso d'opera, ok? Va bene, va bene. Non è possibile inondare Michele adesso di informazioni che possono essere eccessive. Detto questo, quindi, avremo poi anche una nuova meccanica, che si chiama Grandi Sotterranei, e questi Grandi Sotterranei funzioneranno in maniera diversa, che ho inventato io lì, delle regole, e sarà il momento secondo me più divertente. Ma addirittura... Non ti anticipo nulla, ma sappi che ci sarà qualcosa di particolare lì, durante i Grandi Sotterranei, sempre relativamente parlando alla cattura. Potrai utilizzare quanti strumenti vuoi, a livello di cure, non puoi revitalizzare, ovviamente, non è possibile farlo. Certo, perché c'è la permadeath. Bravissimo. Il consiglio che ti do è quello di catturare più Pokémon possibile, nei percorsi di non farti sfuggire mai la prima cattura inedita, il primo Pokémon non precedentemente sopravdominato. No, certo, perché altrimenti il party ha un membro in meno per molto tempo. Bravo, bravissimo, in più. Questa Nuzlocke è particolarmente remunerativa per i Pokémon catturati e boxati, perché c'è il condividi esperienza obbligatorio e che dà a tutti l'esperienza. Boxati? Cioè, prende punti esperienza il Pokémon nel box? No, 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 nel party. Ah, ok. Però questo significa che se tu hai boxato un Pokémon di 10 livelli indietro, ormai rispetto al tuo party, in qualche lotta raggiunge i suoi amici. Quindi è meno punitiva la perma adesso di un Pokémon. Nei vecchi giochi Pokémon, quando ti trovi a perdere un Pokémon a livello 50 e nel box ce li hai al 10, faglili fare i 40 livelli. Sì, esatto. Qui invece è protetto. Sta nelle retrovie finché non diventa in grado di agire. Quindi, ma un Pokémon in un box come fa poi a entrare nel party? Non dovrebbe poterlo fare? Parli in caso di sconfitta totale? No, no, tu puoi finché catturi il primo Pokémon di ogni percorso. Ah, giusto, quello sarà 6. Giusto, hai ragione, perché è vero, gli slot sono 6, ma i percorsi sono una ventina di solito, una trentina. Quindi, finiranno... Esatto, fino a circa 30, 35 Pokémon. Esatto, figo, figo, ho capito. Hai capito, hai capito. Nice. Se avrai mai domande, ovviamente io sono qui per te. Certo, certo, certo. Ultima cosa. Diamante e Perla, e quindi Diamante e Lucente e Perla Splendente, con loro, sono gli unici giochi Pokémon con della lore. Tutti gli altri hanno una trama prevalentemente banale, peraltro, tranne per i capitoli bianco e nero. Ok, perché me ne hanno parlato tanto, io non li ho giocati, ma me ne hanno parlato tantissimo di bianco e nero. Ma qui hai tanta lore. Quindi... Più? E non è stata più ripresa, eh? Leggende Pokémon Archeus, amico mio, stiamo... Eh, sì, vero, potrebbe essere l'occasione. Ok, ok, ok. No, 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 credimi, credimi. Leggende Pokémon Archeus, non ti dico altro. Noi stiamo facendo questo lavoro per quando giocheremo insieme, leggende Pokémon Archeus. Ma io non ti dirò niente. Va bene. Le speculazioni partiranno tutte da te. Completamente. Se però vorrai chiedermi qualcosa, chiedermi cosa ne penso, un po' come io lo chiedo a te. Certo. In Dark Souls sei libero di farlo. Qui in chat mia, spoiler free. Qui in chat di Sabaku invece no. Sì, certo. Esatto, ragazzi, ovviamente, ovviamente. Il post-game del gioco io non l'ho fatto. Ok. In live lo farò con te. Bello. Io non ho blind run, non ho gameplay, quindi per me sarà un contenuto inedito per loro. Il post-game e lo faremo insieme. Stupendo. Che figata. Anche quel contenuto lì andrà poi analizzato, ci saranno speculazioni da fare che saranno appunto insieme, perché neanch'io so niente. Sarà un po' come l'Helden Ring. Sì. Perché è qualcosa di nuovo, c'è un elemento in particolare nuovo e ne parleremo insieme quando anche tu avrai cementificato tutta la storia di Diamante e Perla. A me mi intriga tantissimo che tu abbia detto che questo è il capitolo con della lore. Sì. È l'unico, i ragazzi in chat da te, che prima sono stati da me o comunque che hanno già giocato il gioco, potranno confermartelo. Non aspettarti, ovviamente, il livello di profondità e più che altro di voglia di far capire al giocatore di Dark Souls. No, no, ma qui in qualche modo sembra essere stata un'idea che poi tra l'altro come concept di sviluppo dell'ambientazione a quanto pare non è stata ripresa per tanti anni e generazioni, quindi tranquillo, so che sto giocando Pokémon, però è intrigantissimo sapere di poter giocarci dentro a quest'idea perché non è del tutto inventata ma ha delle basi che questo capitolo ha voluto inserire ed è bellissima come cosa, mi piace molto, mi piace molto. Ma ci sarà un luogo, non solo questo, ci sarà un luogo solo adibito ai dialoghi sulla lore. Ma dai. Ok? È l'unico gioco Pokémon che lo fa. Ok. Ci arriveremo. Ci arriveremo. Ok? Bellissimo. Le mie regole sono finite, tocca a te, ti passo la palla e stai per fare la scelta del tuo starter. Ah. A tu verrà va bene. Ah, lo starter ti viene dato all'inizio della creazione del salvataggio e non durante un dialogo ripetitivo. No, 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 tra poco. Ah, tra poco. Ti devo dire, prepara il mindset. In questo, ragazzi, avete già intuito che non ho mai giocato questa generazione. Io fondamentalmente, esatto, io qui avevo avuto l'allontanamento dopo la terza, questa è la quarta generazione, giusto? Certo. Ecco, appunto, questa è la quarta generazione, mi sono allontanato dopo la terza, terza giocata anche a un certo livello di superficialità e poi sono rientrato, diciamo, full immersion con la sesta, che era X, Y, anche a causa dell'evoluzione 3D che mi aveva intrigato nello scoprirla, no? Ah, vediamo un po' che cosa hanno fatto e soprattutto ovviamente c'era Luke degli starter di rosso, verde e blu e quindi mi prese e poi rimasi scottatissimo da sole e luna perché non avendo standard, non avendo giocato a Pokémon praticamente per la sua totale evoluzione anche di Combat System perché so che la quarta, cioè ho fatto un video poi efficistico su Pokémon e ho visto quale capitolo ha aggiunto cosa come meccaniche, io praticamente ho saltato le cose più belle, però quando sono tornato su X, Y non avendo standard so che non è particolarmente l'amore della community ma a me piace tantissimo perché era tanto che non giocavo a Pokémon e quindi mi divertì, oltre al fatto che era la prima volta che ci giocavo da grande, quindi avevo la possibilità di scoprire qualcosa che si traduceva in i Pokémon belli sono quelli forti, non quelli belli, no? e quindi c'è stata quell'evoluzione, poi però sole e luna mi ricordo che mi distrusse il cuore soprattutto perché mi stuccava il fatto che non si giocasse quasi mai, era tutto dialogo, dialogo, dialogo e non proprio stellare e quindi è fighissimo tornare qua a qualcosa che non conosco che tra l'altro tutto quello che leggo nei forum da anni, da tantissimi anni, era il fourth gen best gen, quindi sono... stai per vivere l'esperienza di level design apice di Pokémon, questo te lo posso garantire che figata, che figata Ok, allora vediamo un po'. Per altre cose no, ma a livello di level design sì. Cioè, mi piace solo pensare a level design di Pokémon. Ah, tu non hai idea. Ah, tu non hai idea. Stupendo. Allora, qui abbiamo il nostro prologo. Questo mondo è abitato da creature chiamate Pokémon. Oh. Quale sceglie? Oh, Moonschlux si chiama. No, 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 non arriva ancora la scelta. Perfetto, noi esseri umani viviamo fianco a fianco con i nostri amici Pokémon. A volte sono per noi compagni di gioco, a volte preziosi collaboratori. Alcuni fanno squadra con i Pokémon per sfidare altre persone, stabilendo con essi un profondo legame. Ah, cosa faccio io? Io mi dedico alla ricerca sui Pokémon, dimostrando sana incompetenza di regione in regione da anni e anni per ciascuno dei miei colleghi. Dai, il Professor Oak è 150, poi 250, poi 350. Cioè, è sempre il... Ah, cazzo, c'è un'isola di là? Oh, no! Ho buttato tutta la mia vita! No? Potremmo parlare un giorno anche del concetto di Pokédex. Ok, 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 ok. Non lo faremo adesso. C'è una spiegazione, in realtà neanche tanto così lontana dalla verità o comunque dalla logica, sì. Sì, 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 quello che comunicano i giochi, però obiettivamente è il discorso che tutti abbiamo fatto, soprattutto da piccoli. Sì, io sono rimasto lì, infatti, a riguardo. Va bene, perfetto. Il Pokédex è stagnante, vi dicono qua. Ma adesso parlami un po' di te. Oh, carino. Ok, questa è la scelta del personaggio moderna, infatti. Allora, noi ci facciamo così, mulatti, carini. Ah, è vero, il nome è Sab, ovviamente. Sab, bello breve. Come hai detto? Sab? Sì. Eh, è proprio un bel nome. Con questo, ovviamente, le gag si spregano, poverino, chissà cosa possiamo dirgli. E questo? Aspetta, ma sarà Amico Amico e basta? O avrà un po' di... di... diciamo... non dico palle, però di voglia di giocare con me, questo Rowan. Beh... Perché... perché in Spada e Scudo ho avuto troppe coccole. Che bello, mi hai battuto! Finalmente ho perso! Sì, lo so che poi in realtà psicologicamente ci sta, perché il personaggio è super interessante in Spada e Scudo. Mi è piaciuto molto come si sviluppa. Perché mi aveva... ecco, mi ha sorpreso, mi ha sorpreso un sacco il fatto che avesse in realtà quel senso di inferiorità, bello, mi è piaciuto. Però mi mancava il Gary offensivo, incazzoso. Non aspettarti niente del genere qui. Va bene, va bene, va bene. Barry è uno dei personaggi che più odio dei Pokémon, però. Prepara. Allora, sappi che il nome canonico è Barry. Se invece vuoi dargli un nome, prego. No, 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 no. Qui voglio il canon, dobbiamo giocare di ambiente. Quindi Barry va bene. Bravissimo anche io. Anche per me la scelta è Barry. Bene, è arrivato il grande momento, Sub. La tua personalissima avventura sta per cominciare. Nel corso del viaggio incontrerai molte persone e tantissimi Pokémon. Farai sicuramente tante nuove scoperte e imparerai qualcosa, anche su te stesso. E adesso vai, tuffati nel meraviglioso mondo dei Pokémon. Oh, quanto ottimismo, mi fa piacere. Oh, sì. Eh, sì, prima. Si è scordato di dirti che i Pokémon muoiono se perdono gli accappi. Sì, esatto. Oh. Ma al grado gli sforzi, il team di esplorazione non ha potuto visitare il rarissimo Pokémon cromatico. Ah, il Guerrero Soloso non è apparso al cospetto dell'ormai delusissimo team. Addirittura gli Shiny come vera e propria storia, al di là della... Tu hai giocato Ore Argento? Sì, 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 sì. So che lì era stato presentato finalmente a livello canonico l'idea anche della storia. Però sentirne parlare così non me l'aspettavo. Questo era un teaser addirittura al fatto che qualche anno dopo sarebbero usciti i remake di Ore Argento, Argold e Solsilver. Chiaro. Così ti do un po' di storia di quello che abbiamo vissuto noi. Adoro. E con questa notizia si conclude alla ricerca del Guerridos Rosso. Un reportage di Giubilo TV sulla rete nazionale. Alla prossima. Stessa ora. Stesso canale. La Switch, ovviamente. Oh, l'inizio di Pokémon. Ok. Ti dia due curiosità, anzi una. Vai, sono qui per questo. E intanto comincia a fare, insomma, la mano con questo movimento otta direzionale un po' bizzarro. Sì, è vero. È vero, è vero. Sì, sì, è vero. Sì, sì, è vero. Vedi la carta da parati? Certamente. In alto. Vedi che è a zigzag a un certo punto sopra? Sì, come se fosse un germoglio. È una citazione al fatto che il DS non riusciva a renderizzare le linee dritte. Il motore grafico di diamante e perla lì sopra andava a puttane. E quindi il LCA ha fatto in modo di canonicizzare un difetto grafico dei primi giochi facendo questa... Insomma, questa carta da parati che si distrugge in alto per questo motivo. È deliziosa questa cosa. Adoro questi dettagli. Tra l'altro, a quanto pare, è diattriba finita. Un Nintendo Switch. It's the end, guys. È maschile. Allora. No, è vero. Non me ne ero accorto di questa cosa. Sono male. Sì, è fatta. Un Nintendo Switch. No, io la chiamo la Nintendo Switch. È finita. No, ma è perché giustamente noi abbiamo anche lo Switch, come può essere quello Ethernet, HDMI, eccetera. Quindi ti complica la vita terribilmente dagli il maschile. Però sai, no? Il Nintendo. La Nintendo. Esatto. Ecco, le persone che fanno lottare i Pokémon sono degli allenatori, va bene. Comunque vedo che vive in una famiglia abbiente questo ragazzino, eh. Il nostro sub sta messo bene comunque, porca miseria. Anche l'RTX. Sì, no? Esatto. Perfetto. Mamma single, come sempre? Sì. È gran mamma. Sì, sì. Barry è venuto a cercarti poco fa. Non so che cosa volesse. Ma ha detto che era un'emergenza. Ok, torna in posizione. Allora. Vabbè, ma all'inizio è sempre dolcissimo. Nel frigorifero c'è il dolce preferito della mamma. Eh, dici, qual è, no? La cucina è pulitissima. Ci si può specchiare nel pavimento. Ah, ah, ah. Smart. Bravi. Per farlo notare. Questo è il luogo dove la mamma prepara i suoi mani caretti. Stupendo. Va bene. Sai quando è impaziente il tuo amico Barry? Ho capito, deve coetare. È sparito prima che potessi chiedergli di cosa si trattasse. Eccoci giunti alla proclamazione del vincitore. Ah, ma. Si è giunti che la performance migliore. Ah, la gara. Ah, ok. Ci sono. Io non ho mai partecipato a qualcosa del genere. Parte forse qualche minigioco nei quelli recentissimi. Ci sono le gare di bellezza, vero? Tipo di codi. Le faremo. Ok. Ok. Fra, che ha sbaragliato la concorrenza con un Pokémon più grintoso che mai. Fra. Non sono io. Non sei tu. No, non sono io. Però è perfetto. È qualcuno. È perfetto, cioè. Io sono Water Enzo, se ti interessa. Capisco. Ah, sì. Sub. Mi chiama per nome. Non andare nell'erba alta. I Pokémon selvatici potrebbero attaccarti. Questa cosa sottovalutata fino a spada e scudo, in cui finalmente i Pokémon ti fanno capire che possono essere pericolosi davvero. Sì. E infatti in Pokémon Arceus viene reso terribilmente evidente che sono creature ostili nel passato, prima di essere magari opportunamente placate o addestrate all'interno della società, della civiltà. bello. Se avessi un Pokémon non sarebbe un problema. Ma per adesso fai attenzione. Vabbè, fanno gatekeeping. Perfetto. Andiamo. Allora, guarda. Dimmi. Prima di spostarti, facciamo una cosa che se no ce ne scordiamo. Vai, dimmi tutto. Tasto X. Sì. Opzioni. Vado. Puoi mettere il testo veloce. No, no, no. Opzioni. Puoi mettere il testo veloce. Certamente. Togliere l'autosalvataggio. Sì, va bene. Ok. E togliere anche, guarda, aspetta, vai sopra, perdonami. Pokémon in lotta. Ok. Non sostituire. Non sostituire. Chiaramente, ha senso. Perché è sempre una cosa in più. Ok. Premuola. Più che altro quella è proprio la cheat mode. Hai un turno in più rispetto all'avversario. Quindi non va bene. Assolutamente no. Puoi anche cambiare, se vuoi, le cornici dei menu. Se ti interessa. È un po' flavor come cosa. Esatto, lì. Cambia. Un carino questa. Fai inviamole tutte. Eh, certo. Non d'accordo. Oh. Deliziosa. Un po' brucia gli occhi. Proprio deliziosa. Per cui rilassano. Ah, ma son tante, eh? Sì, sì. Son tantissime. Eh. Eh, ok. Quindi facciamo questa, dai. Perfetto. Ci siamo. Che figata. Tu pensa... Molto bene. Tu pensa alla tua introduzione, alla nostra introduzione, alla mia introduzione in Dark Souls 1. Pensa al percorso fatto. Che figata, ragazzi. Che bella. Mike, siamo diecimila persone. Non so se rendo l'idea. Va bene. Let's go. Allora. Da me sono tremila due, da te settemila. Sì. Va bene. Siamo diecimila persone. A vedere sta roba. Allora. Va bene. Sono io che non so sprintare o ancora non si può? Forse non si può. No, si può sicuramente. No, non si può ancora. Ah, ok. Perché mi ricordo che talvolta mi dicevano ai vecchi tempi. Guarda che... Ok. Va bene. Oh, lui è quello che parla della tecnologia. Sì. È sempre lui. È sempre lui. Si può giocare con persone di tutto il mondo senza fili. Oh. Il riflesso nell'acqua. Esatto. Sappi che talvolta perderà di risoluzione quel riflesso. È la stagnazione. È la tecnologia. Perfetto. Va bene. Incredibile. Quindi, ok. Non si può parlare alle finestre come in Sekiro. Casa di Saga. No, se cerchi elementi di Sekiro non credo li troverai. Mi scrivono in chat visioni di grasso. Sì. Allora, tu hai detto prima che avevi il mio schermo in alto a sinistra. Il tuo devo metterlo a sinistra, quindi meglio a sinistra che a destra. Secondo me è il punto migliore, perché in alto a destra hai le barre della vita degli avversari. In basso a sinistra è la tua. Perfettamente senso. Aspetta, eh. Chiaramente, ragazzi, non ci sono le prestazioni di PS5, perché qui dobbiamo ricorrere a un metodo un po' agricolo pastorale. Esatto. Beh, per certi versi, per alcuni versi, sono superiori. Perché non hai la risoluzione super danneggiata dello streaming vero e proprio della Picture in Picture PlayStation. Cioè, se mettesi full screen, anche grazie alla semplicità di... Ah, va a sca... Ok, questa è una cosa che non sapevo. A volte, a volte. Allora, vediamo un po'. Hai sentito la novità? Quel professore che studia i Pokémon è ritornato nella sua città. Dicono che sia stato via per ben quattro anni. Non so se hai trovato qualche Pokémon particolare in tutto quel tempo. Oh, quattro anni sono tanti, veramente tanti. Sono tanti, sì. Quindi questo ha viaggiato. Quindi il professore non è stato qua. Esatto, non è stato in sede stabile. Ah, voglio un Pokémon carino, sub! E ho capito. Chissà se... Chissà se potrò portarle un Pokémon carino. Io penso già alle quale, ai segreti. Ce ne sono alcune di queste, sì, sì, senz'altro. I Pokémon vanno trattati con i guanti. Impara come fare alla scuola per allenatori. Queste sono pubblicità. Sì, infatti è carina sta cosa. Vabbè, esposizione... diegetica. Due foglie. Fresca e libera. Ben due foglie. Sì, sì. Oddio! Jumpscare. Esatto. Ma, 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 ma che succede? Oh, sei tu, sub! Ok, questo è... Ok, cazzo, è già... È iperattivo. Io sto andando al lago! Vieni anche tu, dai! E sbrigati! Ok, sub! Se arrivi tardi ti faccio una bella multa di un milione di... Come si... Poche dollari. Poche dollari, poche dollari. Giustamente. C'è il taglio di dollari. Oh no. Oh no, ho dimenticato una cosa! Ok. E chiude la porta. Ah! Insisto? Dopo, magari. Apro. Ah, posso entrare. Ottimo. Vai, vai, entra, entra, entra. Sfonda. Proprietà privata non è un problema per gli allenatori che giocano in Nuzlocke. Vabbè, ma... Ha una matrice JRPG, quindi il furto nelle case dei cittadini di qualunque posto è assolutamente lecito. Oh, ciao, sub! È stanca lei perché la madre è di Barry. Sì, non è semplice. Stai cercando Barry. È uscito un attimo e poi è tornato di corsa. Non sta mai fermo quel ragazzo. Non capisco da chi abbia preso. Disperata la donna, poverina. La felicità è un Poké Kron al polso. È un predecessore del robottino isterico che abbiamo avuto nei successivi... Del Rotom Dex? Eh, sì. Sì, bravo. È una meccanica di gameplay molto simile. Ah, poi dimmi quello in caso che è nuovo nel remake, perché sono curioso di... Certo, lo farò. Perfetto. Un'intera nuova meccanica integrata con la nostra Nuzlocke ti verrà proprio raccontata così, non preoccuparti. Fichissimo. È meglio che prenda la borsa e le note di viaggio. Oh! Oh, sub! Parta la musichetta. Andiamo al lago! Me l'hai già detto. Ti aspetto giù in strada! Se arrivi tardi ti rifilo una multa salatissima di 10 milioni di poche dollari. È cresciuta. Esatto, sì, sì, si è decuplicata. Va bene. Ok. Ispezione, ispezione. Esatto. Scherzi. Regola numero 1 dell'avventura. Con il pulsante X si apre il menu principale. La 2 è che puoi salvare i progressi di gioco con salva, specialmente se hai rimosso quello automatico. Ok. Purtroppo hanno rimosso la possibilità di fare le animazioni speciali girando su se stessi, 0 su 10. Ah, è vero. Mi dispiace. Me lo ricordo. Peccato. Ok, quindi abbiamo, vabbè, piantine. Frigo. Qui non c'è il dolce preferito dalla mamma di Barry, va bene. Purtroppo no. Non ha una storia felice questa donna, né con il figlio né con i dolci. Esatto. Purtroppo è andata così. Non molto fortunata. È vero che a volte i Pokémon selvatici attaccano alle persone, ma è anche vero che spesso fanno amicizia con la gente. Sì, ho capito, ma get a clue, nel senso, se devi proprio... Oddio, aspetta, aveva un Idol Alienation, si stava stiracchiando mentre parlava? Il nostro avatar, sì, sì. Sì. Ah, ok, ok, ok. Si stiracchia. E lui? Orientale. Sì. Stai andando di nuovo da Barry. Vero. Siete proprio inseparabili voi due. Beh, lui è un po' aggressivo, quindi... Pensa anche noi che vita di merda da avere, insomma, un amico così difficile da sottotitare. Quindi l'avventura Pokémon è la nostra salvezza. Sì. Che poi... Per mostrare la superiorità nei suoi confronti e allontanarlo. Considera che, per quanto è semplice la rappresentazione anche dei conflitti della vita in Pokémon, è assolutamente uno dei mondi virtuali in cui sarebbe più semplice e bello vivere, porca miseria. Pokémon è veramente il mondo perfetto. Sono d'accordo. Questo programma è stato gentilmente offerto da JubiloTV. Ok. Eh, la troveremo poi, JubiloTV. Eh beh, certo, sì, dove, infatti. In questo gioco potrai anche essere intervistato a un certo punto, quindi... Daremo anche qualcosa alle telecamere di JubiloTV. Bellissimo. Sì, sì, sì. E intanto ringrazio Francesco Pardini che ha regalato delle sub prima per, insomma, dare la benedizione definitiva a questa run. Che stupendo. Grazie. Stai cercando Barry. L'ho appena visto che scappava in tutta fretta. Ma non penso che sia andato lontano. Perché non provi a raggiungerlo? È bellissimo che l'attesa della lettura implica l'inizio, cioè conduce all'inizio dell'idol animation. Eh sì. Mi sembra che un giro tu fa, ah che palle! Me ne voglio andare! Allora, percorso 201. Sì. Quindi qui ti posso dire che la numerazione è globale. Eh esatto! Per quanto il percorso 1 è accanto. Esatto, era... stavo per farti esattamente questa domanda. Perfetto. È così, è esattamente così, anche se purtroppo non so dirti con precisione come si è fatto il mondo Pokémon. Possiamo ipotizzare quali regioni siano adiacenti ad altre. Anche in questo gioco avremo dei riferimenti geografici che ci faranno capire che Sinnoh è lontana, per esempio, da altre regioni Pokémon. C'è chi, con credo grande coraggio e palle pienissime, ha provato a fare una ricostruzione del mondo Pokémon, mettendo insieme tutti i dialoghi presenti in 25 anni di franchise, ma ad oggi non c'è un mappamondo Pokémon legito. Ho capito. È dire che ero convinto del contrario, perché di solito nei Pokémon Center ci sono delle mappe, ma evidentemente non di giochi multipli, solo singoli. Cavolo, cavolo. Diciamo che tu hai Kanto e Joto, che sono adiacenti, in quanto è ispirata proprio a delle regioni giapponesi. In realtà anche questa lo è, è ispirata all'Hokkaido. Ok, ok, ok. La parte nord, diciamo, del Giappone. Però, ecco, solo Kanto e Joto hanno un bel collegamento. E quindi Kanto e Kioto sono accanto, esattamente. Mentre qui non sappiamo bene dove ci troviamo. Sappiamo solo che siamo lontani da certi punti, ma lo scoprirai parlando con tutti. Dai! Ehi, hai visto anche tu il servizio in TV? Alla ricerca del Geridos Rosso, la misteriosa apparizione del furibondo Pokémon in un lago. Ma è quella spedizione? Cioè, è quell'evento di Argento e Oro? Più o meno. Diciamo che nel nostro caso non era una spedizione, però sì, un reference al tuo giocato. Ok, ok, perché magari noi come protagonisti di Oro e Argento lo abbiamo poi beccato, però altri... Comunque è in quel luogo, sta parlando di Joto. Assolutamente, è il lago d'Ira di Joto. Ok. Quella trasmissione mi ha fatto pensare. È probabile che ci sia un Pokémon come quello anche nel nostro lago. Quindi ho deciso. Oh, il rasoio di Ockham Berry, sei un maestro. Andremo a cercare quel Pokémon! Le speculazio. Oh, ok, bisogna fare la musichetta del party, si è aggiunto. Carina sta cosa. Perfetto. Percorso 201, due foglie. Piccolo trivia di mia vita. Io sono vicino a un paesino che si chiama Due Casette. Di nome e perfetto. Esatto. Allora, io ovviamente percorso opposto. Anche perché non posso andare nell'erba. Se ci vado mi sa che mi dice di non andarci, ma voglio vedere. Mi avviserà. Attento, che fai? Pazzo, ti mangiano. Ricordi che cosa ti ha detto la mamma? Mi raccomando, Sub, non andare nell'erba alta. O i Pokémon selvatici potrebbero attaccarti. Ah, voce dell'erba. Voce della mamma. Esatto, esatto. Ok, 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 ok. Voce della mappa. Della mamma, non mappa. Ok, bellissima. Secondo me ti diverti un sacco comunque a fare il maestro. Io non sapevo ci si divertisse così. Tu non sai che sta succedendo qui, ma c'è un'altra live proprio qua. Credo che anche di là c'è sempre un'altra live. Sì, guarda, ti assicuro, ti assicuro che se un giorno, un giorno, non lontanissimo, ma un giorno, spizzerai ogni tanto, anche fuori dai lavori di Goober, vedrai che io sto sempre con la faccia così contentissimo e tutti impazziscono. Perché qualunque cosa accade fa parte di quelle... È bella che bella l'inversione, sento c'è lo professore. Se dovesse mai fare video su questa run, Goober non guardarli. No, certo, ci scambiamo il divieto, assolutamente. Beh, perfetto. Perfetto. Per il lago verità, il lago delle emozioni. Ok, beh, certo, cercano proprio di aumentare il turismo, d'accordo. Benissimo, al lago, andiamo a cercare il Geridos Rosso. Sì, ma tu hai quindi Barry a Pokémon? Perché se vuole cercare il Geridos Rosso è un mostro di 20 metri. No, Barry è un coglione. Mi dispiace, no? Ok. Che succede? Professore, non c'è niente di strano neanche dall'altra parte. Forse mi sono sbagliato. Sembra che sia cambiato qualcosa rispetto a prima, ma... Non importa. Abbiamo comunque visto il lago. Facciamo che è sufficiente così. Oh, che bei baffoni! Lucinda, andiamo. Ma Lucinda è palesemente... L'ho vista ovunque. È tipo protagonista... Bravissimo. Bravissimo, sì. Nell'anime. Nel cartone animato Lucinda è presente come personaggio che sostituisce in qualche modo Misty. Ho capito. Nice. Professore, è stato via per ben quattro anni. È felice di essere... Non è una domanda da fare. Si deve tornare a due foglie. Ed è... Ha viaggiato il mondo per quattro anni. Poverino. E torna a due foglie in cui ci sono due mamme single con i frighi vuoti e berri. Però lui ha dei bei baffoni, tortigiani quasi. Sì, no, esatto, esatto. Potrebbe... Perfetto. Sì, hai ragione. C'è solo una cosa che posso dire. Ci sono molti pochie monrarie nella regione di Sinno. E questo dovrebbe tornarci molto utile ai fini delle nostre ricerche. Ah, è l'assistente, lei. Esatto, esatto. Bravo. Ok. Eh, scusate, lasciateci passare, per favore. Loro abituatissimi a bambini che hanno superato un bosco da soli. Perfetto. Classico di due foglie. A dieci anni si è laureato a due foglie. Sì, esatto. A dodici padre. A venti mamma single. Scherza, scherza. No, si scherza. Scusate, siamo un po' di fretta. Gostatissimi. E beh, che facevano quei due? È più o meno quello che vuole farete, Barri, mi sa. Saba, andiamo a vedere. Cioè, hai paura dell'erba alta? Non ti preoccupare. Ci vorrà un attimo. Che poi, evidentemente, a questo punto ne parlano... Ne stanno parlando più che in altri casi dell'erba alta. Sì. Evidentemente è alta davvero. Cioè, nel senso che comunque ti arriverà alle ginocchie, almeno. Sì, assolutamente. Cioè, ci vorrà un attimo. Vedrai che non salterà fuori nessun Pokémon selvatico. Eh, dipende dall'RNG, Barri. Io starei attento. Oddio, che paura. Ma questa è una varigetta. L'hanno dimenticata qui. Che facciamo? Potremmo rimandargiela se sapessimo chi sono. Uno dei due è stato chiamato professore. Eccali. Ah, Pokémon! Ma che succede? Che succede, Barry? Te l'ha detto la mamma, no? Ah! No! Bellissimo! Li rubiamo? Bravo! Qui, in Diamante Perla, rubiamo i Pokémon al professore. Finalmente il punto di vista del Team Rocket. È una vita! No, ma... Pazzesco! Mi sono veramente fermato sul più bello. Allora, hai deciso che le vuoi? Eh no, certo, è lo starter. Figuriamoci in una hardcore run. È molto più importante. Vuoi farmi le domande che vuoi? Non sempre potrò risponderti, a seconda delle domande che fai, però... No, vabbè, chiaro. Certo, certo. No, non ti chiederò l'ordine delle palestre. Però... Esatto. Però, io come sempre posso aprire la Pokémon e poi decidere. Assolutamente, sì. Certo. Quindi abbiamo... Ah! Ah, sono... Ok, sono loro gli starter di... Ok. Ok, ok. Quindi Turtwig... Ah, Chimchar e Puplip, tipo? Chimchar. Piplap. Piplap, sì, ok. Piplap. Ok. Oh, mamma mia. Che bello. Eh, ma io... Cioè, devo... Questa scelta influenzerà anche la facilità o meno della Night Rock. Allora, 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 allora. Io ti devo dire la verità. Ho un impulso troppo infantile, troppo forte. Nel senso, se dobbiamo giocare... Se io sono l'allievo, sono il ragazzo, devo essere anche in questo il ragazzo. Certo. E quindi io andrei sparatissimo a Bulbasaur 2. Cioè, io... Anche perché poi Torterra è fichissimo. E quindi mi piace da matti l'idea. Se tu non mi urli, allarme, finiamo alla terza live. Io scelgo Turtwig. So che fuoco, lotta e cose del genere possono essere belle toste. Però... A parte che non mi ricordo i tipi di Torterra. Sarà Erbaterra. Però con i tipi... E qui... Allora. Dark Souls. I Soulsborne. Sono... Strategic Swordplay, Skill e parametria a livello anche di caratteristiche di gioco. Pokémon è un JRPG a turni. Tattico. Io con i tipi sono ancora a livello Ameba dopo tutti questi anni. Non preoccuparti. Non ho mai giocato abbastanza a lungo o seriamente al franchise per poter avere... Cioè sì, la base della base lo so, ma se mi butti in mezzo con Leottero Ghost of Psycho io... Stai giocando in blind una Nuzlocke. Io sono il professore. Perfetto. Puoi chiedermi a livello di typing quello che vuoi quando vuoi. Sono il tuo Pokédex aperto, ok? Vedi... Pensa quando tu stai leggendo descrizioni o fai qualcosa, come no? Ecco, sei nella mia posizione. Allora. Tu puoi chiedermi quello che vuoi. È come quando io ti chiedo parametrie, robe, scaling. Certo. Quello che vuoi. Ok. Allora. Io... Allora. Dimmi. Cosa ne pensi? Allora. 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 Per certi versi... Hai preso la strada in salita, se prendi Tartwig. Ma... Ok. Ma ti dico che... Secondo me in Nuzlocke ha i suoi vantaggi. Ecco, ma dici... È una salita alla Kingdom Hearts dell'Isola del Destino. Isola del Destino. No. In cui ti viene detto, parti lento ma poi acceleri, o è in salita sempre? Parti lento ma poi acceleri. Ok. Posso rivelare che nella seconda run che ho fatto proprio in questi giorni, perché la prima l'ho fatta offline per recensire, ho preso Tartwig e... Figo. Più vai avanti, più si rivela utile. All'inizio è un pochino più hard, più che altro perché, pensaci, ti faccio ragionare un po' anche in ottica futura. Sì. Contro chi sei? Contro degli uccelli. Erba, volante, erba è debole al tipo volante. Si parte male, certo. Parti con degli uccelli che sono attorno a te che in teoria ti fanno male, però... No, è vero, però distinto da ignorante, a questo punto dell'avventura non possono avere attacchi a volo. No, è vero. Scorreggia, vola, cioè, fanno schiaffo brutto e basta. Schiaffo brutto, scorreggia, palle in faccia. Esattamente, quelle attacchi lì che ci hanno insegnato sempre su Italia 1. Quindi sì. Esatto. No, senza parte, la tua analisi è lucida. Ovviamente gli attacchi con typing si sviluppano dopo un po'. Io ti dico che, come la chat ricorda di menzionarti, ho preso Tartwig e me l'hanno fatto rinominare Turtisio. Turtisio. Quindi io mi sono fatto la mia run con Turtisio. Turtisio. Io, in quanto nella prima generazione, me l'hanno ricordato poco fa i ragazzi, vi era una fight contro il Professor Oak, non poi inserita nel gioco e quindi vivibile solo attraverso glitch, nella quale il Professor Oak aveva lo starter debole a quello del giocatore, farò la stessa scelta e prenderò Piplup. Ah, bellissimo. Ok. Delizioso. E tra l'altro mi fa ridere perché è l'ultimo che mi mancava. Io ho fatto la run review con Chimchar, quella con Chiara, la lore run con Tartwig e ora prendo Piplup, quindi ci siamo. Bellissimo. Ma quindi Barry ha scelto Chimchar? Barry, bravissimo, sì. Barry sceglierà sempre quello super efficace su di te e quindi ci siamo tutti. Bellissimo. Comunque mi permetto di dire una cosa, questa è una realtà che tu sicuramente potrai capire, ma che essendo verticali su Pokémon, essendo ciò che sono io sui Soulsborne, sicuramente percepisci meno dinanzi a perla splendente e diamante lucente. Ossia io gioco talmente poco ai Pokémon che vedere sta schermata mi mette un batticuore è bellissimo. Beh, è quello che volevo, sono super contento e guarda, mi sto muovendo come un bambino in continuazione. Guarda, per me la lacrimuccia perché mi commuove vedere queste cose, perché mi manca, cioè io ci gioco poco, quindi quando torno qua, che poi in realtà è quello che il gioco da adulti, un po' poi ti spegne, perché il resto qua tu sei livello 5 contro, poi diventa tutto sempre molto semplice e un po' ti si noti, e attraverso invece questa avventura complessa, pam, si apre tutto, oh fighissimo, ok, vabbè, qui è abbastanza... avremo un po', oh, questa è una cosa molto, molto per nubish, però finalmente da un certo capitolo in poi hanno aggiunto la possibilità di renderti conto di cosa stavi facendo. Ed è giusto in realtà, è giustissimo, ti dico che per correttezza hanno tolto rispetto a spada e scudo che so tu hai giocato. Sì, se è super efficace, efficace, poco efficace. No, 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 quello c'è, quello c'è, basta vederli per una volta e c'è, hanno tolto purtroppo la possibilità di guardare boost e nerf delle statistiche intrafight, quindi che ne so, se una persona ti ha fatto rugire, c'è un po' che non ti ha fatto rugito, non lo so. Era un bene, no? È certo che era un bene. La consapevolezza del giocatore è anche parametrica, allora, io, anche questo sicuramente lo saprei più di me, ma so che Masuda, Pokémon Company, Game Freak, questi ragazzi hanno fatto un compito esterno, però, tengono così tanto, da sempre, non smettano mai, non smettono mai, una parte di loro sanno che i giocatori stanno crescendo, non vogliono accettarlo, ma stanno crescendo e che quindi può essere interessante dar loro di strumenti da grande. Però il Pokémon è sempre magia, il Pokémon è sempre vivo, il Pokémon è sempre vero, quindi non puoi mostrare il burattinaio, però è un peccato, è altalenante, ogni tanto ti fanno vedere, ogni tanto no. Vabbè, va bene. Ok, vabbè, qui siamo in story mode. Hai, come hai visto, anche ritirata. Sì, sì, sì. Abbiamo perso, io ho crittato, quindi questo secondo me è di buon auspicio. Ora se critta ti ho perso. Ho crittato, ho crittato, ho crittato, di buon auspicio. Perfetto, perfetto. Vai, Turtwig. Yeah! Oh, sì. Oh mio Dio, la barra azzurra. Sono scemo. Ok, ok, bellissimo. Stupendo. Fiu! Il tuo Turtwig è stato davvero sconvolgente. Ah, carino però. Aspettate, se devo prendere tutto sul serio e lo faccio, Barry sarà anche un coglione. Però è appassionato di Pokémon, perché sa cosa sono. Sì, sì, assolutamente. Oh, bella, la tua tartaruga, con il muso brutto, ammenato. Cioè, no, lo sa. Cimce, Artur, Turtwig, ok. Ti posso dire una cosa, perché te la meriti già adesso per questa osservazione, e non avresti altrimenti risposta, perché è un contenuto di Platino che non sarà presente in questi remake. Vai. Il papà di Barry è uno degli allenatori più forti della regione. Ah! Ma non lo vedrai mai, ok? Ok, ok. Peccato, non lo vedrai mai, però... Quindi hanno deciso di fare un... Io non mi sono avvicinato per nulla, quindi è un remake 1-1, non hanno integrato parti di Platino per... No, purtroppo no, è la prima volta ed è ciò che è stato criticato. Dalla fanbase più veterana, il fatto che questi sono remake molto adagiati su Diamante e Perla, che avevano dei difetti paradossalmente riportati 1-1 nel 2021, ma già risolti nel 2008 con Platino, capito? Ah, ho capito, porca, strano, strano, strano. Allora, ma... Ah, il mio cincero è stato molto più in gamba, però erano i Pokémon di qualcun altro. Non l'avevamo scelta, abbiamo dovuto prenderli in prestito. Good choice of words. Speriamo che non sia un problema. Oh no, mio Dio! Oh, la valigetta! Il professore si sarebbe infuriato se l'avessi persa. Eh, ma... Per caso avete lottato con questi Pokémon? Oh no, e adesso? Cosa dirà il professore? Questa non ci voleva. Vabbè, intanto questa la prendo io. E non ce l'ha sbattuta in faccia, che è già un'eleganza. Che è già tanto. Esatto. Ma che aveva... Come che aveva quella? Era che... Barry, veramente... Hai rubato dei Pokémon! Non so cosa stia succedendo, ma andiamo... Andiamocene di qui! Il mio Pokémon ha subito danni durante la lotta. Se venissimo attaccati da un altro, potremmo trovarci nei guai. Ok. Hanno anche riprodotto quasi l'oscuramento del Game Boy. Da certo. Di essi, in questo caso. Tu vai pure avanti. Lo so che dobbiamo restituire quei Pokémon, non sono nostri. Ma prima volevo passare un altro po' di tempo con questo difetto. Ladro, vero? Sì, questo esatto. Vuole creare un bonding emotivo, così da far sentire in colpa il possessore del Pokémon. Perfetto. Ah, peccato, stavo già per fare il percorso segreto e andare nel grande vuoto, andando nell'erba al posto che ha due che voglia. Sì, ok. Cosa? Niente, niente, niente. Vuoi andare nel grande vuoto? No, no. Ok, va a posto. Ehi, sono quelle di prima. Sbaglio! Ah no, è lui, Barry. Ehi, sono quelle di prima. Sbaglio, quel vecchio ci serve. Ma già lo chiama vecchio, come Tidus che chiama Vegliardo. Ah, mazza. Pensavo che fosse un Vegliardo, invece è Bubba. Lucinda mi ha detto che avete preso i nostri Pokémon. Fatemi vedere, per favore. Turtwig e Chimchar. Sono starter, sono rari. Scambiarli è un casino. Verde. E tra l'altro, forse vengono anche da fuori, visto che lui è stato quattro anni fuori e c'è l'ha nella valigetta e non si trovano selvatici. Esattamente, sì, esatto. Io lo dite in maniera molto vulgare, però sì. No, no, però. Capisco. Ok. Lucinda, io torno al laboratorio. Sì, professore, mi aspetti. Dovreste venire al nostro laboratorio più tardi. Ci vediamo. Perché tutta quella agitazione? Se era arrabbiato, poteva semplicemente dirci qualcosa, scritarci. E poi non voleva riavere i Pokémon. Dai, andiamo a casa anche noi. Lecite domande. Lui è veramente un ladro dentro. Ah, è Turtwig e Lucinda. Ok, 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 Lucinda. O io. Nel senso, l'ultimo è preso, l'ultimo starter, quello che ho preso io, ovvero Piplup, nel tuo caso, l'ha preso lei. Capito? Sì. Perché tu hai preso Tartwig, Barry ha preso Chimchar, e quindi l'ultimo lo prende Lucinda. Lucinda. Che succede? Non ci posso credere. Per fortuna che a te e Barry non è successo niente. Il professore di cui parla è sicuramente Rowan, di sabbia fine. È molto conosciuto per i suoi studi sui Pokémon, ma dicono che faccia un po' paura. Forse nel caso che tu vada da lui a sabbia fine, Sab. Vai, bimbo. Devi spiegargli perché hai dovuto usare il Pokémon. Era suo, ma non preoccuparti, capirà di sicuro. A proposito, mettiti queste, Sab. Ah, eccola, ok. Hai tenuto scarpe da corsa. Andare a sabbia fine sembra una vera e propria avventura, vero? Fortunatamente. Con le scarpe da corsa potrai raggiungere i luoghi lontani più velocemente. Ok. Diamo un'occhiata alle istruzioni. Ah, attenzione. Spondamento della quarta parete. Esatto, esatto. Guardalo, guardalo. Quindi possiamo... Ok, posso camminare e anche correre. Perfetto. No, no, non serve. Mamma, mamma, mamma. No. Quindi ora... Ah, oh, il Pokémon. Preferi... Ah, no, si è ripristinato. Non lo abbiamo rinominato, perché eravamo presi dal momento. Lo faremo il prima possibile. Ma non me l'ha fatto... No, non me l'ha fatto proprio fare. Ah, non te l'ha... Aspetta, forse in realtà lo faremo tra poco. Credo di sì, perché ti assicuro che lo avrei fatto. Lo avrei fatto. Sono io scemo. Lo faremo tra poco, non preoccuparti. Quindi eri un po'... Allora, bravo, bravo. Aspetta, fermati. Fermati. Ok. Apri il menu. Controlliamo. Ok. Vai. Eh, scusa, mi ho avuto un attimo di mancamento. Vai, vai, dimmi, dimmi. Io ho perso la... Allora, vai, apri il menu. Oh, no. Vediamo la natura. Ah, giusto, perché è casuale tutto, anche... Esatto. Allora, ho perso la Nuzlocke. Io con le nature sono totalmente ignorante, te lo dico, eh. Vai, vai, tu apri proprio il menu del Pokémon. Devi andare... Info, bravissimo. Sono allegro. Ok, allora ti faccio vedere un menu, così scopri delle cose. Bravissimo. Vedi qui? In rosso? Hai la statistica aumentata. Ah, ma per fortuna, finalmente. Ok. I colori ci sono sempre stati, qui hanno aggiunto anche addirittura delle freccette. Tu hai una natura incredibile, fatelo dire. Fantastico. Ci può essere di meglio per quel Pokémon, ma è buona, perché ti tira giù l'attacco speciale, che non è utilizzato dalla linea di Tartwig. Ah, ammazza. Ok. Io ho un Piplap cauto, Piplap vive di attacco speciale, l'attacco speciale è la mia natura abbassata. Va bene, ragazzi, va bene. Piplap muore nel corso, intanto mi fa schifo, va bene, va benissimo, c'è problema. Perfetto, perfetto. Però bene, l'importante è che quello di Michele invece sia prestante. La natura allegra è una natura molto utile, anche perché, se ci pensi, attaccare per primo nel single player può fare la differenza tra la vita e la morte. Ok? Sì, assolutamente sì. Sempre. Questo so che è sempre stata una delle priorità in Pokémon assoluto, la velocità. Ok. Sculacu, esattamente, c'è Sculonia e ora c'è Sculacu, bene, è allegro, primo, c'è gente che rerolla per dieci ore per avere lo starter allegro, tu su, va benissimo, va bene, giusto così. Mi ricordo poi che ci sono dei valori che non possiamo vedere, che si chiamano i V, Individual Band. Ok, loro Individual Death Fort, questi li conosco. Esattamente, e quindi in realtà potremmo calcolarli nel corso dell'avventura, ma sti cazzi. Sì, 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 sì. In teoria, in questo gioco, correggetemi se sbaglio, qui chiedo ai Super Veteran in chat, dovremo avere almeno un IV al 31 garantita per i nostri starter, non sappiamo però ovviamente quale essa sia. Quindi potrebbe anche, conoscendomi sarà nell'attacco, perché è andata così. Vabbè, faremo pip lap fisico e poi gli faremo il funerale presto. Andiamo. Perfetto. Allora, quindi, vediamo un po' se per caso tornare là, può essere utile qualcosa. Beh, innanzitutto può essere utile a una cosa. Catturare un Pokémon del percorso extra qua. Allora, finché non hai Pokéball... Ah, no, è vero, non ho Pokéball. Non vale. No, no, finché non hai Pokéball non vale, ok? Cioè, tu adesso qui potresti farla una fight e non conterebbe come prima e unica cattura. Però sì, qui puoi usare in questo momento, per esempio, il tuo slot per fare la cattura nell'erba alta. Chiaramente, se un giorno si potesse surfare su questo mare, perderesti la possibilità di pescare o trovare un Pokémon sul terzo dell'acqua. Esatto. Ma magari può essere utile... Perdonami, è così, almeno ti do un overview. Vai, 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 vai. Ma può essere utile, magari in questo momento del gameplay, avere più Pokémon possibili da catturare per avere subito un bel party più grosso, senza aspettare... Sì, chiaro, 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 chiaro. La scelta è tua. Però il fatto è questo, che adesso potrei sbagliarmi, ma non lo so, mi fido di... questo è proprio un feedback old school. Questo mare è troppo lontano per surfarci da qui, quindi se ci si surfa da un'altra parte, magari in quell'acqua ci sono Pokémon di livello 60, capisci? Cioè, quindi potrebbe essere più importante prenderlo dopo. Ah, vedremo, vedremo, ok. Sceglierei tu, sceglierei tu. Vediamo, vediamo. Allora. Dicono che sì, è un grande lago salato, esatto. Smettetela. Battaglia colossale. Esatto. Allora, corri, 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 corri. Uh, chi c'è qua? I Pokémon selvatici si nascondono nell'erba alta e saltano fuori all'improvviso. Quindi se vuoi lottare contro i Pokémon selvatici, vai nelle zone erbose. Se vuoi evitarli, sta nella larga. Ok, mazzo. Eccolo, ah, si è mosso. Ok. Allora, qui abbiamo lo shortcut, ovviamente, il saltino. Non ci sono Pokéball, cose sparse, super pozioni, cose importantissime. Come dice un mio caro amico, esplora bene. Sempre, eh. Non qui, ma esplora bene. Qui è esplorato bene. Stupendo, stupendo. Ok. Ah, giusto, giusto. Mi ricordano qui una regola importante. Se becchi uno Shiny, lo puoi prendere sempre. Eh, ma intendi di dire che fa parte del party se lo riesco a trovare? Esatto. Ho capito. Indipendentemente dal fatto che tu abbia o meno trovato un Pokémon già nel percorso. Giusto. Non avere paura. Rivolgi pure la parola a tutte le persone che incontri. Ah, proprio. Accetta caramelle dagli sconosciuti. Parlando alla gente, potrai ottenere informazioni e consigli utili. Se i tuoi Pokémon sono stanchi, cioè se hanno pochi PS, ti conviene andare a casa a riposare. Che poi mi ricordo, io ho visto solo la prima serie di Pokémon, in assoluto, in televisione. Anche io in realtà, eh. Ok. E mi ricordo che c'era un ragazzo che... Io non l'ho vista solo una volta, quindi sarebbe interessantissimo rivederla oggi per me. Però l'ho vista solo all'epoca. E mi ricordo che mi eccitè tantissimo perché c'era un ragazzino che si allenava fisicamente studiando i Pokémon per fare il figo e gli veniva chiesto a che livello evolveva PG. Quindi comunque il concetto di livelli viene discusso. Non è solo quarta parete, esiste quell'idea. Perlomeno a livello anime. Guarda, se ti interessa il concetto evoluzione, ci sarà pane per i tuoi denti. Si parlerà anche di evoluzione in questo gioco. Oh. Oh, che cosa abbiamo? Starly. Starly. Va bene, si mena. Vai, Turtwig, comincia a livellare. Un pochino almeno. Avremo un Pokémon borsa fuga, ok. Ricordati che in quanto tipo erba devi avere paura dei tipi fuoco, dei tipi ghiaccio, dei tipi volante, dei tipi coleottero, no. Ah, ok, ok, perfetto. Ho cominciato bene. Sai perché ti confondi con il tipo psico? Così almeno magari ti do cose da memorizzare. Ti confondi con il tipo psico perché in prima generazione gli erba sono anche spesso veleno. E veleno è debole. Ah, ecco. Ok, bravo. Hai colto la nubish statement da dove veniva. Quindi dicevi fuoco, ghiaccio, coleottero. Ok. Coleottero. Sei debole a un casino di roba. E volante. E volante. E veleno. Ah, bene. Capisci perché Tartwig è la scelta chad? In realtà questa cosa è molto, è incredibilmente utile, quindi è un'ottima discussione farla ogni volta perché così si che memorizzo. Quindi erba è debole a ghiaccio, fuoco, volante, veleno e coleottero. Sì, anche perché c'è un po' una logica dietro. Il coleottero, la messa, la nova, si posa sul fiore. Bravo. Sì, sì, sì. Il fuoco, vabbè, neanche a dirlo. Il ghiaccio lo congela e il veleno, beh, che dire. Il veleno è proprio il nemico numero uno della natura. Il volante, in quanto vola, può beccare dall'alto le zollette d'erba e poi scappare non venendo colpito. Ciao, io lavoro al Pokémon Market. Sabevi che la salute di un Pokémon si misura in punti salute? Se si scendono a zero, il Pokémon muore definitivamente e non potrei mai più utilizzarlo. Eh sì, se giochi con quello stronzo di Cydonia si funziona così. Mamma mia, siano lodate queste pozioni, amico mio. Mamma mia. Tornerei a un Pokémon Market in tutte le principali città. Oh, che paura, vedi. Oh, Bidoof! Il Thresh Pokémon. Ok. Tu hai mai visto le animazioni Pokémon di Dorkly? Certo, tutte. Perfetto, perfetto. Tutte, anche quella di Arceus, non so se l'hai vista. Eh, probabilmente sì, all'epoca sì. No, tutte, tutte, tutte. Si chiama Rusty, tra l'altro, il loro occhi mi pare. Sì. Sì, basta, però sti HP cominciano ad essere gialli, cioè. Ah, sappi che essendo l'MN slave del vecchio gioco, ora le MN sono cambiate, ma in Diamante Perla, Bidoof veniva utilizzato come schiavo per le MN. Attento che sei a nove pietre! Lo so, lo so! Ok. Dicevo... Allora, usa quelle pozioni pazze, bevile, falle bere quelle pozioni pazze. Questa run durerà molto meno di quanto si pensi. No, no. Dicevo, Bidoof l'ho chiamato Goober. Perché era lo schiavo nei vecchi giochi fanno. Perfetto. Sollevo. Diciamo, in questa run, Mike, ragazzo, non essere parsimonioso di cure. Ok, quindi salvare 99 è l'isir. Ok. Va bene, puoi solo scendere. Sappia finita. Grazie del ride. Oh, eccoti! Vieni con me, il professore ci sta aspettando. Voleva vedere se saremo finiti in ospedale passeggiando per il percorso prima, va bene. Eccolo! Questo è il nostro laboratorio di ricerca Pokémon. Andiamo! Pum! Mamma mia, che molesto. Ah, bene, ha anche il suo asset di frasi. Ma, 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 che succede? Ah, sei tu, Sub! Quel vecchio signore. Non è che faccia paura, ma è proprio strano. Comunque, non importa. Io me ne vado. Ci vediamo! Guarda come corre, guarda come corre. Ha l'animazione di camminata lenta, ma corre velocissimo. Che significa che ha un potere latente come Gohan. Ma che assolutamente! Ma che aveva? Il tuo amico sembra parecchio impaziente. Vabbè, entriamo. Vorrei vedere Barry giocare alla Nasolok. Next gen. Eccoti qui, finalmente. Ti chiami Sub, giusto? Fammi vedere di nuovo il Pokémon. Bene. Sembra felice? Va bene. Sai cosa? Te lo regalo. Quell'esemplare di Tartwig è tutto tuo. Ora che però è tale, vuoi dargli un soprannome? Sì. Lui è decisamente, specialmente pensando a Tor Terra, Phalanx. Perfetto. Non deve morire il Phalanx. Avevano scommesso su questa cosa, sappilo. Buon per loro! Mi avevano detto, guarda che tanto Tartwig lo chiama Phalanx. E in realtà io ho sperato. Ah, parlavano di Tartwig? Ok. Io ho sperato, in realtà il primo, e io ho sperato che tu prendessi Tartwig, perché è la scelta Chad. Tartwig è complicarsi un po' la vita, però poi avere delle semplificazioni. Ah, io sono sempre stato team Bulbasaur, quindi... Interessante. Sei sicuro? Ma scusa? Ma è un bambino, lo metti in soggezione. Sei sicuro? Sì. Barry mi ha raccontato quanto è accaduto al lago. Mi ha detto che hai lottato molto bene. Anche se per te era la prima volta. Beh, allora, di questo dovremmo riparlarne, Rowan, perché finché ho solo azione come opportunità, ammetto di potermela cavare anche io, e mi pare proprio che stia formando un certo... Si sia, formando un certo legame fra te e quel Pokémon. Oh no, la meccanica dell'amicizia! Esatto, che ho deciso di raffidarti Tartwig. È arrivata, è arrivata! Sono così felice che tu ami Pokémon. Se non fosse così... Dovrei ucciderti. Scusa? Dovrei... Ha il cloroformio nella borsetta? Credo denunciarti per il furto... Esatto, esatto. Di quegli starter. Ah, proprio... Ah, glissato! Lo sin da niente. Passiamo alle cose importanti. Vorrei che facessi qualcosa per me. Mi chiamo Rowan e studio il Pokémon. Prima di tutto, vorrei sapere quali specie di Pokémon vivono nella regione di Sinnoh. Per scoprirlo, è necessario raccogliere dati con il Pokédex. E quindi... Dimmi. Forse non ha... Cioè, o... Questo è un... No, è tornato dopo quattro anni. Non è un passaggio del viaggio. Esatto. Quindi lui è andato in altri luoghi prima di affrontare la ricerca di Sinnoh. Esatto. È tornato qui, quindi poi, dopo il viaggio, per affrontare questa ricerca per la quale ti assolda. Esatto. Ed è qui che entri in gioco tu. Con questo Pokédex potresti raccogliere informazioni sui Pokémon di Sinnoh. Ti va di darmi una mano? Cosa succede se gli dici di no? Ti dice ripensaci e poi torna. Allora, come in classico stile JRPG potrebbe... Bene! Ottima risposta. Oppure insiste. È uno strumento all'avanguardia. Registra automaticamente tutti i dati relativi ai Pokémon che incontri. Sub viaggia per la regione e cerca di incontrare più specie che puoi. Ne ho uno uguale anch'io. Che sensazione hai provato camminando sul percorso 201 in compagnia del tuo Pokémon? Ancora adesso che ho 60 anni, sento come un brivido quando sono insieme a un Pokémon. Nel nostro mondo esistono moltissimi Pokémon diversi. E sono tutti lì ad aspettarti per dargli ognuno un brivido unico. Poi dipende se è positivo o negativo perché alcuni sono pericolosissimi. Ti ammazzano per sempre. Sì, esatto. Guarda, vuoi provare il brivido di Mac? Toccalo! La tua fantastica avventura sta per cominciare. Il mio primo Pokémon è stato un esemplare di Piplup. Se tu avessi scelto Piplup al lago, io e tre avremmo avuto lo stesso Pokémon. Non che sia importante, però... Comunque, io mi chiamo Lucinda. Anch'io aiuto il professore a completare il Pokédex. Quindi io e te siamo sulla stessa barca. Io però ho iniziato prima e ho un po' di vantaggio. Spero di poterti insegnare qualcosa. Comunque, piacere di conoscerti Sab, io ho già il professore, mi spiace. Guarda come corre. Ok. Ah, wow. Dolce. Ah, davvero! Il frigo di frigo! Gnam, gnam! È un frigo di dolcetti deliziosi, va bene. Non solo gli rubiamo gli starter, ma anche il cibo. È proprio la mamma di Barry che è sfortunata. Sullo schermo ci sono molti termini tecnici e informazioni astratte difficili da capire. E sono quelle che hanno rimosso... dai menu di Pokémon. Ah, sì, sì. I cambiamenti di statistiche. Esatto. Ah, mazza, questo bellissimo tipo Pokémon Center. Sì. Sono il padre di Rosinda. Sarò molto lieto di poterti aiutare. Di poter aiutare un aiutante del professore. Ah, 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 ah. Sono certo che di te ci si può fidare. Mio Dio che inquietante è questo tizio. Detto a un ragazzino dopo che ha rubato un Pokémon così. Sì, sì, sì. Il professor Roman ha inventato un nuovo Pokédex in collaborazione con un altro studioso della regione di Kanto. Oh, carino. Ok. Ora vai, Sub. La tua fantastica avventura sta per cominciare. Però non prima... Oh, carino. Oh, ok. Valutazione Pokédex. Ah, sì, no. Cosa mi dice? Hai trovato tre Pokémon qui a Sinno. Beh, non sono tanti. E sei ancora qui davanti a me. Cerca meglio i Pokémon selvatici. Non aver paura di entrare nell'erba alta. Vediamo un po'. Ordina. Habitat, numero Pokédex. Ah, carino. Queste opzioni sono sempre migliorate nel tempo. Sì. Oh, guarda. Ma quindi... Ti hai la mappa. Hai anche i sotterranei, certo. Ok, torna alle... Ah, ma poi... Quindi ci sono... Ok, i Pokémon che appaiono soltanto a determinati orari del giorno. Carino. Sì. Ok. Va bene. Noi giocando sempre di notte, diciamo che ci perderemo qualcosina, ma si recupera... Ah, è legato al block. Ok, 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 ok. Va bene, va bene. Allora. Il suo guscio fatto di terra diventa ancor più duro quando il Pokémon beve. Vive, giusto appunto, sulle rive dei laghi. Ti leggo anche la mia, visto che non puoi averla. Eh, sono diverse, esatto, vai. Vive lungo le coste nei paesi del nord. Abile nuotatore, quando caccia, può rimanere sott'acqua per più di dieci minuti. Carino. Ok, è vero. I Pokémon cacciano. Esatto, e in generale la differenza dei Pokédex, me la ricordo, è deliziosa. Ok, che poi tra l'altro ogni capitolo ha una differenza di Pokédex generazione per generazione. Quindi in realtà puoi fare una lista di informazioni in tutti questi anni di Pokémon che è importante per ciascuno di essi. Che è parte del lavoro quando facciamo i nostri video. Unire insieme più descrizioni del Pokédex per una singola specie, tipo, che magari riescono a raccontare insieme una storia. Bellissimo. Fantastico. Fico, fico, fico. Aspetta, dobbiamo il tasto. Vediamo un po'. Allora, faccio qua. Altezza. Ah, carino. Comunque, in questo caso ovviamente, lo specifico, parlavo di Piplap nel mio caso e non di Tartwig, perché chiaramente io la descrizione di Tartwig non ce l'ho. Certo, certo. Ma, Piplap, tu non puoi ottenerlo adesso, perché il tuo starter è un altro. No, chiaro, ma allora che un Tartwig fosse abitante dei paesi del nord... Ecco, non pensavi. Carinissima sta cosa, ok. Sì, puoi vedere anche l'altezza, il peso e in realtà c'è anche una funzione per distorcerne il verso, che ti fa sentire dei versi satanici, se la vuoi provare. Cioè? Allora, apri la scheda di Tartwig. Sì. Fai animazione verso. E con A dovresti riuscire a riprodurre il suo verso, giusto? Carina, sì. Adesso pigia pausa, quindi X, e riproduci il suo verso. Ma non ci hanno pensato. Scuotendo i Joy-Con o il Pro Controller ci metti anche dei filtri, o il Pan, destra-sinistra. Non so perché hanno fatto questa cosa, c'è solo in questo gioco. Io mi sono divertito a sentire alcuni versi satanici. Ah, addirittura posso... Ragazzi lo sentono sicuramente i ragazzi qua. Sì, lo sentono il Pan. Posso fare... E quindi posso fare... Che male. Ah! ASMR puoi fare praticamente. Esatto, sì, esatto. Esatto. Famelo ancora. Fammi ancora quel verso. Allora. Sì. Sì. Ok, Sab, ti farò da guida. Sono un'allenatrice da parecchio tempo e sono anche l'assistente del professore. Quindi ho più esperienza di te. Dai, seguivi. Sì. Ma esiste... Stavo guardando il cartello. Nella parte superiore esiste una sorta di alfabeto oppure cambia ogni volta nei giochi di Pokémon? Alfabeto cosa intendi? Un alfabeto di scrittura delle cittadine dei mondi Pokémon. Ah 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 ah. Beh, eh, snì. Ok, 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 ok. Diciamo che i veterani si sono arrovellati molto su questa cosa. Chiara ha addirittura provato a fare una live nella quale cercava di decifrare la lingua Pokémon. diciamo che possiamo desumere da quello che vediamo in giro che la lingua pokemon non sia l'alfabeto latino perché l'alfabeto latino è rappresentato da dei pokemon che immagino tu conosca bravissimo e che però gli esseri viventi umani di pokemon non riconoscono come alfabeto principale infatti come vedi il cartello non ha caratteri latini che poi sorge spontaneo adesso non sapendo quasi niente della vera ambientazione pokemon a livello approfondito ho ancora le domande di quando ero ragazzino perché se mi dici che non viene riconosciuto come alfabeto e quindi effettivamente doveva essere decifrato una volta trovato nei giochi infatti esatto sorge spontaneo chiedersi se quello non viene considerato alfabeto allora i vari oh mio dio come si chiamano tu mi aiuti sicuramente skang klang i pokemon in granaggio kling klang sì cioè quelli è come l'uovo e la gallina cioè l'essere umano ha scoperto gli ingranaggi tramite quella natura oppure il pokemon ha imitato ti fai le domande ti fai le domande super giuste ok e la risposta è dipende perché so che clefki lo fa apposta mi par di ricordare perché essendo cioè credo che clefki di aver letto nei pokedex ho ricordi confusi che clefki imiti un portachiavi ma non sono sicuro è un clefomane eh ok 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 infatti clef sì però nella domanda che tu hai fatto la risposta è dipende dipende da quale popolo ok diciamo che esatto diciamo che secondo me kling klang hanno ispirato gli esseri umani e la creazione di ingranaggi siamo sicuri che pokemon come metal abbiano in realtà proprio fatto scoprire delle materie prime come il metallo agli esseri umani ci sono pokemon come conkeldur che sono quelli con i piloni in mano non so se li hai mai visti sono dei lottatori con due colonne in mano hanno insegnato a lavorare il cemento ai pokemon perdonami agli esseri umani quindi diciamo probabilmente è quasi sempre vero che viene prima il pokemon e poi l'oggetto o comunque il materiale adesso collegato e ti faccio una domanda terribile perché è un pokemon che mi è sempre rimasto in mente era piccolo perché mi sbattevo la testa su questo anche da ragazzino voltorb ed elektrood voltorb ed elektrood secondo me possono essere contestualizzati come pokemon che si sono adattati no 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 secondo me hanno ispirato la colorazione delle pokeball esatto però sono solo semplicemente molto fortunati a essere simili a un oggetto e quindi si possono mimetizzare chiaro il problema più grande il problema più grande secondo me è quando si arriva per esempio ai fungus e agli amungus non so se li hai mai visti sono funghi che sono fatti proprio a forma di pokeball si mi ricordo che nel vecchio competitivo quando provai a giocare temporaneamente in xyx erano ottimi per addormentare per fare cose del genere secondo me secondo me diciamo che in quel caso fungus e amungus potrebbero più coerentemente essersi evoluti si ok mimetizzandosi e quindi in quel caso è venuta prima la pokeball e poi ma in realtà lì secondo me è perfetto è perfetto perché comunque che però poi sarebbe da capire quindi il pokemon non vuole essere catturato giustamente quindi no poi però magari in natura è selvatico poi accetta l'addestramento è figo no ma sono d'accordo per forza essendo tra l'altro oppure ancora magari avremo questa risposta in leggende pokemon arceus scopriremo in leggende pokemon arceus non so se lo sai questo te lo posso anticipare perché tanto è roba dei trailer scopriremo l'inizio dell'era delle pokeball le pokeball sono state sviluppate da molto poco in leggende pokemon arceus se ci dovesse essere una forma alternativa di voltorb e electrode magari troverai la tua risposta magari non sono come oggi e come i fungus sono evoluti sarebbe così smart pensassero a fare delle chicche così perché guarda poi andiamo avanti ti dico io sono di una certa scuola io non apprezzo per niente per niente io ho trovato stucchevole una cosa e poi geniale nel senso che quasi retroattivamente avrei preferito peccato che non ce l'ho pensato prima peccato che spreco un'altra ossia trovo stucchevole e poco piacevole che siamo arrivati a mille pokemon mettiamola così anche io sento il bisogno di un reboot mi dà veramente un po' perché tanti sono un po' troppo però trovo come scusa e strumento per aumentare il numero geniale le forme regionali cioè quello è bellissimo le forme regionali a me piacciono tanto e aumentano il pokédex volendo cioè meglio avrebbero potuto non lo fanno aumentano il living dex diciamo però concordo ecco concordo assolutamente e anche quelle le ritroveremo in leggende pokemon anche se lì il discorso sarà più complicato ma ci arriveremo tempo al tempo questo edificio con il tetto rosso è il centro pokemon qui può far tornare in forza i pokemon che hanno subito danni durante la lotta qui è molto importante troverai un centro pokemon in quasi tutte le città sappi che in x e y ho fatto addirittura nazlock con cure limitate oh bellissimo mamma mia e beh guarda loro hanno fatto bene a parlare di scorched si lascia aperti bellissimo mi hanno detto che ogni boss perdevi delle cose tipo usare le magie guarda è incredibile in realtà è un'esperienza mistica l'edificio con il tetto blu è il pokemon market è un negozio dove puoi comprare o vendere strumenti e rimedi sab tu sei un allenatore alla prima armi quindi i prodotti che potrai conquistare al momento sono limiti ah e non ti abbattere però a proposito non dovresti dire alla tua famiglia che aiuterai il professore grazie lusinda grazie grazie lusinda ma prima di andare vabbè dovrai viaggiare avvisali è meglio che tu rimetta in sesto il tuo pokemon al centro in questo modo ti sentirai più sicuro ora ti saluto perfetta sembra Meryl che trova le mine ok allora a me ha infastidito molto il fatto che gli script siano rimasti quelli vecchi quindi tu sei l'unico che si muove otta direzionalmente tutti gli altri ma infatti sono stato molto elegante ho fatto la battuta di Meryl non a caso tutti gli altri non lo fanno è meglio salvare così non dimentico che cosa è successo finora ecco adesso posso fare una pausa wow i pokemon sono veramente straordinari se li fai lottare diventano più forti non come le persone come vorrei avere qualcuno tutto mio averne qua sono eccezionali ok città sabbiosa con l'accesso al mare mazza cioè poverino il sindaco che ha pensato ah ah no fai 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 allora fai fai oh mamma mia ma siamo chiaramente un pokemon anche noi facciamo le impronte a due a due come funziona allora si si è il pisello quello che eventualmente dai che lascia l'impronta che cos'hai lì è un pokdash vero o chissà quante specie diverse di pokemon incontrerai sei proprio fortunato allora bentornati alla scienza dei pokemon oggi esamineremo un pokemon selvatico direttamente sul campo oh ho giusto avvisato un bronzong selvatico fa proprio al caso è quello simile a una campana vero si ok fa proprio al caso nostro sbaglio o ha con sé uno strumento andiamo a dare uno cadale vicino oh no finirà malissimo e tu mi fai guardare un attimo cosa hai lì vediamo un po' ahi che dolore mi ha graffiato il dito ma poco male per la ricerca questo è chiaramente uno di quei canali di scopere il channel perfetto si 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 bear grills esatto che bello mi ha morso il dito esatto ora sono avvelenato ma potrei mostrarvi le conseguenze di questo veleno ora sappiamo che è possibile incontrare bronzong selvatici che hanno con sé una metal coperta ah quella che serve per evolvere onyx grazie mille bronzong e rieccoti la tua metal coperta ah mi ha pavero me mi ha graffiato di nuovo se la prendono sempre con me i pokemon adesso devo andare a presto in ospedale probabilmente un buon allenatore si riconosce dal fatto che non lascia mai che i suoi pokemon perdano tutti i PS e vadano a KO eh tu scello perché sennò muoiono esatto i pokemon diventano sempre più forti lottando contro altri all'inizio mentre cerchi di farli salire di livello dovrai portarli regolarmente nei centri pokemon per il sesto va bene con il calendario ok quindi giustamente io posso si può salvare con R in qualunque momento giusto e ovviamente non hai salvataggi limitati anche perché di base non puoi resettare giusto allora facciamo un aspetta non ho ancora fammi entrare nel pokemon market vediamo un po' che c'è come no ricordati che a ogni medaglia all'incirca gli strumenti si aggiornano perfetto se vedi un pokemon che vuoi assolutamente lancia una pokeball non uscire mai di casa senza un pokemon che ha perso tutti i suoi ps non può più lottare mai più per evitare che accada io compro sempre molte pozze eh sì quello che non si fa anche lui gioca a nuzzlock esatto salve posso esserti utile vediamo ah si comincia ok quindi possiamo comprarci 5 pokeball oh mamma mia è vero no nella nuzzlock gli status mi fanno paura bravo devi averne paura bravissima paurissima cazzo il concetto è corretto sì sì tremal avanti agli status in particolare la confusione quando un pokemon sita da solo e si ammazza per sempre no no ok vendire un po' se mi vuole niente se mi vuole la borsa vuota dopo avremo modo di farmare dei tesori per farci un po' di ok per farci un po' di soldi e poi c'è il pokemon center guarda prima di tornare in di ah ok perfetto perfetto allora vai eh sì sì no perché tra l'altro dentro il pokemon center ci sono sempre NPC che magari nascutano scambi così allora vediamo un po' ah questo sotto c'è il multiplayer mi sa vero sì al piano superiore dei centri pokemon c'è il club locale lì ti puoi divertire con i tuoi amici in mille modi diversi parla alla simpatica ragazza al bancone e consegna i tuoi pokemon li curerà completamente in un batter d'occhio vedi quel pc dal design inimitabile quello blu se hai dei pokemon con te puoi usarlo liberamente va bene tutto oh sì PCD eh Bill eh chissà chi è sistema di memoria pokemon aperto quindi abbiamo ancora tutte le meccaniche per fortuna anche di raccoglimento dei pokemon strumenti squadra lotta mi fai una cortesia non mettere mai gli sfondi non aprirli mai nella tua vita ok ne parleremo poi ok perfetto oh mamma mia vabbè qua mi dice che faccio scusa sono pazzi ok beh vabbè non credo abbia niente da dire non credo ci sia nessuno qua però vediamo però aspetta 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 dobbiamo torna nel dal pc poi di sopra comunque c'è la semplicemente le funzioni di comunicazione locale quindi non ci sono in pc unici ok entra nel nel pc e facciamo questo momento proprio religioso vai nel box 2 e dagli un nome sarà il tuo cimitero oppure puoi scegliere guarda per comodità il il 18 il 18 sì 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 il 18 nome perfetto è fatta va bene dobbiamo mantenere una certa canonicità del nostro percorso quindi si chiamerà sblumbo non ci posso credere non ci posso credere non ci posso credere l'ho chiamata nooo ma come perfetto 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 però mi si è chiamato box 12 box 18 sblumbo in realtà aspetta perché io non vedo dove mettere le fasi ah certo certo niente abbiamo chiamato tutti e due il box dei morti sblumbo senza saperlo perfetto perfetto mamma mia sì sì esatto li lasciamo a sblumbo dove verranno schiavizzati fantastico ah ma questa è una mappa sì ok te la apre se la vuoi sbirciare ti dico una cosa ok ti darò un po' di intini ok a volte quando riceveremo la mappa di gioco non l'abbiamo ancora ma quando la riceveremo a volte per i posti che visitiamo ci potrebbero essere delle informazioni in più aprendo la mappa di gioco e mettendo il selettore nel luogo in cui siamo ok appariranno alla sinistra delle brevi descrizioni delle città carino alcune sono interessanti altre no ma alcune sono interessanti quindi diciamo come modus operandi appena arriviamo in una nuova città e abbiamo la mappa a disposizione la apriamo e leggiamo dove ci troviamo ok ok perché vedo che ci sono anche i filtri di esplorazione quello per il gameplay esatto perfetto chiaro 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 ah deve fare no mi sa che è fullato vabbè devo sentire il suono e vedere l'animazione non si può è impossibile andare avanti in senso sono d'accordo qui rimettiamo in sesto il pokemon stanchi dai non si può perriare ragazzi qualcuno mi chiede se c'è il perri in questo gioco no beh in realtà non c'è il riposte però se fai protezione hai perriato sì giusto allora guarda ti faccio notare una cosa giusto perché tu non hai giocato questa era di pokemon che molti definiscono secondo me a ragione la golden era ok la era di pokemon credo sia la migliore quindi scendi un attimo giù sì e ti faccio notare una cosa chiaramente il tuo percorso non sarà guidato va bene parti da questo presupposto va bene non sarà guidato tu sceglierai che cosa esplorare e che cosa non ci saranno delle cose che però proprio come tu fai con main dark souls se tu non le dovessi trovare e certo andiamo qua ma oltre appunto all'antidoto che trovi puoi vedere davanti a te che sei circondato d'acqua sì in questo gioco in particolare molto più che in altri giochi pokemon utilizzare dei mezzi esplorativi precedentemente inaccessibili per avanzare in certi percorsi non è che sblocchi semplicemente segreti sblocca nuove aree ah metroidvegna guarda ci scherzavano anche effettivamente in chat da me mentre abbiamo fatto la run prima di questa ok mentalmente comincia a ricordarti ok sono stato a sabbia fine e qui c'è c'era l'acqua ok il percorso acquatico appena ho surf vado a ceccare vediamo un po' se posso aprire la mappa anche da qua non ce l'abbiamo ancora ah ok ok la avremo non preoccuparti ma non l'abbiamo perché d'altronde se io vado qui ssd ssd allora abbiamo comunque sì c'è sì 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 perfetto perfetto sì sì te lo segna ovviamente che c'è un percorso sì sì certo ottimo ottimo fighissimo via guardati sempre intorno dopo la vediamo con attenzione la mappa è che qui ne vale tanto la pena bello talvolta ti dico che ci sono veterani che in chat da noi hanno scoperto l'esistenza di percorsi che non ricordavano fossero presenti a Sino ok belle perché Sino è veramente ricca di segretini carino sono entrato per sbaglio allora però vediamo un po' dobbiamo entrare prima a casa di Lucinda chi sei ottima 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 domanda dinanzi a uno che ti entra in casa oh sei sub ehi ma tu fai quella cosa del Pokédex con il professore wow uno fa anche mia sorella che forte ok è così quel robot è tornato è un uomo in gamba studia i Pokémon praticamente da sempre mio figlio e mia nipote mio figlio e mia nipote stanno ok aiutando nelle sue ricerche vabbè certo certo c'era il padre lì esatto ok carino è pieno di libri illustrati sui Pokémon che figo ma tu che sicuramente sei dentro fino al collo e potrai rispondermi hanno mai creato del merchandise di questo tipo tipo un libro canonico cioè un libro illustrato del nì ok ma sappi che è stata una delle prime cose che hanno fatto se non la prima poi se ne sono pentiti perché è cambiato il modo di vivere il franchise io ho acquistato per cifra stupida di 500 euro uno dei libri più rari che è stato il primo merchandise del genere ok di Pokémon e dentro ci sono scritte delle cose assurde che oggi sono state completamente retconnate che figata era proprio un libro scritto in roleplay come se fosse scritto da degli studiosi di Pokémon ma dentro c'era veramente della roba assurda che poi hanno eliminato tipo i Pokémon quando vengono catturati sono drogati ah si è? si ma mia qui è quando c'era una libertà un po' meno controllata cavolo che tra l'altro era la loro stessa no no si no era la loro stessa solo che poi hanno pensato messaggio sbagliato sono i target i Pokémon si toccano neanche con un fiore diciamo che il target si è creato dopo dopo loro hanno capito che il target di gioco era era dei bambini e si sono adattati chiaro 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 adesso comincia la Nuzlocke ah si certo adesso puoi catturare amico mio adesso devo catturare eh si dovresti mi raccomando non bidufo ok bello Pokémon volante allora ora però non devo non devo ucciderlo per nessuna ragione è di livello 2 uh poco efficace foglia no vabbè l'azione va benissimo mica l'ho sciotto vero? eh no 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 che paura c'ho l'ansia eh ok abbiamo sempre Y per attivare le Pokémon velocemente una volta presa ah vediamo un po' vai ah che bello critico no evviva oh complimenti è cominciato l'ultimo commilitone ti ricordo che i Pokémon catturati hanno la stessa vita eh di quando appunto l'hai presi in battaglia quindi se non lo funzioni rimarrà a vita gialla sono stati inscriti nel Pokédex oh vediamo un po' si muove in grandi stormi è piccolo ma la forza con cui sbatte le ali è sorprendente mh certo lui specialmente per come evolve figo sarà Joel perfetto oh rosicchia continuamente legno e rocce per affilare i robusti denti anteriori nidifica vicino all'acqua questo invece è bidouf perché io ho trovato un bidouf di merda allora posso fare uno smart e salvarmi la pozione sì RNG la chat beh si evolverà ovviamente K beh non hai detto che muoio così presto dai non non siate sfiduciati bravo 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 che stai facendo un management delle cure e sei andato a curarti per carità fisicamente è giusto così si affronta così una Nazglock bravo però in realtà parte della gestione della Nazglock è anche non evitare l'erba perché bravissimo rischi e reward vai nell'erba alta ricordati che in teoria adesso hai la scelta se andare al lago verità oppure no giocarti lì la cattura oppure aspettare esatto 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 allora vediamo un po' l'animazione potevo usare delle foglie hai fogliame già adesso si esatto è stata introdotta con Rowlet questa mossa quindi con il gufo di allora bello che ritroveremo in Legend of Pokémon bellissima Rowlet mi piace un sacco che evolve in Night Owl mi sembra no in Desiduai quello è Noctowl ed è l'evoluzione di Utooth aspetta allora Desiduai Rowlet è il gufo d'erba di Sun and Moon ah è lo starter si è quello che diventa il ninja così ho capito quello che diventa l'arcere l'arcere si insomma lo scout perfetto io parlo di Howlet hai ragione allora si si so cos'è lo stab ragazzi si 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 e fai pensare lo share exp si va a trovare oppure è base ce l'hai già ah ok quindi è proprio è base ok purtroppo questa è una delle scelte più criticate in realtà secondo me va bene perché expare un pokemon alla volta fa parte di un retaggio dei JRPG superato si 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 però devi riequilibrare il gioco se lo fai bravissimo bravissimo vedete che i ragazzi non sono il solo il punto è che devi riequilibrare il leveling dei pokemon fatti nel 2006 quando questo sistema non c'era il punto è tutto lì allora beh in teoria ah devo chiederti una cosa è importante in base a una tua scelta io dovrò prendere la decisione di gioco ossia se devo giocarla come anche mezza challenge seria ti dico vuoi che faccio management anche degli HP per expare fin quando possibile nelle aree in cui mi muovo o andiamo dritti come una spada trovando RNG nell'erba e ti posso assicurare ok che facendoti i percorsi non evitando nessuna zolletta e nessun allenatore facendo però le zollette una sola volta ci sei a posto a posto ok il gioco è generoso questo gioco è generoso a livello di exp quindi vai tranquillo ok specialmente se catturo per pokedex allora Barry è uscito come un razzo come sempre questa non è mamma mia è vero si 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 lei dice sempre la stessa cosa urlava di voler diventare il più bravo allenatore di tutti i tempi ok va bene perfetto mamma sbagliata esatto vabbè a sub piace trovare le mamme degli altri esatto lo stab è same type attack bonus ragazzi faccio un attacco d'erba con tartwig faccio il 50 giusto 50% 50% si te l'avrei spiegato alla prima lotta elementale il 50% del base power in più ah del base power in più ok quindi se fogliame a 40 su tartwig a 60 60 ok ok che bello averti in casa Sam stai bene ho appena preparato da mangiare riposati un po' tesoro che succede Sam wow il professore Rowan ti ha chiesto di fare una cosa davvero importante ah si fallo tesoro la mamma fa il tifo per te aspetta ho una cosa che potrebbe tornarti utile Sam note di viaggio ok sono delle note di viaggio consultale quando hai dei dubbi o se trovi qualcosa che attira la tua attenzione durante l'avventura al loro interno potresti trovare le risposte che cerchi wow un viaggio pieno d'avventure ti invidio un po' e non sarai nemmeno solo avrai i pokemon a farti compagnia come vorrai andare io sto scherzando tesoro non è vero ma si starò bene da sola tu vai me la immagino a ubriacarsi insieme alla mamma di Barry tu vai vivi la tua avventura mamma americana che beve con l'amica la tua mamma è molto contenta che tu abbia la possibilità di sperimentare cose nuove e fare nuove esperienze però torna a trovarmi di tanto in tanto non lo farai mai no peccato pensavo che magari mi dava un dolcetto una Barry per i pokemon no no Barry qui verranno registrate informazioni utili per la tua avventura puoi consultarle accedendo alla tasca gli strumenti va bene è la scheda tutorial ok ti serve qualcosa ma ti direi ci sono io non ti preoccupare perfetto scusate è qui il mio Barry come no non c'è oh deve essere già partito allora come faccio adesso si è messo a urlare che partiva e poi è sparito è così impulsivo incosciente volevo almeno che prendesse questo non si preoccupi glielo porta sub vero sub e dipende se è prezioso sul serio mi faresti un favore enorme grazie mille sub ecco qua lo puoi consegnare a Barry il pacco attenzione non si sa cos'è fatemi pensare conosco i miei combo scan deve essere andato dritto a giubilopoli ok te lo ricordi chi è combo scan si è l'evoluzione di torchic vero bravissimo 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 perfetto allora borsa pacco pacchetto da consegnare al tuo amico di infanzia che ha lasciato due foglie ok perfetto oh ti stai dimenticando una cosa importante mi ha curato i pokemon no oh è vero il berretto mancava è vero si quel berretto sta proprio bene sub adesso vai ok era talmente macroscopico che non l'avevo notato bellino ok perfetto è bellissimo seguire i tuoi passi si 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 è l'experience che vivi tu esatto esattamente esattamente mi sto divertendo un mondo sono la tua ombra bellissimo eh niente io ragazzi io qui faccio la mia choice e non catturo questo ve lo dico non catturerò alla riva eh ma anch'io non lo farò non esiste proprio boom dai dai ora siamo belli carichi qui eh altro che non abbiamo non abbiamo paura di certo di questo percorso dove siamo già non ancora non ancora ci arriverà il momento di avere paura esatto esatto si basta però passare basta cioè anche basta ah no è l'attacco non importa puoi farlo finchè non mi abbassi la difesa difesa benvenuto in Nuzlocke che bello che nostalgia che bello che bello per la prima volta guarda non hai idea di quanti anni erano che dicevo prima o poi voglio provare a fare una di quelle cose con pokemon ecco te qua esatto stupendo non poteva esserci in modo migliore allora d'accordo Michele io ho l'anti repellente cioè io sto trovando solo pokemon a ogni passo ti giuro non è mai successo ne prendo uno anch'io aspetto ammazza due pasti è vero eh ma qui qui si sta consumando una sfida importante ne va proprio della run allora questo lo devo catturare per il copokedex è un po' assi ahia ho ruggito ricordo alla chat a entrambe le chat che nel lago la cattura non è lo starter perché lo starter è un pokemon evento tutti i pokemon evento non occupano ovviamente lo slot della cattura certo di che natura hai starly dopo me lo fai vedere certo guardiamo io ti rivelo la natura del mio mio ma certo oh che bello che bello che bello mamma mia che canto mi piace il mood di pokemon mi piace un po' che ci dice questo bidouff hai nervi d'acciaio e niente poturbarlo è bellissimo è più agile e attivo di quanto sembra e pesa 20 kg non poco bel castorone no allora guardiamo un po' che cosa qui ovviamente tu lo hai catturato che va benissimo e lo metto nel pc adesso si senza fretta e tanto ricordati che non puoi usarlo ma se ti livella non succede nulla non è mal di niente non è che devi correre al pc poi ti dico che come let's go sbloccheremo il pc itinerante quindi sarà molto semplice ok intanto ho già il nostro il mio live index non mi serve un biduff evoluto allora allora guardiamo un po' ragazzi io guardo di che natura è questo bel biduff ma questo biduff è incredibile dai questo biduff potrebbe mixed biduff sai perché non lo so vabbè comunque ha imprudenza il mio ok la mia è cauta non è molto emozionante vabbè non è neanche sbagliata perché il ti rivelo questo te lo dico il tuo pokemon avrà un'inclinazione fisica quindi ti tira giù l'attacco speciale va bene poteva andare peggio allora ok si 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 perfetto perfetto l'abilità è sguardo fermo e insomma vedrai le abilità sono l'aggiunta più figa di pokemon le abilità sono sempre state veramente fighissime come concept terza generazione terza generazione si 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 quella che giocai l'ultima un po' distrattamente ok comunque ci siamo ok we can go percorso 202 aspetta devo curarmi devo ricordarmi che devi ricordarti che non siamo mai non siamo mai veramente al sicuro ah ho buttato scusate 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 ho buttato bidufa sblumbo scusate no 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 sblumbo mai no poverino scusate si si succede sempre anche a me nelle naslocke non preoccuparti c'è gente che va al cimitero senza meritarselo proprio un pokemon lanciato in mezzo a corpi putrescenti orribili comunque posso dire che è bellissimo scambiarti il favore vedere così tante persone interessate alla tua blind run di diamante perla no ma infatti è bellissimo quando vedo tutti quelli che seguono i numeri che fai con i souls e tutti è bene guarda è un scambio è dopo porca vacca tu pensa nei prossimi sei mesi tu pensa nei prossimi sei mesi che si fa vabbè allora leggende elden ring ti dico solo questo ah ecco l'usinda eh l'usinda vuole fare la maestra vuole fare il professore ma ci sono già io eh non ti ho ancora fatto vedere come si cattura un pokemon ne ho già uno ora ti mostro come si fa guarda con attenzione va bene old esatto stiamo veramente con questo doppio schermo facendo un overview di tutti gli starter io adesso chimchar vedo da te piplap che spettacolo quindi l'unico starter che manca qui a schermo è quello di Michele si è phalanx phalanx tu hai il mio schermo vero? assolutamente si assolutamente si lei qui fa qualcosa di estremamente sbagliato ma in realtà giusto perché non so se lo sai ma le pokeball hanno un catch rate che va anche in base al livello dell'avversario quindi più sono di livello basso più sono facili da catturare diciamo che in early game tirare blind una pokeball può avere successo anche a full vida vero 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 no ma questa è una cosa che capi anche da bambino visto? non male eh in realtà sarebbe meglio far diminuire i PS del pokemon da catturare più di quanto non abbia fatto io è importante farlo il più possibile un pokemon in buona salute è molto difficile da catturare un altro modo per rendere i pokemon più facili da catturare è addormentarli o causargli altri problemi di stato con delle mosse questo è quanto e per cominciare ti darò delle pokeball ah grazie a proposito ti parlo di concept che avevo da bambino e che non ho mai neanche googlato quindi proprio ascolto immagino spero che abbia un effetto diverso in percentuale la paralisi rispetto al sonno e al congelamento assolutamente sì ok perché il congelamento era un sacrificio infinito farlo anche il sonno il sonno è la strategia più efficiente per la cattura dei leggendari ma anche la più difficile da attuare il sonno finisce per esempio e la paralisi no ok 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 comportando con te molti pokemon potrai viaggiare con maggior serenità e sarà anche molto più divertente andare in giro in loro compagnia ora devo andare ci vediamo ok evviva questo è un nuovo percorso eh nuova cattura per quello ho detto evviva ok pokemon nuovo shinx va bene sono contento temevo i doppioni ok prepotenza se c'è un doppione come ti ho detto prima puoi schippare qui però tu avresti potuto trovare biduf eh sì esatto e invece hai trovato shinx esatto contentissimo ok allora shinx maschio azione si è attivata per caso un'abilità quando sì prepotenza che culo ah sì capisco molte cose adesso della tua esperienza ok ma quindi ma le abilità non sono fisse salvo qualche eccezione tipo hidden move o qualcosa del genere no ci sono tra le una e le tre abilità per pokemon ok ok le hidden in avventura principale è difficile averle ok eh no appunto appunto esatto le altre però invece le puoi trovare tu qui per esempio hai trovato shinx e lo hai trovato con prepotenza che è sicuramente l'abilità migliore per completismo ti dico che l'altra abilità si chiama antagonismo ok e ti aumenta il base power delle tue mosse se sei contro un pokemon dello stesso sesso e lo nerfa se sei invece contro un pokemon del stesso posto ok molto più situazionale come dire situational bravo di prepotenza che invece è un'abilità della madonna e ti fa un meno uno in attacco fisico sull'avversario all'ingresso cosa che tu puoi staccare durante la partita entrando e uscendo con quel pokemon capisci bene che in nuzzlock è tanta roba ma certo entrare su un pokemon e mandarlo a meno uno è ok è già a meno uno e non ho dovuto sprecare il turno per farlo esatto esatto bellissimo in caso di pericolo la sua pelliccia si illumina il nemico rimane accecato e lui ne approfitta per fuggire ah quindi è un timidone ok si protegge allora vabbè il soprannome qui è abbastanza scemino lo chiamiamo onusty perfetto così stiamo nel mood run veterana allora onusty non horny ragazzi onusty allora pokemon onusty ragazzi rispondo alla chat se non è cambiato qualcosa ragazzi è il meno il 25% contro i pokemon del sesso opposto io intanto stavo guardando una cosa per sub e non ho visto ho trovato shinx anch'io apre potenza o fa schifo al cazzo ed è antagonismo ok prepotenza bella lì dai allora ah il il triangolo con i cerchi è il simbolo di sinno immagino quello del pokadex no guardalo bene quel simbolo ne riparleremo si è il simbolo di sinno ha un motivo guardalo il tuo segno oscuro va bene guardalo bene molto bene ci starò particolarmente attento natura calma anche lui allora attacco giù di fa speciale su attacco allora questo non è proprio top ma sappi che shinx e la sua linea ok perfetto shinx e la sua linea sono mixed chiara è arrivata con l'evoluzione finale di shinx con un medesimo numero di attacco attacco speciale un medesimo valore quindi diciamo che magari cercherai di insegnare gli mosse speciali non fisiche esatto visto che sta messo così allora andiamo a curarci oh no per fortuna che per ora i pokemon fanno un sacco di debuff inutili al posto di uccidermi sì la IA di questo gioco ti avverto così almeno nel mindset giusto la IA dei boss di questo gioco è cattivella ok ok quindi dai dai selvatici aspetta ti cazzate ma dagli allenatori più importanti no va bene va bene perfetto corri corri tra l'altro aggiungo una definizione così anche chi è in blind può capire eh sì con mixed non si intende che attacco e attacco speciale siano di pari valore l'attacco di shink è migliore rispetto all'attacco speciale ma che entrambi siano viable in questo caso abbiamo circa 100 e qualcosa di attacco e circa 90 e qualcosa di attacco speciale ora non ricordo esattamente ma entrambi sono validi il peggior attacco è un 90 95 e quindi sono entrambi validi non significa mixed però che siano identici necessariamente ok ecco 120 di attacco e 95 di attacco speciale quindi è leggermente meno prestante in attacco speciale ma 95 è un gran bel valore diciamo che i valori dagli 80 in su sono interessanti quando si parla di base stop ok questo comincia a entrare nell'ottica perfetto tanto poi no no ma è importante per me entrare nell'ottica voglio assimilare quanto più possibile per ora non mi aspettavo di trovare un altro pokemon nuovo sono percorsi un sacco interessanti questi o no botta si si tra l'altro crick e tot non ti nascondo che è un pokemon che vorrei usare ah figo crick e tot bel pokemon crick e tot e sappi che la sua evoluzione è un meme per la community ma poi ti spiegherò perché come tu mi hai spiegato il dead ecco perché la chat è impazzita e non capivo ok il giant dead io ti spiegherò poi della sua evoluzione ma stupendo mamma mia che bilancia muove la testa avanti e indietro e le antenne scontrandosi producono un suono simile a quello di uno xilofono pokemon grillo coleottero nope tu non esisti ok oh hai trovato un bello starly esatto finché non hanno mosse speciali non mi cago addosso no no fai bene fai bene io sto facendo questa cosa folle di allenare biduf ma non seguire il mio esempio ok io farò le falanzate che fai tu in dark souls esatto esatto e mostrerò ai ragazzi come non si gioca una nazzlock si si no no si si io con falanz ho fatto proprio le falanzate capisci bene assolutamente bene 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 e tra poco siamo al primo trainer al primo trainer attacco rapido è un più uno esatto quello solo sapevo perfetto quindi se usi attacco rapido sarai sempre più veloce perfetto i nostri sguardi si sono incrociati quindi c'è solo una cosa da fare lottare ah that's so deep uno starly sarebbe stato utile aver già sviluppato attacchi elettro su shinks vero vero hai ragione ottimo ottimo mi piace questo coaching velo 5 che paura oh calmino oh calma oh critico brutto colpo che succede ah hai subito un colpo aspettate un attimo ah ha già toccato è tutto a posto ragazzi goober ha un angelo lassù che gli vuole molto bene oh rubiamo 400 dollari al bimbo sconfitto giusto giusto vai reckless vai reckless così i bambini non merita i pokemon che partecipano alla volta guadagnano più punti esperienza di quelli che non partecipano più farai lottare la metà più forti accidenti si la metà i pokemon con il condividi esperienza prendono circa la metà di quello in campo c'è un algoritmo che se vuoi ti spiego più o meno nel dettaglio i pokemon con meno esperienza rispetto al leader guadagnano più del 50% più sono vicini al livello del leader più si avvicineranno a questo cinquantello carino in realtà è molto più complicato di così però cerco di sintetizzare no no ma guarda in realtà sto percorso mi permetterà di finalmente anche assimilare un sacco bello 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 il sistema permette sostanzialmente ai pokemon davanti di livellare più velocemente di quelli dietro ma allo stesso tempo i pokemon più lontani dal leader si avvicineranno al suo livello più velocemente eh vedi la prepotenza ti dà una sicurezza perché entri meno uno quel biduf non ti darà fastidio anche se devi permettermi di fare il professore qui e dirti che esiste un'abilità proprio come quella di biduf perché biduf ne ha due e una di queste è unaware imprudenza ignora boost e nerf ok quindi attenzione anche se non ricordo mai l'esatto funzionamento di unaware e quali sono le cose ignorate e quali non ma mi correggerà la chat perfetto è utilissimo guardate ce l'ho io qua solo quella dell'avversario ecco a posto solo quella dell'avversario ignora sia i boost che i nerf ecco ok carino si equilibra del nemico infatti c'è scritto in realtà esplicitamente per capire dove mettermi nella grafica perché dove mi metto mi metto do fastidio eh si è difficile comunque si ignora le statistiche del nemico boost e nerf ok perfetto esatto chat major sidonia major sabato ah due pokemon cavolo ah ma comunque la sensazione è completamente diversa giocando così accidenti che figo dici in nuzzlock si eh si è diverso è ovviamente diverso poi vabbè ovviamente l'esponente di farlo insieme è non alla seconda allora ti arriva un'azione dolorosissima ma boom tra l'altro altra cosa che mi ricordano di ricordarti bravi ragazzi i colpi critici ignorano tra le varie cose ma a quelle varie cose ci arriveremo poi i nerf e i boost cioè i nerf i boost si i boost degli avversari li ignorano i nerf degli avversari su di te li ignorano i tuoi boost vengono però contati ok quindi se tu fai un colpo critico verso un avversario che ha più 5 di difesa quel boost non è contato ok ho capito se tu sei a meno 3 questo con l'abilità di biduf no 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 in generale come funziona il colpo critico il colpo critico è fortissimo punto ok quindi rompe l'armatura bravissimo bravo bel paragone che miseria corretto corretto rompe anche vari effetti secondari di alcune mosse ma ci arriviamo poi inutile riempirti la ram non pensavo che fosse così tanto sì sì esatto ragazzi non conta neanche i tuoi nerf quindi se tu sei a meno 3 in realtà sei a più 0 però se tu sei boostato in realtà conta anche il boost wow e c'è un pokemon in spada e scudo nei dlc che con delle mosse crita sempre al 100% non so se ci hai giocato all'isola dell'armatura no aspetta aspetta adesso ho capito ho la chat che mi dice che c'è una sovrimpressione sul tuo schermo cosa dovrebbe esserci ah ah ma certo ma certo stavo eh guarda adesso non c'è più ah ok 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 stavo guardando stavo googlando prima antagonismo per ricordare ah ok ok ecco cos'era ecco cos'era però lo avevo messo sullo schermo che sto duplicando colpa mia può succedere anche a me in qualunque momento perché ci stiamo ragazzi abbiamo creato un setup per fare questa cosa abbiamo tre monitor a testa tutto bellissimo ok con me ha giocato alla landa corona Michele non all'isola dell'armatura no esatto per questo chiedevo tu l'hai giocata all'isola dell'armatura su sword and shield sì 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 allora lì c'è Urshifu che critta sempre con la sua signature move oh 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 sì e infatti è un pokemon in competitivo particolarmente forte perché ignora una serie di cose comunque come mi dicevano in chat per darti ancora un'altra spiegazione sì dei crit molto più semplice il crit conta solo boost e nerf che ti tornano comodi e non conta tutti gli altri quindi se sei messo bene te te li conta se è nerfato l'avversario te lo conta ma se l'avversario è boostato o ha nerfato te queste cose vengono ignorate il crit è una figata in poche parole questa è la sintesi del mondo pokemon fantastico allora la natura di shinx l'avevo vista? dai com'è? dai dai è un pugno nelle palle però comunque poi c'è un po' di masturbazione ma che poeta professore sì perché mi tira sull'attacco bene ma mi tira giù la velocità male ok 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 oh finalmente il mio primo attacco super efficace mi chiedono in chat di spiegarti anche il concetto di crit pardiniano ti spiego anche questo il crit pardiniano è il crit che fai quando mancano due ps al pokemon quello che non serve a un cazzo ok ok importante ok 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 lodovico mamma mia attenzione qui era meglio avere il mio amico tartwee va bene tanto l'attacco non lo uso o meglio dovrei usarlo ok allora è il momento di provare a utilizzare la strategia sta per morire il mio primo pokemon ragazzi no 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 non perdere shinx eh no 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 ah ok no shinx è importante ragazzo importante ragazzi ovviamente se volete fare dei calcoli di IV anche a sub sentitevi liberi di farlo e di scriverle gliele in chat ok non c'è nessun problema perché i ragazzi sono talmente smart che possono calcolarti guardando le statistiche anche le IV dei pokemon più o meno con una certa forbice diciamo di errore che figata lodovico marmocchio tu lo stai facendo adesso lodovico siamo lo stesso allenatore esatto l'ho messo davanti no non basterà no 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 non fargli full misguardo a me non lo devi fare lo faccio solo io il protagonista crita ti prego ok non è critato però che ansia ragazzi sì sì anche io non sono partito particolarmente bene perché avevo piplap davanti a Shinx e ho e certo hai perso un turno dovuto fare del ritiro che figata dai dai però guardate prepotenza quanto aiuta tu entri in switch in con il tuo Shinx su quello dell'avversario e lo mandi a meno uno e non è male il tuo è Ornstie? Ornstie sì è un personaggio che non conosco o da Ornstein? è da Ornstein ok ok e allora let's go full misguardo anche fatto da quelli selvatici però mette paura io sto avendo dei battiti mancati perché sto Shinx è troppo lento e quindi ogni tanto gente di tre livelli meno di me attacca prima e mi guarda capisco perfettamente è la sensazione di tensione io ho tolto un pensiero ho speso 300 dollari ma vabbè you did good sotto carica ok eh no l'ho catturato perché così mi ha dato meno botte ragazzi è molto semplice hai fatto benissimo è un'ottima strategia certo ok ok ricordati anche che la fuga è una strategia talvolta altrettanto onorevole assolutamente not bad not bad io ho chiamato Shinx Sif ve lo vuoi sapere bellissimo ah quindi attacco rapido è un direct upgrade ok e ricordati anche che su Starly è particolarmente goloso perché è stab in quanto tu sei volante normale ah lui è volante normale uh già e avere un attacco priority che anziché fare 40 fa 60 ti dico che è golosone ok è golosone ok ci sono pokemon che ovviamente escono solo di giorno ma certo certo ok una bella pozione sempre utile ah siamo già arrivati a una bella città esatto arrabbiatissima ehi Sam come va con i pokemon ne hai già catturato qualcuno wow ne hai già 5 se vai avanti così il tuo pokédex sarà completo in men che non si dica a giubilopoli c'è una scuola per allenatori sai cosa penso dovresti farci un salto sub ti daranno qualche dritta sui pokemon Barry ci hai già stato per ora ti saluto però ciao carina ok simpatico questa è una delle città più grandi di Simo ok e ci arriviamo subito assolutamente città gioiosa ah ti mette anche la prospettiva questo nell'originale lo faceva un pochino forse no faceva cambiava inquadratura mi sa di no che sa allora e qui ovviamente non te lo sto a spiegare ma il modus operandi è sempre esplorare tutto assolutamente sì ah e ti dico una cosa ti do un po' di trivia facendoti il mio personale foreshadowing dei contenuti di leggende pokemon arceus nel senso che ok tu hai già visto dei trailer immagino di leggende pokemon arceus sì però diciamo che da questo momento in poi al di là dei trailer sarò io a spiegarti certe cose ok anticipandoti dei contenuti che già si conoscono giubilopoli sì è oggi quello che è l'evoluzione proprio del primo villaggio dei colonizzatori di isui in leggende pokemon arceus si chiamerà villaggio giubilo il luogo dal quale partiremo a gennaio questa è la sua evoluzione nei boh non si sa quanto millenni secoli probabilmente secoli però non si sa quanto villaggio giubilo diventerà poi giubilopoli bellissimo ok allora salve allenatore se ti trovi in un vicolo cieco e non sai più cosa fare chiedi al professore parla alle persone parla a tutti quelli che vedi vai in posti diversi viaggia più che puoi in questo modo si apriranno nuove porte i pokemon sono creature meravigliose avvolte nel mistero ma agli allenatori interessa soltanto lottare e ho capito agli uomini interessa solamente una cosa esatto è il gameplay loop è stracolmo di libri di raccolta e fotografica tema pokemon ok carino il quadro allora sono dei mantine oh quanto mi fa piacere questo commento quanto mi fa piacere questo commento abbiamo passato a zoomare tipo al 300 400 500 per cento questo quadro per un bel po' di tempo ok e siccome game freak in questo caso non ha sviluppato game freak ma comunque di solito game freak è solita inserire in elementi del genere dei teaser per la nuova generazione ci siamo chiesti ma sono per caso nuovi pokemon sono è un teaser a una coppia di leggendari uccelli abbiamo zoomato e sembrano dei mantine quindi ti do ragione anzi è stato più veloce di me nel capire che sono dei mantine è proprio la posa dei mantine no eh si per quello perché comunque io molto del pokédex dei pokemon non conosco non ricordo più che altro ma figo 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 si si il quadro di van gogh è stato anche qua potremmo leggere la cosa come un teaser a un olanda pokemon boh chi lo sa l'evoluzione è uno dei misteri che rendono così affascinanti i pokemon beh si lo sapevi lottando e diventando più forti alcune specie di pokemon si evolvono e quando lo fanno possono assumere un aspetto completamente diverso si dipende dalla capacità di designer bimbo allora allora ok ok è entrata segreta no non perdere di vista questa tua intuizione magari non qui magari non qui ma non perderla di vista ok prima di scambiarlo ho dato al mio pokemon uno strumento così chi lo riceve sarà doppiamente felice gemellini sto scambiando pokemon col mio amico ah no inquietanti croni sono amici molto 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 vicini ok ciao allenatore pensi di sapere molte cose su pokemon insomma no capisco non ne sai molto ah non devi preoccuparti c'è una scuola per allenatori lì ti insegneranno i rudimenti dell'arte di allenare i pokemon ok ok fico bene entriamo nel centro pokemon yes allora eh capelli lunghi anche se hai già 6 pokemon nella tua squadra puoi catturarne ancora quelli in più possono essere inviati ai box pokemon quindi si possono catturare pokemon a volontà perfetto a proposito di box tu tu allora ho sbagliato si magari ti puoi ti puoi anche differenziare mettere che ne so un box 2 quelli in più e quelli invece rinominati nel box 1 vedi tu insomma così almeno felice è osato lasci una riga bravo esatto esatto come ti trovi meglio come ti trovi meglio allora lo sai che ci sono diversi tipi di pokemon ad esempio acqua fuoco ed erba ciascuno può essere più o meno avvantaggiato rispetto ad altri nella sala locale al piano superiore puoi lottare e fare scambi con altre persone e non è tutto vai a dare un'occhiata si non è tutto va a vedere questa è la sala locale sbricciatela ci sono soltanto NPC dietro vuoi cambiare aspetto della sala della sala contà è per le funzioni online ti direi di rimandare questa cosa alla prima città dopo questa perfetto perfetto perché ti farò invadere ma ci arriviamo ci saranno le invasioni oh mio dio si si ne avevamo parlato bellissimo ok top mi raccomando ragazzi se state restartando il gioco fate la cosa migliore perché vi permetterà di combattere contro Michele a un livello insomma decente qui Michele puoi vedere la rara arte di commercializzare giochi non ancora del tutto completati no davvero no non c'è ancora la compatibilità con GTS Pokémon Home probabilmente verrà aperto su Diamante Lucente Perla Splendente credo a gennaio con Leggende Pokémon Arceus questo è il GTS quindi è il droppo un Pokémon online cerco questo Pokémon e poi vado a vedere si no lo so era la migliore aggiunta mai vista in XY però bravo porca miseria tutti volevano i ratat tutti volevano i ratat però la Pokémon Home tra virgolette vabbè se la paghiamo quindi vabbè tempo al tempo vabbè non spingere comunque signora cioè posso allontanarmi da solo allora oh vediamo un po' se hanno da dire vabbè questo niente immagino vediamo il tipo erba è debole nei confronti del fuoco fuoco vabbè bimbo d'accordo potevi anche dire tirar fuori cose più complesse stracolmo ok anche qua stracolmo i Pokémon sono capaci di usare gli strumenti che gli vengono dati però non sanno usare da soli certi strumenti creati dall'uomo come pozioni antidoti ok ho scritto un tema nel quale ho spiegato che cos'è un vero allenatore beh dimmelo oh hey sub sei anche tu qui per imparare io ho già memorizzato tutto ciò che era scritto sulla lavagna in fondo il compito di un allenatore è evitare che i suoi preziosi Pokémon si facciano male durante le lotte no? e allora sub qual buon vento ti porta qui? oh hai qualcosa per me? ho consegnato il misterioso pacco yes wow è una mappa città ma perché ce ne sono due? averne uno è utilissimo ma due non mi servono proprio tieni sub grazie Barry grazie a giudicare dalla mappa il prossimo posto da visitare è Mineropoli c'è una palestra quindi potrei allenare i Pokémon che ho appena catturato sono sulla buona strada per diventare il migliore allenatore di tutti i tempi ci si vede ok ragazzo ragazzo si con cautela ok con cautela ok con cautela con cautela un cautela avvelenato se un Pokémon è avvelenato perde punti salute gradualmente e non guarisce alla fine della lotta per curarlo serve un antidoto quale problema di stato ti interessa? si stai vedendo praticamente un overview esatto se un Pokémon è paralizzato la sua velocità si riduce questo è molto importante esatto ma si dimezza mi sembra peggio durante la lotta in realtà è cambiata forse ora non ricordo se ora è solo il 25% no forse è metà prima è 25% dopo non ricordo mai le percentuali ok ma comunque si si riduce durante la lotta a volte può anche non riuscire a sferrare le mosse la paralisi permane anche dopo uso un'antiparalisi ecco prima era 25 ora 50 ok un Pokémon che dorme non può attaccare può svegliarsi per conto suo ma se la lotta se la lotta finisce mentre è appisolato continuerà a dormire mamma che incubo destalo qui ti ricordo che un Pokémon deve sempre dormire il primo turno in cui è stato addormentato cioè un turno di slip lo deve fare per forza ok 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 quale problema di stato ti interessa scottato questo è un dot le scottature riducono l'attacco e fanno diminuire costantemente i PS inoltre persistono che dopo la lotta congelato l'incubo finale se un Pokémon è congelato non può fare nulla a volte si scongela da solo ma questo non succede se il congelamento permane anche dopo la lotta vabbè certo ci sono però delle mosse che ti scongelano al 100% come ruota fuoco non lo sapevo poi c'è idrovampata e credo turbo fuoco quindi ho capito ho capito quindi mosse di avversari ti possono sciogliere esatto e magifuoco ecco magifuoco anche ora ragazzi queste cose qui sono cose enciclopediche che non memorizzerò mai tutte bimbo fottite aspetta un secondo fammi tornare qua oh dammi un secondo e ogni mossa fuoco se subita scongela ah ok ok io parlavo in questo caso ragazzi di mosse fatte dal congelato ok e scoldi infatti idrovampata sul sulla scottatura non so se l'hai letto di mezzo anche l'attacco fisico ah ah ok ok la scottatura è importantissima più per quello che per il doss esatto esatto incredibile perché mi ero distratto dalla chat che mi diceva se usi tu quelle mosse fuoco ti scongeli ho capito esattamente perché colpiscono anche il tuo alleato intendo no 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 proprio se tu sei congelato pokemon congelato e usa ruota fuoco si scongela carino si si ok va bene vai mio pokemon ti prego o starling si delicato Harry scolaro guarda che carino apra bellissimo apra oh no è forte vabbè no sarà di livello basso allora lo psico con il volo mi sembra sia abbastanza ininfluente ricordati che nel mondo pokemon c'è anche il concetto di coverage cioè i pokemon psico non necessariamente hanno mosse solo psico giusto 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 assolutamente giusto vabbè però dai su dai joel eh dai è forte joel come ti dicevo non necessariamente hanno mosse solo psico allora ci ho provato io ho visto starli davanti e ho capito che sarebbe stato moment before the disaster allora beh non può sopravvivere al prossimo attacco quindi puoi switch è vero hai ragione in teoria dovresti chiuderla a precisione 100 no tipo si a precisione 100 ok io io c'ho l'ansia avrà vai giù cazzo ok ho temuto molto amico mio per questo scontro ho temuto io ho cominciato a dire cose sugli status ma chi era di qua sape che ero in iperventilazione da 10 minuti il coverage non pensavo che fosse così preciso contro quello che avevo tra l'altro lo scolaro proprio canon ok con prudenza con prudenza con prudenza allora a questo punto torna pure a casa Valance allora ah mi hanno calcolato l'AV perfetto va bene anche se il margine d'errore in questo momento sarà elevatissimo e vedrai delle forbici tipo potrebbe avere 16 o 30 in V si no si si 6 20 5 18 8 si 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 hanno fatto ok e tu si si dai devo mettere in pratica le cose che ho imparato altrimenti me le dimentico ok questi sono Ornstein e Smaug ok esatto entra in quest'ottica guarda chi c'è Brunel oh no ma ma non so se nel panico hai notato un dettaglio cos'è successo cos'è successo dopo raggio scossa beh che c'è stata c'è stata un'altra animazione dopo di elettricità ma non era uno status mi sembra no allora dopo raggio scossa Abra si è boostato ah si 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 lo so lo so lo so si si è una delle cose che mi ha spaventato raggio scossa ha come effetto secondario di avere una chance di boostare l'attacco speciale e raggio scossa è un attacco speciale raggio scossa è un attacco speciale ma ti devo mettere nell'ottica e ora vado a prendermi il numero preciso della situa così almeno ti prende un po' di strizzino che è giusto che ci sia un pokemon livello base solitamente c'è stadio base ha delle statistiche offensive che vanno 30 40 base power va bene si Abra ha 105 di attacco speciale ha più di quanto hanno alcuni alcuni pokemon a livello massimo a livello massimo ah beh ok ok io sono molto stanco no basta per fortuna che sono erba cazzo non mi paralizzare però oh no si è boostato eh vabbè resisti si 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 non ho problemi questo è ottimo ah attenzione ok non switchiamo con starly veramente carina animazione dell'allenatore dietro ah raggio scossa non paralizza ok 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 no perché l'effetto secondario solitamente è uno ah chiaro pensavo che potesse essere una combo va bene mi dico quello che ho studiato pensavo di avere delle buone chance beh in realtà si le avevi è un glass cannon esatto speravo di fare meglio esatto ma la tua abilità mi ha impressionato se vuoi puoi parlare dal mio amico e farti dare qualche macchina tecnica ah si ho vinto dammi la macchina tecnica se l'hai meritata noi studiamo diligentemente ogni giorno ma sei riuscito comunque a darci una bella lezione sento che saprei usare al massimo questa MT ma avevate scommesso contro il maestro no perché bestie guardi ah ora ora ne parliamo un attimo eh questa cosa ragazzo va discussa eh si perché sono use jet mh si allora le MN bar cioè le MT diciamo di questo gioco sono use jet come negli originali esatto ma ti verranno date in copie aggiuntive ok quindi riceverai due o tre copie della stessa MT infatti ti ha detto hai ottenuto delle MT10 non le MT10 va bene va bene ora ah ecco perché parlava al plurale infatti ecco esattamente dai pure un'occhiata alla MT che hai preso esatto mi ha già detto cosa serve ma e guardatela bene così esatto chi la usa si tira su di morale aumentando il proprio attacco e l'attacco speciale quindi fondamentalmente servirebbe ah al pokemon che non puoi impararla va bene ma tanto era comunque di natura che non conveniva alimentare quindi beh però attacco e attacco speciale vuol dire che busta entrambe le soluzioni offensive quindi direi che è utile per tutti i pokemon che hai conservatela quando poi vorrai puoi darla esatto esatto mannaggia ho sempre pokemon con bonus inferiori vabbè ok ok perfetto nature che distruggono allora ottimo ottimo bellissima sta cosa un buff carino carino allora ora però posso aprire la mappa finalmente bravissimo e dare una schiatina eccola ah vedi proprio capitale quattro quadretti la città più moderna della regione di sinno pullula di gente che va e viene qui si trova la pokecron spa l'azienda che ha sviluppato e prodotto il pokecron quindi qua abbiamo centro pokemon pokemon market questa spa la giubilo tv la scuola per allenatori e il cat content va bene allora il cat content bravissimo esatto oh 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 adesso si va dai hai visto è la città praticamente tecnologicamente più avanzata esatto fa ridere il fatto che sarà anche la prima e quindi una delle più antiche esatto è una bella scelta ma guarda ti considero un allenatore di pokemon ma non hai ancora il pokecron lo sai cos'è vero incredibile non lo sai sei un caso raro io sono quello che l'ha inventato che ha inventato i pokecron e ora li produco anche e li vendi per strada ai bimbi va bene hai una spa non solo al momento sto portando avanti una campagna promozionale non devi far altro che trovare tre clown a giubilopoli sarebbe bellissimo se fossero degli allenatori deboli se li trovi avrai in regalo un pokecron va bene grazie oh no ogni clown ti porrà una domanda per testare le tue conoscenze è l'esame seed il pokecron è uno strumento per allenatori di pokemon quindi ovviamente le domande hanno a che fare con esse fatti dare un coupon da ciascuno e poi torna a trovarmi ah eccolo gigantesco inquietantissimo ecco sei pokeball pronti all'uso nella cintura come nessun nessun allenatore ha mai detto e si puoi portare con te fino a sei pokemon e dalla chat mi ricordano di ricordarti che barry non vale come clown sono un clown della campagna promozionale per il pokecron ecco la mia domanda beh si eh mamma mia va bene i pokemon diventano più forti se sconfiggono altri pokemon nella lotta alcuni cambiano completamente questo fenomeno è detto evoluzione eccoti il coupon va bene yes 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 allora immagino siano tutti più avanzati non sono spavonati ok che abbiamo pensavo che tu stessi andando a curarti mi avrebbe fatto strariderti tipo vabbè per sicurezza mi curo vabbè ecco ho chiuso la macchina allora esatto giubilopoli è stata costruita sul terreno scavato da una montagna oh almeno mi stai facendo sparaflesciare scene di arseos sì esatto hanno contribuito all'impresa anche i pokemon e la gente di mineropoli bellissime le audio animation che partono sembra che gli rispondo io ho studiato in questa scuola per allenatore credo che con lo studio anche tu potresti diventare un po' più forte schicks ok oh bene la fontana ok pokémarket bambino ok se vuoi abbassami pure la risoluzione del tuo schermino perché vedo che stai laggiando ah si eh allora un pochino vediamo più che altro con la voce nel caso anche se me lo dai in risoluzione minore non si verrà ah si si sto dando sto avendo qualche spike vediamo un po' ti vediamo se riesco eh ok perfetto abbasso un po' chissà ogni tanto la linea qua è abbastanza normale purtroppo prima o poi prima o poi eh lo so lo so ok no non molto io ti vedo ancora perfetto 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 ti sento anche molto meglio ok tanto vedrai la risoluzione con quanto è piccolino lo schermo non serve chissà che cosa assolutamente salve posso esserti utile puoi essermi utile in realtà ah no no tante di pokeball figurati pokeball curativa che ridà la ps no non serve adesso non c'è necessariamente per spendere soldi per riscoprire le pozioni bravo pozioni importantissime ok adesso lo abbiamo ti parare ne compro altre tre sappi che come tutti i giochi pokemon abbiamo una musica come quasi tutti i giochi pokemon abbiamo una musica di giorno e una di notte per le città ok quindi qui stai ascoltando il tema di giubilopoli notturno e sappi che altro trivia tutta la musica di sinno è jazz ok se vuoi catturare un pokemon devi ridurre i suoi ps se non lo fai potrebbero non essere efficaci le pokemon che gli tiri va bene comunque ragazzi è bellissimo siamo ancora più di 9000 persone totali qui 2008 da Michele 6500 6600 ma poi ragazzi state partecipando siete entusiasti siete meravigliosi scusateci se non vi diamo priorità ma vi percepiamo veramente è eccezionale la cosa che mi serve di più sono le pozioni puoi dirlo forte non mi piace trovare le strette quando i miei pokemon sono esausti va bene allora ok vediamo un po' se giù giù ok oh un altro clown yes giubilo tv da dove viene ah due foglie un bel posto molto tranquillo giubilopoli invece è molto grande scommetto che rimarai a bocca aperta eh già lo sono va bene dimmi tutto eh sì beh dai con il professore esatto esatto difficile per niente in alcuni casi basta dare uno strumento al pokemon perché abbia effetto nel caso delle bacche invece il pokemon è il pokemon a mangiarle quando ne ha bisogno durante la lotta ecco ti yes ok ah questa è proprio giubilo tv certo c'è anche esatto ok la super gara show ho l'impressione che i pokemon che porti in giro con te piano piano si affezionino sempre di più me lo auguro è la famosa amicizia di qui sopra esatto esatto qui si si ok qui dice città gioiosa è l'entrata ok e questo invece è pokemon spia ah pokecron io sono il clown va bene anche le mosse se se la mosse è dello stesso tipo del pokemon la sua potenza aumenta eccoti il coupon perfetto ah vediamo un po' sono curioso vediamo un po' cosa è sto aggeggio vai vai che poi ti racconto un po' di cose su di lui oh dai 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 ah usa il pokecron per contare i coupon vabbè uno due tre meraviglioso tieni allora ok godopoli puoi rendere il tuo pokecron uno strumento ancora più versatile aggiungendo delle app ok il pokecron puoi attivare il pokecron premendo il pulsante R e usare le applicazioni toccando lo schermo per chiuderlo tieni premuto il pulsante R quindi se adesso io premo R non succede niente eccolo eccolo qui è bellissimo ok hai due modalità R premendo R si ingrandisce ripremendo R si rimpicciolisce tenendo premuto R sparisce che è la modalità mia preferita quando si toglie dal cazzo esatto detto questo detto questo questa diciamo modalità ti faccio un po' anche proprio di ciceronaggio storico che immaginerai avendo giocato The World Dance With You in versione Switch perché so che l'hai giocato è una di quelle meccaniche che soffre la conversione DS Switch devi immaginarti il pokecron come lo schermo inferiore del DS e quindi un tool sempre accessibile contestualmente all'opera di sclorazione è certo qui non è così cavolo quindi da una parte ti occupa un pezzo di schermo ed è il problema minore dall'altra alcune sue funzioni ti richiederanno di metterlo full screen e interrompere proprio l'esplorazione specialmente in ricerca strumenti vedrai quando lo sbloccheremo è molto scomodo purtroppo il pokecron non ci è arrivato in salute secondo me in questo diamante lucente per la splendente altre cose sono riuscite sono riusciti a convertirle in maniera migliore il pokecron secondo me quello che hai messo davanti a te è il contapassi il contapassi ne abbiamo già fatti più di 5.000 tu ne hai fatti 700 più di me quella è tutta la paura di perdere le cure che hai fatto in più ma è normale giusto così il contapassi è particolarmente caro alla fanbase pokemon ma non puoi ancora sapere perché ok quindi non per le uova no quella è un'altra cosa fico 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 ok 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 carino ok la calcolatrice è buggata una cosa non sappiamo perché ok no la calcolatrice non si sa che cosa a volte fa dei risultati esotici va bene perfetto ah non mi fa entrare il clown va bene condominio ok vediamo poi ora si proprio tu tu con quella bella sciarpa avresti dovuto vedere quel ragazzo che è passato di qua correndo prima andava talmente veloce che non ho potuto nemmeno salutarlo va bene Barry adesso possiamo entrare ok chissà qualcosa si trova come piani oh quanto sono adorabili i tuoi pokemon prendi dagli questo rapido artiglio addirittura cominciamo con i regali strumento non male come strumento eh ora sono curioserò non conosci il tuo effetto no ok se dai un rapido artiglio e un pokemon a volte attaccherà per primo anche se non è molto veloce ah ok è una priority forzata carino oh ok 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 quindi posso andare in borsa trapidarti gli dai ah perfetto carino carissimo bella l'icona ogni tanto ti procca una priorità e anche se magari capito anche se magari il tuo pokemon è più lento dell'avversario attacca per primo come se fosse attacco rapido ma con qualsiasi attacco però è una possibilità non una certezza e direi meno male sì no no cioè sì broken eh non è bellissimo il mio pokecrown senza un allenatore si sentirebbe perso beh se la calcolatrice è buggata non so signora allora ahahahah che proprietà medicamentosa avrà mai lo spazio interno di una curable eh guarda è impressionante sapere la tecnologia delle pokeball come è costruita già ancora un mistero eh pensa mi piace che poi solo recentemente mi sono ricordato che le pokeball si ingrandiscono se premi il pulsante no mi piace quando i pokemon usano le loro boss ok e va bravo esatto e a volte quando diventano più forti ne imparano di nuove in questo modo la lotta è più varia e io mi diverto di più eh sì ok non devo xare qua perché non siamo in dark souls 2 perfetto scendiamo basta è un condominio piccolissimo mi aspettavo è un palazzo altissimo ok vediamo qui a nord abbiamo il cartello di giubilopoli eh ma qui abbiamo un sacco di eh come si fa è un nuovo percorso eh sì in teoria abbiamo Barry abbiamo Barry a destra vai tranquillo io ti seguo non mi faranno passare mai allora non è quel tipo di gioco pokemon ah no no oddio il percorso 218 è un luogo fantastico per la pesca ma in pochi lo sanno dammela l'uogo vecchio è ottimo non lo pensi anche tu certo è fantastico oh quindi ora posso fare risk and reward con Magikarp perfetto mhm eh sì non si sa mai sì sì è classico ma vai ok sei un pokemon una bocca appare un punto esclamativo e tu puoi tirarlo fuori dall'acqua va bene però mappa città ovviamente se fallisci la pesca puoi riprovarci eh l'importante è che quando trovi il primo pokemon quando sei in combat certo 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 canaripoli canaripoli ah c'era ah vedi c'era ma dai bellissimo non ti spoilerare le descrizioni fai come fossero caricamenti di dark souls assolutamente allora che figa eh no non posso non avere un Magikarp ma non scherziamo allora vediamo un po' borsa posso assegnarlo a un tasto immagino assolutamente sì allora vai premi il tasto A e fai assegna e scegli una direzione poi eh tasto più del joycon ok attualmente partirà da solo perché è l'unico assegnato poi dopo dovrai scegliere la direzione carino carino però ah vero l'ho visto scendere ma non c'era il punto esclamativo ero troppo arcade eh eh non preoccuparti non preoccuparti puoi provarci quante volte vuoi non abboccheranno noi abboccheranno tu vai con pazienza e con calma dai diretto Geridos shiny no eccolo sarebbe magikarp femmina me l'ha insegnato chiara questo è un Magikarp femmina come hai fatto baffi bianchi ah dai bellissimo me l'ha insegnato chiara nella nostra run fatta ora se esarmai è un Magikarp non tradirmi Magikarp grazie Magikarp perfetto ah ok io l'ho trovato maschio ah carino ok allora si dice che sia il Pokémon più debole del mondo nessuno sa come abbia fatto sopravvivere fatta mia è il pesce luna fondamentalmente si sono sempre molto cattivi con Magikarp sappilo sono brutali ok vuoi dai tra l'altro ti do un piccolo int praticamente c'è un piccolo int un piccolo trivia ecco mettiamola così intanto ti leggo anche Magikarp di qua non riesce a risalire nemmeno le correnti più deboli dalle quali viene trascinato via sguazza qua e là senza apparente motivo ti dicevo in quarta generazione in realtà avrebbero voluto in origine introdurre differenze di sesso per ogni Pokémon a livello proprio estetico cavolo poi hanno scartato quest'idea durante lo sviluppo perché probabilmente sarebbe stato un casino da sviluppare nei media paralleli di Pokémon anime fumetto eccetera eccetera e quindi ad oggi solo alcuni Pokémon hanno la differenza di sesso come il Magikarp che hai visto adesso ma in una beta l'iccata tra l'altro pochi anni fa di Diamante e Perla è venuto fuori che tantissimi Pokémon avrebbero avuto una differenza di sesso anche abbastanza vistosa cavolo cavolo che peccato tra l'altro se trovavo il Magikarp dorato potevo chiamarlo Shenia perché diventava il Geridos rosso e lei ha capelli rossi come personaggio vabbè allora vediamo un po' in effetti ma non posso chiamarlo Carrotino diventa azzurro evolve dovrà ben riuscirci a evolvere quindi visto che abbiamo fatto i giochini con i nomi Souls ed è questa l'avete run run specchiata lo chiamiamo dobbiamo storpiare il nome di Sith vediamo un po' perché diventa azzurro allora vediamo un po' anche perché le scaie qui non ce l'ha esatto allora vabbè facciamo come onosti Sith sì 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 così si offende sniff e se è femmina state scegliendo state insomma in qualche modo volendo imporre un gender a Sith scusate ragazzi non si fa allora andiamo così Sith è un nome più femminile lo Sith no? carino perfetto allora potevate chiamarli Zulli e Alba è vero ok e ora qui? ah qui? puoi tornare ah è un percorso sfidami sfidami avevo un appuntamento con il mio ragazzo sul percorso 218 ma lui non c'è oh no poverina è andata è una storia veramente triste questa terribile io l'ho chiamato Belco a questo punto ok così abbiamo questa Sith e Belco bellissimo ok let's go termine ardito durante il gameplay di questi giochi però ahahah ahahah eh uno scienziologo puoi stare certo che continuerò a sviluppare nuove applicazioni non potresti con Reggarni Una prima il mio Poké si evolve proprio come i Pokémon salve sono il presidente della Poké S.P.A. Sto lavorando una nuova applicazione Per il Pokéchron ma non è ancora completa Credo che sarà pronta quando avrai ottenuto una medaglia Diciamo che possiamo Se vorrai tornare qui Ogni tot per prendere delle applicazioni Cosa siamo Un'azienda a condizione familiare Niente di eccezionale Ma si buttano giù così Ok Ecco sì e Ferdy mi ricorda Un momento della storia di Pokémon Che voglio condividere con te Durante il countdown per l'anniversario Di quest'anno il primo tweet Fu meno 4 let's go E la gente andò nel panico Pensando che sarebbe arrivato l'annuncio di un nuovo let's go Oh mamma mia Oh cavolo Hanno ragione loro però Quando sviluppiamo delle nuove applicazioni Per il Pokéchron cerchiamo di metterci nei panni Degli allenatori Ciò che conta per noi è che gli utenti siano soddisfatti Ok va bene Perfection E ammazza i super computer Fighissimo Ammazza la faccia della famiglia Bay server hai visto? Sì Ok Gran bay server Altro piccolo trivia che ti do Pacirisu il Pokémon che vedi qua sotto Sì questo è il Pikachu Di questa generazione Ed è anche campione mondiale Del 2014 Ah mazza Fece molta notizia questa cosa Perché è un Pokémon Che si dice essere scarso In realtà la verità è che non lo è È fortissimo E in quel meta lì era stragiusto da utilizzare Vince un coreano Sejumpark Ancora oggi uno dei migliori giocatori al mondo Wow Me lo andrò a vedere È campione mondiale quel Pokémon lì Non è un nome interessante Ora che ci penso Che cosa significa esattamente? Oh e comunque Io sono il padre del presidente Della SPA Va bene Potrei chiederlo a lui Allora Vivid Amico Pokémon Normale Pokémon Adorabili Pokémon Gran merda Gran merda È stracolmo Va bene Siamo tutti molto opulenti Allora Lista Pokémon Nella lista Pokémon puoi vedere Lo stato dei Pokémon della tua squadra Toccantoli puoi sentire il loro verso Si vede anche la barra di PS Su quale applicazione Pokémon è? Per ora Carino che mi hai spiegato Non hai altri tutorial Esatto Eh No è presto È presto Ah 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 Ci sono Ah sono cose diverse Con la calcolatrice Si possono gestire numeri Con un massimo di 10 cifre È utile per risolvere domande Di matematica Che ti potrebbero venire poste Su quale applicazione? Verifica amicizia Indica quanto è forte Il legame di amicizia Stabilitosi tra te E i Pokémon Tocca lo schermo I Pokémon che sono tuoi amici Si avvicineranno Ah sì? Beh Yes Immediatamente da provare No R Esatto E con la le... Guarda guarda aspetta Se vuoi switchare applicazione Premi R Lo puoi fare anche in un modo più comodo E levetta R Diciamo la levetta Però l'analogico R3 Per capirci Non so come si chiami sulla switch No infatti È carino Significa che non mi caga nessuno? No è che ancora non ce l'abbiamo Mi sa Ah quindi mi hai dato una guida Ah era un'altra cosa Ok ok Era un'altra proprio Nell'applicazione Citata girano per lo schermo Ok In teoria Quindi è un super spoiler Ah proprio Ok Una cosa ce l'abbiamo invece L'orologio Oggi digitale Indica l'ora attuale Non arrivare tardi Agli appuntamenti con gli amici Come poco E la povera ragazza Allora Fondamentale Tantissime persone creano applicazioni per il Pokéchron È l'App Store praticamente L'App Store Sì Ne riceverai alcune da fonti inaspettate In questi PC troverai delle guida di diverse applicazioni Va bene Che abbiamo già visto Qua ci c'è un altro PC Attenzione Conta passi Registra il numero di passi che hai fatto Funziona automaticamente Devi premere il pulsante solo se vuoi azzerarlo Carino Un giorno ti farò vedere una mia live sul contapassi Mamma mia Volentieri Ok Perfetto Ok Ok allora Questo abbiamo fatto A questo punto Facciamo Diamo un'occhiata a nord Bravissimo E c'è un'altra cattura Ricordatelo Ah questa Ti do un trivia importante qui perché altrimenti cadi in errore Con l'amo vecchio si catturano solo Magikarp No Non avevo dubbi in realtà Ok Ok No questa è una cosa che non è mai cambiata mi sembra no? No praticamente mai Eh infatti Ok quindi quando avrò surf potrò prendere quell'oggetto Oh no Questa è cattiva Mi sembri deboluccio Ok Ok cattiveria No Buddeo Dai dai Togligli un po' di HP Vai Uccidilo No Vabbè Ok È pericolosamente vicino al mio livello questo bitus Ma che vuole? Livello 7 Ma come si permette? Ho fatto anch'io il critico pardiniano Eccolo Eccolo Critico pardiniano Mi scendono le lacrime sentirti dire queste cose Sarebbe da tenersi Magikarp in cima eh Però non lo facciamo Dai Io qui mi gioco la monetina esplora bene Sì no ma infatti Stavo guardando che sono un cretino Mi gioco la monetina esplora bene Antiparalisi Perfetto Beh che Nella Nuzlocke non è male Ma per niente Allora vediamo un po' Pokémon Guardi tanto che Joy l'ottenesse qualche evoluzione Allora Guarda il bimbo eh Ma si incazza No Vincerò con i Pokémon che mi ha dato mio papà O glieli porterei morti probabilmente Visto che tutti giocano la Nuzlocke Se no io gioco la Nuzlocke Ah Magikarp Ottimo Tuo padre ti ha un po' preso in giro è uno stronzo Non ti vuole bene Allora Ah brutto colpo In realtà questa è un'ottima occasione per È veramente un'ottima occasione per buttare in mezzo anche City Vieni City Una battaglia avvincente Porca miseria Che però È intelligente da parte tua Perché sai bene che Altrimenti prenderebbe il 50% L'esperienza e qui è super safe Perché non ti può far niente l'altro Magikarp Esatto esatto That's the idea Però senza fare il farming pazzo L'importante è che Magikarp Prenda qualcosa in più C'era un video Che ho visto tanto tempo fa Di un ragazzo che utilizzava Splash Con una combo Per fare dei danni assurdi Non mi ricordo Oddio sai che mi sfugge questa cosa Eh poi te lo cerco Te lo cerco È una cosa antica Utilizzava tipo un contrattacco particolare Attraverso l'uso anche di Ma forse no Forse era Magikarp Non Splash Magikarp sicuramente Perché ha flagello Che si può esplotare bene Eh ok Era Magikarp Sì era Magikarp Non Splash O forse Ah forse sì sì Aspetta 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 Mi stanno ricordando in chat Con Z La mossa Z Splash Z Forse Può essere Può essere Che se non sbaglio Ti bustava a fare l'attacco Eh beh mi sa Mi sa che era quello Mi sa che era quello Sì 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 Splash Z Che figata Attacco d'ala Finalmente Più tre ecco Ah sì eh Non puoi niente Contro di me Guardalo guardalo Come sta acquisendo sicurezza Il ragazzo Pur in Nuzlocke Sì certo Finché ho il figlio Col papà che non lo ama Allora senti Ti dico questo Nei vecchi giochi Pokémon La mossa autodistruzione Barra esplosione Dimezzavo alla difesa Ok Era una sorta di bonus Perché il tuo Pokémon muore Ma almeno L'avversario prende un botto di danno Io ho fatto la Nuzlocke Di Argold e SoulSilver E ho perso la metà dei Pokémon Perché mi esplodevano in faccia Ai nemici E non c'era niente Che io potessi fare Porca miseria Già Vai Susanna Con calma però Ah Budi Carino Serenità Mamma mia Joel gode adesso Finalmente può fare il suo attacco Scoppialo Scoppialo Susanna E niente Mi dispiace La tua Pokéball Adesso contiene Un corpo inerme Quanti soldi hanno Sti bimbi Porca miseria Allora Wow Addirittura una grotta Cammino roccioso No Sarà buio pesto dentro In quella caverna Ci sono dei massi Che bloccano la strada Forse una bossa MN Del Pokéchron Da Quindi sono state rese Ok Ok Mi dicevi che erano cambiate Sono cambiate così Esatto Buono E quindi qui posso Attenzione Attenzione No No Zubat è speciale In realtà è fisico Questo te lo posso dire No Scusa No 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 Intendevo Era una battuta Perché uno Zubat In una grotta Non è per niente Raro Non avevo capito No In realtà Perché io stavo Proiettando emozioni Sincere E non fazurla Perché stavo pensando Che Crobat E' uno dei miei Pokémon preferiti In assoluto È molto forte anche Io adoro Crobat Io amo Crobat Io vivo Per Crobat Beh Crobat Potrebbe essere Un bel commilitone Perfetto Allora Vediamo un po' Dai No ma Crobat Per me è fondamentale Cioè Sarebbe stato Un perfetto Joel Un bel ragazzo Crobat Guarda che bello Non ha occhi Ma avverte gli ostacoli Con le onde ultrasoniche Che mette dalla bocca È un Vabbè Un perfetto Allora Non Petrus Io ho trovato Petrus Nel senso che Proprio di Petra Oh Geodude Bellissimo Allora Lui Lo chiamiamo Con un nome simbolico E dolcemente infantile Lo chiameremo Anche per citare Nickname Che ho conosciuto Nella mia Crescita e vita Veloci Zubat è velocino Sarà velocissimo Crobat È un pokemon veloce Crobat Sì Crobat è velocissimo Principalmente conosciuto Per la sua velocità Ti dico di Geodude Che è impossibile Distinguerlo dalle rocce Si scaglia contro i suoi simili Per vedere chi è più duro E lo chiamiamo Petrus Fantastico Petrus è perfetto E a questo punto Io sono E qui purtroppo è finita Nel senso Qui il percorso Io sono indeciso Visto che non ho avuto Incontri casuali Non lo so Questo è un altro percorso Giusto? Eh si Si E qui non hai ancora trovato Nessun pokemon Non mi sembra A meno che Ragazzi Ho fatto Non ho fatto incontri casuali Vero? Non li ho incontrati Ah vi faccio vedere la natura Bravo Faccio vedere anch'io la mia Eh infatti È mite Eh meh Meh perché attacco speciale Zubat non mi sembra molto Sia io che te abbiamo trovato Due gran merde proprio Puzzano di merda Questi due pokemon E Sithy Vediamo Sithy Docile Diciamo che Come mi ricorda Ferdi Qui di giorno trovi altri pokemon Per esempio Budew Però noi non giocheremo mai di giorno Quindi questo è No esatto Infatti la mia idea era di Non entrare nell'erba Ma di aspettare un migliore amo Per utilizzare quella tozza d'acqua Si può fare Si può fare Può essere una bella idea Vediamo un po' Eh Perché la natura mite Ah la natura mite non cambia niente Docile Non è male Ci sono diverse nature Definite neutre Ah è neutre Perché appunto Non tirano su nulla E non tirano giù nulla Secondo me nell'avventura Non sono male C'è meglio di una natura sbagliata Ovviamente quella corretta Per le inclinazioni del pokemon È la migliore Però Allora questa È da segnarsela però Perché E chi se lo scorda E chi se lo ricorda Per sempre Dipende dal percorso 204 Bravo Prendi appunti Pozza d'acqua E insieme a due foglie E abbiamo anche una grotta Lago Perfetto Sì Perfetto E abbiamo anche una grotta Da esplorare Che ovviamente La grotta La grotta non me la segno Perché è tipo Davanti ai nostri occhi In un percorso Ok ok Mi riferisco proprio A cosine della Nuzlocke Che possono sfuggire Non necessariamente Non necessariamente ci saranno Delle grotte Obbligatorie Attenzione Ce ne saranno anche Di opzionali Quindi Bello Segna sempre tutto quello che vedi E hai il mouse Sullo schermo Che mi stai condividendo Oh Oh Pardon Non c'è più Ok Facciamo riposare la nostra squadra Adesso abbiamo Phalanx Joel Onsti Siphi E velocino Perfetto Siamo già a 5 pokemon Anche io Zubat mi amerà tremendamente Lo diterò Così tanto amore Che esplode Appena evolve in Golbat Non esiste Due livelli di Golbat Non esistono Non sono canon Allora Dunque Dove andiamo? Adesso dobbiamo andare Necessariamente A Est Andiamo a Est Yes Va bene Altra cattura Ehi Sub Non dimmi che ora Sei più forte Io C'è bisogno di chiedere Certo che sono più forte Dai Mettiamoci alla prova Oh no Oh no Vabbè dai Siamo in superiorità numerica Esatto Ah Starly contro Starly Eh Come dicevo Pericolosamente vicino Al mio livello Vai Joel Mamma mia Joel critta sempre Ah bravissimo Joel Ok Eccolo Chimchar Guarda quanto è convinto Oh ma Livello 9 Pericolosamente Stab Chi se ne frega Ok Ok Ho crittato di nuovo Bene Bene È fortissimo Joel Tra l'altro stai crittando Senza l'amicizia Cioè questi sono crit veri Oggi hai preso tutto Shinx con prepotenza Bravo bravo Vero veterano Barry Barry torna a casa Porca miseria Con le ossa rotte Oh Ma che succede Mi stai forse dicendo Che ho perso Guarda mi si morde il labbro Guarda che figlio di papà Con mille dollari in tasca Ah Vuoi dire che ho perso Cambieranno le cose E certo Evolverà Joel Farà ancora più critici Con l'amicizia E arriverà Velocino Questa è l'ultima volta Che perdo Diventerò l'allenatore Più in gamba del mondo Lo sa che ce la farò Prima di tutto Dovrò mettermi alla prova Nella palestra Di Mineropoli Mi allenerò duramente Per questa sfida Ok E Beh Ma qui abbiamo un esercito Di ragazzi Sì 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 Qui sono agguerriti Sto aspettando erba Erba Ok Ah un altro Sphinx Beh passo Questo con la regola Morbida Del professore Lo Sphinx Di livello 4 No no ma Conta che qui È giusta La regola è proprio Di tutte le Nuzloc Ah è di tutte Ah ok Se lo hai già catturato Skip e vai oltre Non l'hai perso È sempre così Cioè poi ovviamente Le Nuzloc Cambiano di giocatore In giocatore Ma io le ho sempre giocate così Non è a un ammorbidimento Perfetto Ragazzi è un muro Tartwig La vera La vera hard mode Noi marmocchi Lottiamo con Pokémon vivaci È per questo Che siamo sempre Pieni di energie Allora Attenzione Gianluca È finita Per te Ok Bidoof Che livello è Più alto del mio Vero Sicuro Sei bellissimo No ok Ho delle chance La chance migliore È non farlo combattere Vai Phalanx Io ragazzi Odio Barry Ufficialmente Mi sta Setappando 147 ritirate Ma va benissimo Sì ragazzi Per chi non lo sapesse Lo dico rispondendo A Stasso del miele Sanguisuga Era una vecchia mossa Da pochissimo Base power Che dalla settima generazione È diventata 80 Il sanguisuga è super forte Adesso Ah forza interiore Ha bloccato il Sì È una cosa nuova Dell'ottava gen Prepotenza Prepotenza era troppo forte A livello offensivo Proprio in competitivo Hanno messo alcune abilità Che la ignorano Come appunto Mente locale Anche fuoco dentro Mi pare che si chiama In italiano In nerfocus Qui ce ne sono diverse Che arriva sta cosa Boom baby Cazzo È un altro gioco Completamente così Ma hai sempre Un'altra sensazione Il fatto è che Pokémon Di base I percorsi Con questa meccanica Sono noiosi Perché sono Un blocco continuo Di cose che non sono Influenti Invece così Tutta l'esperienza Che fai è utile Tutta la cosa È bellissimo È chiaramente È un peccato Che sia Come dire Auto No È ovviamente È chiaramente È un peccato Ovviamente Però È speciale Sì Consigli utili Va bene Sì 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 Il numero Ah ma qui abbiamo Oh Ok Ah Zubat Ti ho già Vai Velocino Sgomento Chi la usa Attacca il bersaglio Mettendo un verso Terrificante Può farlo anche Tentennare Mi fido di te Dagli Vai di sgomento Mamma mia Non finisce più Siamo praticamente pari Va bene Vai Onosti No Non so Perché si chiama Nazlock Mi dico Si chiama Nazlock Perché È ispirata Da una Da un manga Diciamo Fanmade Nel quale Il protagonista Era un Nazleaf Se l'ha inventata Proprio lui Che Sì Ok Mi stanno Vedendo le scale E qui Un allenatore Eccoci Eccoci Esploriamo Tutto Io e il mio Pokémon Stiamo sempre Insieme Ora ti mostrerò Come abbiamo Legato Ti mostrerò Come spezzerò Quel legame Per sviluppare Il mangecchio Pokéball Ok vediamo un po' Cricketot Oh Quanto è bello Lui Elegantissimo Sì Tra l'altro Ci stiamo avvicinando Al momento Ok Ci stiamo avvicinando Al momento Ok Allora Non manca molto Per ora Stiamo facendo Una bella Introduzione Ragazzi Però Manca Il climax Di questa puntata Ma ci arriviamo Certo Certo Spero che non sia Coleottero Ok Lui Ha un po' La faccia Da Coleottero Vero Esatto Chiaramente È un insetto Vabbè Faccio Brute Force Non serve a niente A Brute Force Diciamo che qui Puoi notare Quanto il tuo Pokémon Sia bulky Nonostante Hai appena preso Una mossa Super efficace Non ti sei fatto Niente Potrebbe sempre Crittare Comunque il bastardo Eh sì Il crit fa Per 1.5 Ok Quindi il 50% Sì sì Sono ancora Sicuro Ma borderline Mentre Precedentemente Faceva il doppio Oh 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 Blu e rosso Era equilibratissimo Ok Ma guarda Fino alla Sesta generazione Credo sia stato così Cioè sesta esclusa Credo Se non sesta Quinta E questo rendeva Le Nuzloc Molto più difficili Ti credo Un'altra Perché il doppio tanto A tradimento Questa 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 è stato 3 Pokémon 3 Pokémon 3 3 3 Pippone Piuff Ok Ai 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 Fino alla quinta Inclusa Era per 2 Perfetto Ricordavo bene Vai Va bene ragazzi Lo rubo Rubo questo cricchetto Tiro una ball Sai che c'era Uno spin off Michele Di Pokémon Che Permetteva questa cosa Anzi è basato Su questa Meccanica Di rubare I Pokémon Agli avversari Dx Esatto Colossi Non l'ho mai giocato Ma ho sempre Voluto giocarlo C'era la cleptatrice Che era questa Questo guanto Che ti permetteva Di catturare I Pokémon avversari Che figata Goober impara Rotolamento Amici È importante Per Goober Rotolare Amici Prestenza Vai È un bel percorsino Questo è un bel percorsino Ah c'è anche Gianna Giusto Ma di là Quello gentino Ah Starly Ottima scelta Ragazza Ottima scelta Proprio brava Davanti a un elettro Smart choice Eh Shinx Credo sia Uno dei Pokémon Early game Più forti Figo Hai da subito La stab Hai la prepotenza Eh Mi dicono in chat Che Goober impara Roll latina Vett Cioè Rotolamento In realtà Il Roll C'è anche in Pokémon Ma non è quel Roll Te ne parlerò Durante la tua prima sfida Con un capopalestra Ok Sbloccherai dei tutorial Del professore Ti parlerò del Roll Mi è stata cambiata L'abilità del Pokémon In combat Che cosa vuol dire È permanente No Non è permanente Ah ok Ti ha fatto Worry Seed Non l'ho visto Ma credo che ti abbia fatto Worry Seed Che in italiano È affanno seme Affanno seme E ti ha cambiato L'abilità in insonnia Questa cosa significa Che per la fight Durante la fight Non hai più L'abilità originale Del Pokémon Fino alla fine O allo switch out Del Pokémon Fighissimo Queste mosse Sono molto importanti E addirittura In doppio In competitivo Vengono usate In combo Dal giocatore stesso Mamma mia Quindi magari Tu con un Pokémon Dai l'abilità Diversa A un altro Pokémon Alleato Cari Cavolo Machop è pericoloso Pokémon lotta Machop non è male Ah peccato Che non l'attacchi Olo Beh li troverai Cioè Li imparerà Velocino È il momento Di punire Per sempre L'avversario Machop evita L'attacco Sapevo che sarebbe successo Bastardo Forza Dai Velocino Ce la puoi fare Velocino Meriti questo momento È tuo Ti prego Oh Bella anche l'animazione Dai Sì 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 Non importa niente A questo punto Però posso Con lui confuso Rischiare E buttare city dentro Dai Dai È un Pokémon singolo Tra un sacco di punti esperienza Butta Butta Così acquisisci appunto Esatto Non è più confuso Ma che cosa Ho fatto Oh mio Dio La paura Fa 90 Perché Perché Che cosa Velocino Non l'ho chiamato Fortino Quindi Vabbè È giusto È solo veloce E come no Sakebro Volentieri Il cambio D'abilità In lotta Può aprire A degli scenari Interessanti Per esempio Facciamo un caso Di scuola Regigigas È un leggendario Che ha lento inizio Ha un'abilità Che Gli dimezza Le statistiche Per i primi Cinque turni In cui è in campo Se tu gli dai A fanno seme Addosso E quindi insonnia Sblocchi più velocemente Il potenziale Finale Ultimo Di Regigigas Quindi ecco perché A volte Puoi usare In combo Con te stesso Mosse che cambiano L'abilità Per rimuovere Abilità fastidiose Dei tuoi pokemon Che nerfano il pokemon Chiaramente Sono strategie avanzate Che in single player Non Sì certo Però Slacking Golisopod Ci sono tanti casi Ragazzi Sì esatto Eh no Il ragazzo Non è pronto Per sfidare la palestra Amici Non è pronto Per niente Calva Calva Con calva Sei contro la ragazza Giusto Sì Ok ok Simona teenager E vanda in campo Comunque Un Poderoso pokemon Devo dire Uno starly O togli Esatto Gala Abilità buone Come assorbacqua Gastrodon Che gli permette Di annullare Mosse acqua Insomma Ci fai tante cose Con Abilità Mosse Che tolgono Le abilità In combat Perfetto No no ragazzi Ho Non ho mutato Volutamente Il microfono Michele Può sapere Di queste cose Non mi preoccupare Sì Più che altro A me Vedere certe mosse Viene sempre Il dubbio Cioè C'è questa nuova Abilità Che si chiama Sottocarica Mi dicevi Ho letto Cosa fai C'è scritto Che aumenta Il potere Della prossima Mossa elettro Va bene Aumenta anche La difesa speciale Ma Prendiamo in Analisi Il fatto che A Pokémon Pokémon nuovo Attenzione Abra Lo voglio Devo lanciare La Pokéball Quickball Assente Dai Abra No Abra Abra Non scappare Hai trovato Abra Ho perso Abra Gli hai lanciato Una ball Sì Ok Eh vabbè Ciccia E tu non avevi fatto La tua prima cattura No quindi L'ho persa Esatto Quindi l'hai persa Cazzo 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 Allora Abra Ti avrebbe svoltato Il gameplay Amico mio Porca miseria Sì Esatto Era proprio Cioè come primo Incontro Abra Primo incontro Nuovo Abra È stato un bel momento È stato sì 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 È stato Abra è stato Un arslockato Eh sì 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 Però è stato un bel momento Peccato Che figata Eh sì Abra è tosto Abra è tosto RNG RNG Esatto RNG Ecco il meme Ragazzi Io lo trovo Ora che non serve Scommettiamo Che lo catturo Scommettiamo Perché non ci posso Fare un cazzo Il professore Otterrà Il labbra Davvero Sicuro È ovvio Perché non lo posso usare Perché non lo posso usare Ho già catturato Io qua dentro Ho catturato Uno Starly Di merda Nooo Ovvio Ovvio Era ovvio Era ovvio Che l'avrei catturato Ovvio Però questo significa Ragazzi Che posso comunque Catturarlo Se ricomparirà Come primo pokemon Altrove Ah certo Certo Mineropoli Ok Andiamo verso Mineropoli Amico mio Yes Esatto Sono stato punito Perché ho perso Lo Starly Di prima Oh Oh ma guarda Hai un Pokkron Non hai ancora Molta esperienza Come allenatore Vero Non fa niente L'importante È che anche tu Ami i pokemon Ti voglio fare Un regalo Eccoti delle belle MT Uh Ok Ah si Devi leggermi Il Pokédex Di Avra Come no Te lo leggo volentieri E non volevo interrompere Il tuo management No no L'MT98 Contengono la mossa Spaccaroccia A proposito L'MT ti permettono Di insegnare Una mossa A un pokemon In un attimo Dopo averle usate Però si rompono Quindi pensa bene Su che pokemon Le vuoi usare E visto che sei ancora Le prime armi Ti ho Anche aggiunto Una nuova funzione Al Pokécron Mossa MN Ok Che è ciò che sostituisce Le vecchie MN Esatto Non vanno più insegnate Ok Quindi non c'è più Appunto Il sacrificale No Grazie ad essa Puoi servirti Di spaccaroccia Per sbarzarti Dei piccoli massi Che ti intralciano Al cammino Quindi Backtracking Immediato Tuttavia Per poterla usare Dovrei ottenere La medaglia Della palestra Ah no Ne su backtracking Infatti Le mossa MN Diventano utilizzabili Solo dopo aver ottenuto Abbastanza medaglie Hai un futuro brillante Davanti a te Non vedo l'ora Di vedere Quanto bravo diventerai Ok Va bene Andiamo Avventuriamoci Io spero di trovare Zubat Qua dentro Finalmente Lo vorrei Sinceramente Lo preferirei A Petrus Ecco Chi c'è Chi c'è Eccolo il mio Eh questo Questo per te È nuovo Esatto Esatto Se non scoppia Ma non credo È per 4 La mossa Che gli stai facendo Ma non è stub Quindi la tiene nel giallo Perfetto Perché lui è rocciaterra Quindi Erba Lo prende per 4 E ora Sei mio Allora Ragazzi Io l'ho chiamato Petrus Io lo chiamerò In maniera Molto Inner Lavori Serie Di Mike Lo chiamerò Petrus Quinto Perché Ho fatto Una serie Di No death run Su dark souls Vari bla 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 Su dark souls 2 Senza morire mai Sì E E Diciamo che Nei try per riuscirci Arrivai a Petrus Quarto Quindi questo è Petrus Quinto Porca miseria Porca miseria Ah perché tu volevi far morire Giustamente Cioè volevi comunque Godere un pochino Morendo Perdi la run Ma almeno è morto Petrus Era questo il senso Sì Giusto Giusto In effetti Petrus Quinto Avrebbe senso Però i ragazzi Stanno spammando troppo Non riescono ad ascoltarle Sapete ragazzi Che mi piace l'autorialità Però avete ragione Avete ragione Non è possibile Non possiamo Non chiamarlo Havel Brava Va bene È giusto La roccia Havel la roccia Va bene E Vediamo un po' Havel Vabbè Sino Non deve essere distorto Perché lui è davvero una roccia Va bene Va bene Va bene Havel the rock Esatto Va super bene Noi allenatori di Pokémon Siamo sempre pronti Alla lotta Dovunque ci troviamo Va bene Ah giusto giusto Devo leggere anch'io Il Pokédex Avete ragione Sì 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 Ora lo leggiamo insieme Siamo presissimi Dalle botte qua Il leggino Oh no Scappa Zubat Porca miseria Fuggi da qui Eh sì Non è proprio The place you want to be Finalmente torna in gioco Falax Adori questo Falax Mamma mia Quanto ti piace Falax Rolloutino Rolloutino Bono Rolloutino Miazio Però oddio no Mi locco Crescita Provoca la crescita In merita del corpo E la mente dell'attacco E dell'attacco speciale Di chi la usa È come cuore di leone Ma è propria Dei Pokémon erba Perfetto Boom Molto bene Molto bene Mamma mia Ma che Bulchi Porca miseria Mmm Per ora E tra l'altro Non Sì 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 No no Ora sei super bulky Tu Ah per due Susata sotto il sole Ok Quanti punti di esperienza Oh ragazzi Ma che cos'è la Only Geodude Run Dio e anche Cristo Ho trovato solo Geodude Li sto chainando Tra poco lo trovo shiny Allora Vediamo un po' Pokédex Io sto giocando perla ragazzi Perché il ragazzone è a diamante E quindi Perla Esatto Perché poi succederà una cosa Una regola che ancora Lui non sa Oh Eh sì non la sai ancora Molti vivono sui sentieri montani E rimangono parzialmente sepolti Nel terreno A osservare gli scalatori E io invece ti dico che Appena trovo quale numero Quindi comunque Canonicamente i Geodude Non hanno nessun tipo di levitazione Sono No Ok Ok È impossibile distinguerlo dalle rocce Si scaglia contro i suoi simili Per vedere chi è più duro Che Chad Che figata E poi Abra E poi Abra Giusto Abra ha una storia particolare Ma per conoscerla Dovremmo evolverlo in Cadabra Io prima però Vorrei fare la mia cattura Qui se è possibile Spero che non mi faccia Mai più Pokémon Ragazzi And nobody came No no Guardare per credere Credo di aver fatto Un record mondiale Del numero di passi Fatti in una grotta Senza incontrare Un Pokémon selvatico Ragazzi Ragazzi Clippate E mandatelo A Masuda Perché veramente Non ci si crede Ragazzi 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 Cosa cazzo Sta succedendo Non c'è niente Ok Eccolo Record Ho la natura Ancora Geodos Basta Basta Natura vivace La tua natura Non è malissimo Non è malissimo Ok Difesa speciale Dai Ragazzi Si è rotto il gioco Non ci sono poste Vabbè Tanto ci ritorneremo Qua dentro Quindi Picnic girl Rip Elvira Tittiri Ah Inutile che mi sbatto Per questo Andiamo qua Vediamo un po' Vai Joel Critta anche contro di lui Mamma mia Joel Veramente MVP Di oggi Si Bene Il turno ha buttato Brava L'attacco del nemico aumenta Bottima idea Pudiu Beh Davanti a Joel Non si fa Ma anche perché È un misero livello 5 Prima i Bidoof Erano più forti Si Cioè dai Ah Psyduck Carino Psyduck Bello Antimeteo E beh Figurati Sei un po' urli Per fare queste strategie Eh Antimeteo È strategia Fortemente competitiva Però in doppio Diciamo che in singolo È meno Impattante Poverino Psyduck Porca miseria Non ha fatto niente E Goober Fa il 10 ragazzi Non male Velco il 9 Psyduck è il pokemon preferito Di Junichi Masuda Ah Bellissimo E amico mio Wow Siamo la prima città Ah Cavolo La prima vera città Sì Ehi allenatore Non hai neppure una medaglia Sei un senza medaglia Vai a morire in una fogna Gli altri allenatori In a ditch Somewhere In a ditch Gli altri allenatori Ti guarderanno dall'alto in basso Come se fossi le prime armi No È una tautologia bimbo Sono le prime armi Se non ho una medaglia Vieni Ti faccio vedere Dov'è la palestra Ah Proprio così Andiamo Andiamo Camminando come Gesù Esatto Mi hai incastrato Al movimento a quattro direzioni Ma C'è qualcuno lì Oh no Mamma mia Mamma mia Hai rotto due palle Hai detto due pokeball Oh sei tu Sam Ce l'hai fatta da arrivare qui Finalmente Lento come al solito Ci hai messo così tanto Che il capo palestra Se n'è già andato Ha detto che doveva andare Ah sì Alla cava di Mineropole Io ho già preso la medaglia Veracissimo Bereno 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 Rispetto bro Scusa Allora qui Mi permetto di guidare Anche per raggiungere il finale Sì d'accordo Andiamo alla cava Esploreremo il resto della città Magari All'inizio Della prossima puntata Ok Certamente Però senza Pokémon Center Io non vado in nessuna cava No 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 Prima vatti a curare Per l'amor di Cristo Vatti a curare Siamo in Unlock Però ecco Abbiamo varie case Da esplorare No no lo faremo next time Perfetto ok Esatto Lo facciamo proprio iniziando Ma che bello La prima puntata che finisce Con il party completo Sì esatto E tra l'altro Preparatevi Perché la prossima puntata Sarà una puntata importante E sarà mercoledì Giusto prossimo E sarà mercoledì Alle 21 e 30 Rimarremo sempre Mercoledì 21 e 30 Mercoledì 21 e 30 E sarà una Una puntata interessante Ecco Figo 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 Allora abbiamo un po' Andato Salvino Non si sa mai Giusto giusto Ok Tanto non ho bisogno di comprare nulla Questa è la cava Mineropoli No città energetica Aspetta Allora questa non è Sarà l'entrata La cava è a sud È a sud Vado Resisti Resisti All'esploro Resisto Resisto All'impulso Resisto All'impulso Tanto Tanto Prossima volta Sei liberissimo Yes Di esplorare Quello che vuoi Parliamo con tutti Cominciamo come se fossimo Arrivati qui Per la prima volta Ok Wow Carina Con loro se vuoi puoi parlare Ok Parliamo con i miratori Questa zona la facciamo tutta Qui siamo tutti orgogliosi Della cava Mentre noi siamo qui a chiacchierare Lì cercano carbone sotto il mare È incredibile come riescono a farlo In effetti Machop è forzato e bello nell'allenato Basta un chop chop E il masso è spaccato Va bene Appassionatissimo quest'uomo Stai visitando la nostra cava Fantastico Fai proprio bene È importante imparare nuove cose E allargare i propri orizzonti E soprattutto fare un lavoro vero La felicità è un po' che crona al corso Just mica come noi Siamo qui a scaldare la seggio Fa tutto il computer Allora Ok Ok Questa pira di sabbia è detta Un cumulo di scoria È ciò che rimane dall'estrazione del carbone È merda Sì esatto Guano Te l'ha venduta molto bene Ciao Fammi passare Non c'è dubbio È un lavoro molto molto duro È sovrattutto un lavoro vero E poi i pochi amore E questo basta darmi la carica Tieni prendi Ah che gente Evviva Level up È la prima volta che sono contento di una super pozione Vedi Vedi come ti cambia la prospettiva Questo modo di giocare Sei contento Sei un assetato in mezzo al deserto Tutto ti va bene Sì Ora abbraccio il minatore Tu sei davvero il re di tutti i re Tu sei mio amico Esatto Che tridimensionalità Attenzione Verticalità Oh Cristo ho trovato Zubat Finalmente Ah ma che qua si incontrano nemici C'erano dei pokemon Che sembravano delle rocce Che strani Tutti quelli che lavorano nella cava Hanno consigli dei pokemon E può capitare che ti sfidino Ah minch Quindi negligenti Oltre che Oh Attenzione Onyx Figo Minchia Bro Datti una calmata Vabbè qui in realtà Credo tu avessi tutti i pokemon Cioè Avresti avuto Zubat Geodud O Onyx Quindi in teoria Avresti potuto trovarlo Però credo io Di non averlo mai trovato Quanto è ragazzi In percentuale Onyx Fatemi sapere Io secondo me Tipo 10% Non ama la luce solare Pertanto si nasconde Nel fitto delle foreste Nelle grotte Fino al tramonto Questo ovviamente Ah che prima 10% No 10% Ok Immaginavo Oh no Velocino Stai bene? Velocino Velocino Aspetta Velocino Ti metto Bulky Funks Fa 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 Vulky Torna a casa Velocino Torna Tanta paura Tanta paura eh Aspetta che Onyx Fastidioso eh Mamma mia Ok In diamante perla originale Era il 2% Qui hanno aumentato Qui hanno aumentato al 10% Per Onyx Ok Ok Skulaku No no oggi è Skulaku proprio raga Skulaku Sì 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 Va bene va bene ci stiamo scambiando È proprio uno Anche il codice di gioco Sa che ci stiamo scambiando i ruoli È incredibile È incredibile Allora Fai dimenticare Chi sei Ah Onsty Ok d'accordo D'accordo Beh azione mi sa che ci salute Beh sì Azione è sempre la prima ad andarsene Esatto Se non mi ricordo male Nelle precedenti generazioni Ma non ti so dire quale In quale è cambiato Il lit rating Azione non aveva neanche il 100% di precisione Si muove sotto terra provocando scosse e boati Può raggiungere anche una velocità di 80 km L'orario Non poco Ok tu sei chiaramente Frampto Ah beh Perfetto 95 con in terza generazione Ovviamente ora sto trovando solo Zubat Va bene Lo accetto Mi può sta bene Anche in quarta dicono Ok È femmina E lo cambieremo in Frampto un giorno ragazzi Vabbè vabbè ma va bene anche Frampto Esatto Esatto Va benissimo perché comunque è bulki anche lui Lei Oh ma qui è raperintico eh Ricordati che anzi Non puoi ricordarlo perché non te l'ho mai detto Siamo in Dark Souls 2 Ixino pazzo sulle rocce rosse Ok Quelle grosse dici Quelle piccine Queste qua Ah quelle piccine Ok Ogni tanto fai Su quelle solitarie più che altro Ok Quelle che sembrano Che sono sospette Sì Qui non c'è niente Però ogni tanto un xino pazzo Daglielo Che in realtà qui è A Però per noi rimarrà sempre nel cuore Ixino pazzo Assolutamente Io Uso una pozione Mi spiace ma puoi fare ben poco Mason Vuole far la luce a Mason No ragazzi Il velocino merita amore Deve stare assolutamente Primo Finché è a livello così basso Domanda Nella Nuzlocke È permesso fare scambio Per fare evolvere? Se io vuole esistere Assolutamente sì Ah ok È fighissimo Assolutamente sì Sarò io il tuo Scambiatore Tutto quello che vuoi Ho incontrato questi matchup Sul percorso 207 Ok Grazie Delosissimo Masuda Sì sì Sono d'accordo Che pos'è Uh matchup Allora Veleno contro Veleno contro cosa era debole Veleno contro psico Ok Contro terra Ok 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 Beh Vai Joel È sopravvistuto per il rotto di una cucca Cos'è Cosa è una cosa Attenzione Oddio Joel Oddio Oddio No Joel No 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 ti ha crittato bro Joel È di full Perché Dovevi livellare Dovevi arrivare Era una terza evoluzione Ti ho livellato con così tanto amore Era un ragazzo che si stava applicando così tanto bene Ma con un colpo Spiedatissimo Ma perché ti ha crittato Sì Ti ha fatto vendetta vero Sì Allora vendetta è una mossa che funziona di più Se prima tu hai colpito Cioè si attacca dopo di te Quindi ti ha preso il bonus del double base power più crit Sei stato veramente sfigato Joel Joel Già lo vedevo Pronto Cazzo Va bene Porca miseria Che male al cuore Ok devo stare attento Ora sono terrorizzato No Il primo caduto Primo episodio Primo caduto Ragazzi che ridere che è Joel È il primo ad andare a sbloombo Sì esatto Ironia della sorte È vero È vero Joel è il primo a vincolare a sbloombo A sbloombo si vincola buttandosi in una pozza di merda Non c'è la gloria del fuoco No Ti rotoli nella merda di porco Sono senza parole Io sono senza parole Maledetto Hai ucciso Joel Anche imparerai a portare Qui non ci sono i xini pazzi Te lo dicevo giusto No no lo so ma Devo andare a seppellire Adesso vuoi andare a seppellirlo Puoi finire se vuoi Perché altrimenti ho un pokemon in meno in squadra Bravo bravo In realtà è un'idea intelligente Perché se appunto vai a depositarlo Puoi prendere un pokemon e fargli prendere experience Esatto Durante la cava È l'idea È l'idea Conta che Conta che Poi ci sarà il box portatile Quindi non avrei bisogno di questo casino Come mi dicono Chi di crit perisce Di crit perisce Sì Diciamo che non sei stato particolarmente Cioè fortunato adesso Ma sei stato molto fortunato Durante tutte le quattro ore ormai di live Che sono volate Mamma mia Sono quattro ore di live Sì sì è stata molto bella Che secondo me ci sono divertiti tanto Però È andata così Purtroppo Non credo abbia senso Tenersi fogliame Quando hai foglia lama E infatti togli fogliame Eh infatti Lui era il prescelto No Non è vero Perché ci potrà essere Joy il secondo Se riesco a sgamare Un'evoluzione della serie Starly Giusto Corretto Se tu trovi l'evoluzione di Starly Puoi prenderlo Eh 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 Sarebbe fighissimo Assolutamente Sembrano pochi minuti di live Bellissimo Vero? Vero ragazzi Sembra veramente che siamo qui da poco Invece siamo qui da quattro ore È una live lunga questa Quattro Ma inchia Secondo me le altre dureranno un po' meno Perché qui avevamo anche l'introduzione Molto lunga Beh qui c'è stata tutta l'intro Lo start up Ma certo E avremo intro di speculo Ma non come Dark Souls In tutte le live Credo Certo No no certo Oggi cosa vuoi speculare Per domani Niente Esatto Non domani Intendo per mercoledì Sì 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 Per mercoledì Sì 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 Prossimo Però ecco Ci saranno alcune live Invece che secondo me Si apriranno con un po' di Che bello Parole di Michele Perché Ecco ecco forse la terza Già ti do questi Questi hint Secondo me la terza Si aprirà con Tu che Parlerai di cose Ma che spettacolo Che spettacolo Mazzo ho fatto un passo Geodude calma Credo tu abbia un repellente Sì sì ma non userò mai I ragazzi I ragazzi che fanno i calcoli Io sono abituato a loro Perché chiaramente Pokémon è anche un gioco di calcolo Mi dicono che A tua discolpa Ok Ok A tua discolpa A discolpa della sfiga Della sfiga sì Il crit probabilmente è stato ininfluente Ah sì eh Prendendo il doppio Di Base power La mossa ti avrebbe Probabilmente ucciso lo stesso Eh ma Mi fa Mi fa impazzire il fatto Che un Pokémon Di così basso livello Avesse una mossa così Tosta Cioè Tronza Vendetta Porca Mossa veramente Stronzetta Sì Eccoci Mineropoli Adesso mamma mia Vabbè Goober ovviamente Se Quando monterai questo Devi mettere Cioè Questo è chiaramente Funerale Che torna a sblumbo Sì Una tristezza Pianto L'acqua E pioggia Esatto Ecco Devi fare così Con il rallenti E tutti i critici Che ha fatto Joel Ah Mi dicono in chat Che eri anche a meno uno Di difesa E per Ti ha fatto Full misguardo Ah Ecco È vero Quindi eri proprio Fottuto Eri proprio Finito Ah Joel Eccolo qua Joel Ma poi guarda come lo sfondo è proprio sblumbo Una puzza di merda accanto all'acqua Molto più grande dell'acqua Esatto Ok Perfetto Dai prenditi Eri Dai Esatto Non sarà Joel Ma è comunque Però Mitologicamente interessante Assolutamente Ok Corri 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 Tutti a sud Aspetta Strada in merda Dall'altra parte Esatto Compliment Come a Fire in Shrine Allora Esatto 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 Io ti guido Allora Ammazza Eh qui Vabbè È esperienza Eh ma infatti Non si butta via niente Cioè Sei Morto con Joel È un momento Sicuramente Triste Avere Subire la prima morte In Nasdaq Eh cavolo Non mi ricordo contro chi sono Contro Zubat Ok Mamma mia Ok Quattro ore Però vedi che si era creato Un legame Che senza la Naslock Non si sarebbe creato No esatto No ma infatti per me Joel era chiaramente Destinato alla Lega E non è andata così Non hai idea di quanti Io ne ho persi Così dicendo Vabbè questo ce lo portiamo Alla Lega raga E poi persi Nei modi più ignobili No Che dolore Eh già Eh già Eh già Eh già Eh tipo Venusaur Bravi I ragazzi Ricordano La morte Di un Venusaur Che io avevo visto Nella sala d'onore Già il suo nome È scritto La sua testa Sul monte Rushmore Per me c'era già Cavolo Venusaur È brutto Perderlo Eh In quella run Ho perso Tutti e due Gli starter Perché era X e Y E l'ho sottovalutata Molto come Nazlock Perché ho detto Ma tanto X e Y Sono facili Ok E a un certo punto Quasi rischiato Di perderla E mi ha salvato La run Furfrù Un Pokémon Completamente anonimo Che nessuno Si è mai cagato E che è diventato Uno dei miei Pokémon Preferiti Solo per quella run Che figata Ok Spostati Stai a guardare Usando Spaccaroccia Anche un masso Che ti blocca il cammino Sì Avrò letto ma Se riesci a ottenere La medaglia della palestra Che c'è qui in città Riuscirei a farlo anche tu Chiaramente Per vincere Devi battere il capo palestra Ah cioè me Lui è il tuo ultimo Il tuo ultimo sfidante Poi c'è l'oggetto E poi possiamo tornare indietro Ok Remo Ma che posizione Quella dei lavoratori Ma perché Del Chad Sì esatto È tipo Del maciste No Sì sì Ma che sono lavoratori E tra l'altro Come dicevi tu Hanno anche un lavoro vero Esatto Pillar man Esatto Sì 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 È molto Ai 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 Esatto Ciao Allora Bella l'è Prendi tutto Prendi tutto Non buttare via niente Vero starter Velocino ormai Vero Beh diciamo che con le Nazlock Intanto faccio ricerca di Shiny Con le Nazlock Ti affezioni di più a Pokemon Che normalmente vengono adombrati dallo starter Anche perché Assolutamente Non te lo auguro Ma Potresti perderlo Esatto Esatto Io credo di non aver mai portato Uno starter in fondo Ho fatto due Nazlock Sul canale E correggetemi se sbaglio Ma entrambe sono finite Con lo starter morto Eh E quella è Quella è la morte Che più ti colpisce Proprio E direi Cioè È l'immortale Non 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 Cioè Perdere lo starter È proprio Il momento più struggente Di una run Perché Pensi Cazzo Ma io Ma io con lui Ci ho fatto i primi passi Esatto Ti ricordo anche Visto che lo stai facendo Che puoi parlare Con gli allenatori Anche una volta sconfitti Sì A volte hanno linee di dialogo nuove No no ma infatti Lo faccio sempre Assolutamente Bra Io no in realtà Cioè io Mi sto sforzando di farlo Nelle ultime run Perché prima Non lo suspevo per niente Tendenzialmente Te l'ho detto I percorsi Sono stucchevoli Normalmente Perché Non offrono nulla Quando tu hai Sei pokemon E loro due Stronzi Cioè Quindi Ti scappa un po' la fretta Comunque adesso Possiamo tornare indietro E accingerci al finale Della live Che come avrai intuito È Oltre La palestra Di mineropoli Oltre le porte Della palestra Di mineropoli Perfetto Quindi Ci sarà la tua prima sfida La prima vera sfida Oh E Joel Non ci sarà E Joel Vabbè Vedrai che Joel Non è proprio una grande losso In questo caso No mi rendo conto Visto dove si trovava Al capopalestra Eh Che avendo Io penso In aver mai trovato Così tanti Geodude in vita RECORD 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 Sì Sì Dai 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 Sei riuscito a camminare molto Per essere Esatto Esatto Sono praticamente uscito E abbazza Geodude No ragazzi Gli Geodude Sono veramente Immortali Già il meteo Del meteo Del meteo Conosco veramente pochissimo Allora ora ti spiego Una cosa importante Ok La terra impesta È particolarmente importante In questo caso Perché i pokemon roccia Ricevono un boost Alla difesa speciale Se sono sotto terra impesta Solo i pokemon roccia Quindi Geodude Sotto la terra impesta È a più uno Di difesa speciale E anche E anche gli altri Anche gli altri roccia Sì Ok Assolutamente Quindi la terra impesta Tool molto importante Capisci bene Che Insomma Un Tyranitar Che come abilità Ha sabbia fiume Quindi si butta La terra impesta Da solo Entra in campo A più uno Di difesa speciale Fichissimo Questo rende Tyranitar Uno dei pokemon Più forti Di sempre Wow Ma anche Esposto Alla per 4 Debolezza Lotta Certo Bene Ci siamo Sono emozionato Vatti a curare Vado Godiamoci Questa splendida Ending Questo momento finale Mi raccomando Focus Focus Sì Focus Parla pure con gli NPC Se non l'hai fatto Quelli del centro pokemon Li facciamo adesso Ok Lo farò Ho tolto azione Per rotolamento ragazzi Allora Intanto Ti Erudisco Su un concetto Ma lo farò Dopo che hai letto I dialoghi Ah va bene Se vai al bancone Che si trova al piano superiore E parli con la detta a sinistra Potrai cambiare l'aspetto Della sala contatto Ma nooo Sei svirgolato Nella scale Vado Accendi il pc Presto un qualsiasi centro Di pokemon Seleziona pc Di Per depositare Di renderare Un pokemon Non c'è bisogno D'altro Sì Anche per buttarli A sbloombo Purtroppo Purtroppo Ok Ok Dimmi Allora Quello che ti volevo spiegare È che C'è il cosiddetto roll Nel calcolo del danno Di pokemon Cioè I danni Non sono fissi Sono variabili Di circa Un 15% Ah O in meno Ok C'è un'oscillazione Ok Rispetto al danno standard Ok Questo significa Che se un attacco Ti ha tolto 20 ps Va bene Sì Tu non sai Se quei 20 ps Che ti ha tolto Sono il massimo Che l'avversario ha fatto Il minimo O una via di mezzo Di conseguenza Nella nuzzlock Non dovrai mai ragionare Solo numericamente Ok Esattamente ragazzi L'attacco va praticamente Da 0.85 Da un moltiplicatore Di 0.85 A 1 Ed è random È un tiro di dadi D'accordo Cavolo Ok Quindi Qual è il Fatto Che quando tu vedi Un determinato Danno Proprio Matematico Hai perso 20 ps su 40 Non puoi essere sicuro Che il prossimo attacco Farà lo stesso Danno numerico Osserva bene A volte Osservare bene Quanti ps ti ha tolto È la soluzione Per capire Se per esempio Lasciare il pokemon In campo O switchare Certo Più attacchi ti fa Più tu sai Qual è la forbice Eh sì 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 esatto Esatto Li devi calcolare Ok Fantastico Fantastico Benissimo Allora Le mosse lotta Non mi ricordo Erano Forti contro roccia O no Cioè la roccia si rompe Con i puso Di poni Eh infatti Esatto Stavo pensando Stavo pensando a quello Non ho niente Di stab però Quindi non saprei Non so Però è attraente Perché questa palestra Mi puzza di roba Molto mineraria Diciamo Allora Vediamo un po' Io voglio molto bene A velocino Però Falax Ok E Va bene Alla fine Falax perderebbe L'abilità in futuro Cambiandola sicuro Perché Allora Vediamo un po' Dove è la palestra Mi sono perso Dovevo andare su A sinistra No Era anonima Era particolarmente anonima La palestra Qua su Ah no Sì è vero È giù Giù a sinistra Eccola là Ah sì Mi sembrava il Pokémon Center Sono un idiota Allora È l'ora È l'ora Sono le due per tutti Sì 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 Quattro ore e un quarto Palestra Pokémon di Mineropoli Pedro Ah Chiamatemi Pedro la roccia Ok Che ansia però Dai 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 Focus Ma Ok Ciao futuro campione Ah Ti ho invento ottimismo L'ho detto poco fa Anche a un ragazzo Molto impaziente Il campo palestra Usa Pokémon di tipo roccia Ascoltami bene Devi sapere che i Pokémon Di questo tipo odiano l'acqua E sono anche deboli Contro le mosse di tipo erba Hanno davvero un bel po' Di punti deboli Ma non significa Che tu possa abbassare Nella guardia Chi diventa capo palestra Sa anche compensare Le debolezze Dei propri Pokémon Inoltre ricorda Che affrontare Pokémon Di tipo roccia Con Pokémon di tipo fuoco Non è facile Accetta questi pochi consigli E grazie di avermi ascoltato Ok Va bene Quindi Allora tizio Quanto siete forti Perché hai evitato Di fare il giro largo E perché so È un coglione Perché devo livellare Esatto Bravo Questa è la risposta giusta Ok Yannick Ok Vabbè Poverino Mi sa che stavolta È come Bulbasaur Contro Brock Ok A meno che non ti tira fuori La fulbata La foglia lama È incazzatissima Bomba Ok Ecco perché non ho fatto Il giro Pezzente Frampto è salito Ho schippato il dialogo Di sconfitta In maniera spietata Ora capisco Perché non hai fatto Il giro largo Per me è canon Che l'abbia detto Allora Solo coloro Che vogliono vincere davvero Possono sfruttare Un capo palestra Ok Per ora Siamo a full HP Aspetta Ma io vedo Il mio stesso schermo What the fuck Ok Posto Geodude ancora Dai 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 Brutto colpo Non voglio vederla più Che la scritta Però Quattordi Mi sembra buona Onyx Io ho rischiato Proprio Le cose brutte No Sì 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 Io stavo facendo Il chad E subito Sono andato via Con il cazzo Tra le gambe Perché Non era il caso Di smutandarmi Ecco Ho provato A fare una chaddata E subito Mi sono ricredito Ti sei rimesso a posto So cosa vuol dire Mi sono rinanzippato Proprio il penis Rapido Hai puntato Le ambizioni A restare Sì 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 Perché guarda Ho rischiato Di prendere Ripluff È il mio Pipluff E renderlo Di nome Di fatto Ecco Senza Senza coraggio Ok Allora Salve Benvenuto Alla palestra Di mineropoli Io sono Pedro Il capo palestra Sono un allenatore Che ha dedicato La propria vita Ai pokemon Di tipo roccia In quanto capo palestra Il mio compito È quello di valutare Il tuo potenziale Di allenatore Per farlo Dovrò mettere alla prova I pokemon Che lottano con te Ah ok Dai Ci sei Mamma mia Prima sfida Ok Per te Sono pronto Tre pokemon A tre pokemon Ed è un tipo Molto Exploitable Come si vuol dire In early game Quindi Puoi farcela Beh Me la gioco safe Secondo me si Faccio lo stratega Allora Addirittura così Safe Va bene Eh L'ho trovata È un gioco di volo Va benissimo Va benissimo No 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 Ma fai bene Fai bene Ora sono Ora ho vinto Basta hai vinto Ragazzi Ho buffato troppo Devo farti Devo farti il pokédex Vai Riccio il scudo Oltre a A aumentare la difesa Se non ricordo male Aumenta anche la potenza Di rotolamento Ok Quindi se dovesse fare Rotolamento Ti farà male Rotolamento Aumenta di danno A ogni turno Ok ma È un attacco normale Se è un attacco normale Non speciale No È fisico È fisico no? Ok allora ho fatto bene Usare difesa x Ok Sono contento È stato utilizzato bene Uh Avel Ok Veloce Rimane Rimane nascosto Onix Ok No no Sono immortale Vai 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 Dai Non fare vendetta Paura di vendetta Adesso Ah ha messo Delle mine A terra Quelle lì Fanno danno All'ingresso Danno doppio Ai fuoco E ai volanti Ok Ora mi sa che velocino Dalla Joel Stavo a dire Joel Neh Ok No Ostia Ok E mo chi arriva Un altro Un mashup Incazzatissimo Pensi di poter sconfiggere Il prossimo Pogger Fammelo leggere Oddio È il Miniboss Diciamo Di questa Fight Ed è anche Il fossile Uno dei fossili Di questa Generazione Ok Ok No Non tentennare Falax Bevi una pozione Piccolo Bevi Presto Non puoi Tentennarmi Adesso Va bene Va bene Va bene Tanto non puoi Tentennare due volte Questa la so Anche aiuto Come regola Basta Un po' Quanto è veloce È pericolosissimo Te la boosti Te la boosti Bravo Mi piace sempre boostare Anche se so Che non dia Anche io gioco così Di solito Eh ma molto spesso È la classica cosa Che ti ho detto prima Di tuono shock No è meglio Cioè Meni due volte Fai di più Allora Attenzione ai crit Lo so Ecco Lui deve stare Attenso ai crit Puzzone Tra l'altro Foglie lama Hai crit ratio Ok Può critare più spesso Uh mamma mia Dai Uh city Oddio Ho critato Sono rimasto un ps Sono rimasto un ps Sono rimasto un ps Oddio Ma che finale Di live è Piplup Piplup Plotar Ragazzi è rimasto un ps Ma non era l'amicizia Perché quando è l'amicizia Esce fuori un cuoricino Ma ora è troppo presto No esatto Professore Mamma mia Ce l'ha fatta Il professore ha rischiato Di fare il rip lap Ce l'ha fatta Ho visto la vita Scendere velocemente E ho pensato This is it Esatto Ha crittato Hai finito la battaglia? Ah stai insegnando una mossa? Sì ma è un duplicato Vabbè Sì E che io aspetto a terminarla Così do l'experience Ai ragazzi che sentono La musica del capopalestra Finché non hai finito Ok Wow Ho sudato freddo È imbarazzante Ho perso contro un allenatore Che non ha neppure una medaglia No il fatto è questo È che in realtà In alcuni Pokémon Il discorso dei capopalestra Era più onesto di così Ti dicevano Io sono un allenatore Sono diventato capopalestra Contro di te Utilizzerò Pokémon adeguati Cioè in teoria Un allenatore Non punta tutto quello che ha Contro il ragazzo Che deve testare Nel manga è così Nel manga è esplicitamente così E i capopalestra Hanno vari set Eh ma infatti Che usano A seconda delle medaglie che hai Ecco 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 Se tu vai da lui per primo Ti usa il livello basso Se tu vai da lui per quinto Ma infatti Ma ha molto senso Sì 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 Tu hai lottato bene E io male C'è poco da fare Le regole della Lega Sono chiare Chi batte il capopalestra Riceve una medaglia Evviva Oh bellissimo Il porta medaglie Ti ricordi che potevi pulirle Puoi farlo ancora In touchscreen Ok ok Hai ottenuto la medaglia Carbone da Pedro Attenzione Questi aprono strade E abbiamo anche La possibilità Ricordati Di usare Spaccaroccia Esatto Infatti Si aprono strade Quello intendevo Ah sì sì certo Levito roccia Questa mostra Danege i nemici Quando scendono in campo E' quella di prima Poi prendi anche questi Sono i bolli Che uso io E che ci faccio Dei bolli Ancora non hai sbloccato La funzione È un flavor È fashion pokemon Ma ne parleremo Ok ok Le metti va bene Ok me l'hai già spiegato Cioè non tu ma Pedro Ok Vediamo come dice Nella regione di Sino Ci sono altri sette capi palestra Ti avviso Sono molto più forte di me Ok Tu Bravo del gioco La prima palestra È molto vicina E in realtà Le prime tre palestre Sono sorprendentemente dilatate Poi dopo il ritmo Comincia a incalzare Bene Meraviglioso Gran bel finale Accidenti Con questo finale Con io che vado a curare Riplap Che vedrà la morte Dopodomani Ma non certo Oggi Io vi ricordo Che il prossimo appuntamento È mercoledì Vi siete divertiti È stato divertente Diteci ragazzi Cioè considerate che L'idea Di invertire la veteran run E farla Su pokemon Era Una sfida difficile In realtà Stai avendo delle idee È bellissimo Sono stupefatto Sono troppo contento Secondo me Secondo me Verrà fuori una bella roba Contando che oggi Abbiamo fatto Il tutorial ragazzi Sì è vero Abbiamo fatto il tutorial E Credetemi La prossima puntata Credimi anche tu Mike Ti farà esplodere Il cervello Che tu nella prossima puntata Comincerei a dire Ma che Cazzo sto leggendo Ma che cazzo Di che cazzo si sta parlando qua E lì Cominceremo a sfiorare Il Il vero senso Di questa run Stupendo Oggi abbiamo fatto Top Oggi abbiamo fatto un bel po' Di tutorial Meraviglioso Meraviglioso Can't wait Grazie allora professore Di quello che hai fatto stasera È stato meraviglioso Un'introduzione Un'inizio Stupefacente Si gode Ci becchiamo Chi raidiamo? Diego Me l'ha chiesto Ah Diego Perfetto Anticipiamo il raid a Diego Perché ha una sorpresa Per i ragazzi Proprio stasera Ah Attenzione Va bene va bene E allora Raidiamo Diego Ragazzo Grazie mille Ci vedremo in realtà Parallela Dove sei tu A insegnarmi le cose Alla prossima Ciao Ciao Che figata Ragazzi Che figata Ragazzi Allora Aspettate Ok Ok Allora Allora Voglio assolutamente Che mi diciate Come è andata Sono elettrizzato È stata una bellissima esperienza Introduttiva Secondo me Incredibile Quanto funzioni E Tra l'altro Vediamo un po' C'era Nintendo Che quando mi ha inviato Pokémon Per fare questo progetto Mi ha chiesto Di evidenziare Delle cose del progetto Che non credo Per fortuna Non sono spoiler Che vi dico Per ringraziarli Perché non si può E non si deve Assolutamente In questa operazione Sottovalutare Il Compito e richiesta Perché sia l'uno Che l'altro E non si resiste Un'altra settimana Esatto Ma guardate Vediamo un po' Vabbè Ovviamente Quello che Il suo ruolo Di remake Lo abbiamo discusso Insieme Ed era perfetto Ci sono novità E miglioramenti Che abbiamo discusso Ovviamente Insieme ad altre cose Che sono dell'uno a uno Che discuteremo A loro volta Perché Fanno pensare A quello che potrebbero Fare in futuro Avrebbero potuto fare qui Per esempio Che è quello che Discutiva Saido Sono anche pronto Per Ello Infinite Non vedo l'ora L'8 dicembre I sotterranei originali Sono diventati I grandi sotterranei Rivisti ed ampliati Ed è possibile Trovare una novità segreta I rifugi Ok 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 Come le terre selvagge Fighissimo Ok Vedremo Vedremo Sshh Spoiler È stato inserito Il parco Rosa Rugosa Novità rispetto Agli originali In cui si potranno Incontrare i leggendari Ok Ok D'accordo Quindi Endgame È quello È quello Che Saido Non ha fatto Va bene Va bene Quindi neanche lui L'ha fatto Bellissimo Ok 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 Ci sono i Pokémon Che ti seguono Ci sono le super gare show Che sono state riviste Vedremo E poi va bene Ci sono cose di flavor Come customizzazione Di outfit Eccetera E di Pokéball Ma bellissimo No non mi sto spoilerando Mi ha chiesto Nintendo Di leggere questo documento Non possono Poverini Non mi sto spoilerando È finito È finito Sono solo queste cose Era per presentare tutto Non sono cose che ho fatto in live Ragazzi Grazie di cuore No non è spoiler Ma infatti Sono meccaniche base Di pubblicità Io vi mando da Diego Grazie veramente Ho già salvato Ho già salvato E Ditemi Velocemente Prima che io vi mandi a fare il raid Vi è piaciuto? Fantastico Bello Stupendo Fight Alla prossima ragazzi Grazie del supporto Non vi ho potuto ringraziare Ma siete stati tantissimi E ferocissimi Nel partecipare Adoro Vi ringrazio di cuore Percepisco tutta l'energia E il supporto concreto Che mi mandate A presto ragazzi A presto ragazzi